Bene, buongiorno a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale? Bene. Allora, riprendiamo i lavori da dove li avevamo interrotti ieri sera. Come ricorderete, l'assessore Toffolo ci aveva illustrato le osservazioni. No, scusate, allora do la parola al sindaco che me la chiede. Va bene essere presi dalla foga dei nostri consigli per il piano regolatore, ma partire oggi pomeriggio nel nostro consiglio senza fare almeno una menzione di quello che sta succedendo a Bruxelles credo che non ci sia possibile. E quindi dare la nostra vicinanza alla città, al Belgio, all'Europa e a tanti dei nostri concittadini che sono lì. Perché io ho fatto un breve censimento a vista. A parte le mie telefonate personali, visto il periodo della mia vita che ho trascorso lì, e insomma di gente, di giovani, di gente che lavora in modo permanente a Bruxelles, della nostra regione, della nostra città, ce ne sono tanti. E i messaggi che ci arrivano adesso, a meno di notizie particolarmente sfortunate, non ci risulta che ci siano vittime nostre. Però, vedendo che le notizie si aggiornano di minuto in minuto, voi capite anche il clima di così, di patema, di grande emozione che c'è nella nostra comunità. La nostra vicinanza, quindi, credo che sia in dubbia. Il livello nella città è ancora il cosiddetto, lo dico, livello 4, per cui le persone che sono andate a lavorare restano negli uffici, non possono tornare a casa, in attesa che qualche cosa venga poi chiarito. Ancora una volta, per l'Europa e per una città simbolo come Bruxelles, che ha fatto della sua accoglienza, della sua apertura, il vero simbolo, non solo del Belgio, ma del nostro modo di vivere, della nostra civiltà, è veramente simbolico. Credo che, quindi, il pensiero nostro, comune, sia non solo di vicinanza, ma di grande attenzione a tutto quello che accadrà. E certo, da un punto di vista così, dei nostri pensieri e delle nostre considerazioni politiche, questo farà parte di un tema che sicuramente verrà svolto nei mesi a venire, nelle nostre discussioni elettorali sicuramente, ma parlo a livello nazionale, cosa che ci auguriamo con la fermezza che adesso cose di questo tipo esigono. Grazie, signor Sindaco. Il consiglio è piccinato? Grazie, Presidente. Volevo ringraziare il Sindaco per le parole che ha detto. Grazie. Bene, grazie a lei. Allora, riprendiamo i lavori. Allora, vi ricorderete che ieri avevamo interrotto i lavori, dopo che l'assessore Toffolo aveva illustrato le osservazioni private, accorpate per gruppi, pertanto non state esaminate, le osservazioni del gruppo G, B, D, F, M ed E. Sono rimaste le osservazioni relative a C e ad A. Bene. Riprendiamo i lavori. E poi, vabbè, alla fine ne parleremo. Prego. Grazie, Presidente. E partiamo con la lettera C. La prima del gruppo C è la 58, Measso Gianvico. In merito alla BRU 51 chiede, 1. In via prioritaria che l'ambito BRU 51 ex UMI numero 01 del piano di recupero numero 14 di iniziativa pubblica di Largo San Giorgio, anno 2009, sia escluso dall'applicazione della obbligatorietà della perequazione di metri cubi 390, tenuto conto della necessità di procedere il più rapidamente possibile all'attuazione dell'intervento, senza dover ulteriormente attendere alla futura redazione del regolamento attuativo. 1. Accolta. Verrà eliminato l'obbligo della perequazione per tutte le aree BRU a seguito dell'accoglimento dell'osservazione numero 3. 2. Riassegnazione del volume come da piano di recupero di metri cubi 3.968 come da variante puntuale numero 5 UMI numero 1 del 2009. Accolta. Viene eliminata la richiesta pari a... Scusate, viene aumentato... Mi si è spento il computer. Perdonatemi un attimo. Non ci sono più i Mac di una volta, dice il sindaco. Vista l'aumento richiesto pari a metri cubi 68, si valuta che tale domanda possa essere accolta in quanto irrilevante rispetto agli obiettivi generali del piano. 3. Che il volume possa essere utilizzato su base volontaria e non obbligatoria, portando così il volume massimo complessivo realizzabile a metri cubi 4.328, cioè 3.968 più 390 per equativi. La volumetria premiante, aggiuntiva per equativa di metri cubi 390, viene a rappresentare un semplice appartamento di tipo bitri camere, non tale da giustificare un ulteriore ritardo, addirittura impedirne irrimediabilmente l'attuazione del piano. La numero 3 non risulta accolta, vedi punto 1, inoltre in contrasto con gli obiettivi generali del piano. 4. Nel caso in cui non venisse valutata positivamente la procedura del proposto, dovrà essere garantita la realizzazione di un adeguamento del marciapiede lungo via Beata a domicilla. È un refuso che è presente nella domanda del richiedente, perché si tratta di via Beato Dorico. Non viene accolta, le problematiche relative al marciapiede dovranno essere sviluppate all'interno del piano attuattivo. 5. In subordine, l'intervento verrà rivalutato al solo recupero e alla riqualificazione e manutenzione e ampliamento dell'edificio esistente non accolta, in quanto l'osservazione è subordinata ad una ipotetica risposta negativa dell'osservazione ai punti 1 e 2. passiamo alla successiva che è la C128 Immobiliare Nettuno SRL in persona del legale rappresentante Adria Frisang anche per conto di Zanussi Antonella, Cleade, Marzola e Giulia Tamai. Relativamente al PAC 72 chiedono 1. Lo stralcio della previsione del nuovo PRGC ed il ripristino totale delle previsioni ex-ante 1. Non accolta. L'indice complessivo è stato valutato in base alla situazione ambientale delle aree di nuova edificazione e tiene conto della necessità di ridurre al minimo gli impatti delle nuove costruzioni garantendo al contempo la sostenibilità economica degli interventi 2. In subordine, parziale nella misura massima concedibile alla disciplina urbanistica previgente 2. Non accolta per le motivazioni di cui è il punto 1 3. L'indice territoriale complessivo di 0,8 m3 su metro quadro è puramente astratto e teorico ma di fatto impossibile da realizzare nell'ambito considerato In vero, esso si compone di un indice territoriale di zona pari a 0,64 m3 su metro quadro e di un indice territoriale per equativo pari a 0,16 m3 su metro quadro 3. Non accolta per le motivazioni di cui è il punto 1 5. L'aver subordinato l'attuazione al PAC al meccanismo concorsuale viola i più elementari principi costituzionali di disponibilità della proprietà privata ai fini edificatori 5. Non accolta scusate, ho saltato 4 4. I credit edilizi potrebbero forse funzionare se congegnati come meccanismo premiale 4. Parzialmente accolta le previsioni relative alla perequazione e alla compensazione di cui l'articolo 53 derivano dalla necessità di garantire la sostenibilità degli interventi di nuova costruzione come ben specificato dal rapporto ambientale che ha trattato in maniera diffusa ed esaustiva questo aspetto rispetto al quale non sono state avanzate osservazioni L'amministrazione comunale ritiene tuttavia anche in relazione alle altre osservazioni ricevute nello stesso tema e dalla riserva regionale 7b di modificare parzialmente l'articolo 53 permettendo la realizzazione della quota volumetrica aspettante all'otto e all'attuazione successiva della quota volumetrica relativa alla quota pericottiva l'articolo 53 inoltre integrato pervedendo la possibilità di attuare l'intervento anche in assenza di crediti volumetrici che potranno essere successivamente acquisiti nel periodo di validità del piano attuattivo 5. L'aver subordinato l'attuazione del PAC al meccanismo concorsuale viola i più elementari principi costituzionali di disponibilità della proprietà privata ai fini edificatori accolta in quanto la realizzazione del PAC in oggetto non è subordinato ad alcun meccanismo premiale infatti tale meccanismo non risulta presente nella scheda il meccanismo premiale era un'ipotesi iniziale del piano che l'amministrazione ha deciso di non sviluppare passiamo alla C150 COPAT costruzioni SRL nella persona di COPAT marino relativamente al PAC 72 chiede 1. L'integrale stralcio delle previsioni del nuovo piano regolatore generale relativa all'ambito territoriale considerato PAC 72 di ripristino totale della disciplina urbanistica previgente 1. Non accolta in quanto in contrasto con gli obiettivi e le strategie del piano rispetto ai criteri stabiliti per le aree di trasformazione 2. La previsione dell'indice territoriale perequativo come misura premiale 2. Parzialmente accolta le previsioni relative alla perequazione alla compensazione di cui l'articolo 53 derivano dalla necessità di garantire la sostenibilità degli interventi di nuova costruzione come ben specificato dal rapporto ambientale che ha trattato in maniera diffusa e esaustiva questo aspetto rispetto al quale non sono state avanzate osservazioni L'amministrazione comunale ritiene tuttavia anche in relazione alle altre osservazioni ricevute sullo stesso tema e alla riserva regionale 7b di modificare parzialmente l'articolo 53 permettendo la realizzazione della volumetria propria di comparto 80% sull'80% dell'area L'operatività del restante 20% è subordinata al meccanismo perequativo che da realizzarsi mediante acquisizione di crediti ovvero mediante garanzie fidei ussorie L'articolo 53 bis disciplina inoltre la possibilità di attuare l'intervento anche in assenza di crediti volumetrici che potranno essere successivamente acquisiti nel periodo di validità del piano attuativo Fine delle C Grazie Assessore Bene Ci sono richieste di chiarimenti? Nessuna richiesta Pertanto possiamo passare al gruppo A Bene La prima del gruppo A è la 104 Giontella, Sabrina, Marini, Dario, Marzinotto, Paola, Negro, Michele, Vespo, Giuseppe rappresentanti del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone Gli osservanti fanno le seguenti considerazioni 1. La fase prepedeutica non è il risultato sufficiente per dimostrare il piano partecipato Non accolta Si prende atto del parere dell'osservante tuttavia la procedura messa in atto dall'amministrazione comunale sia per le modalità utilizzate che per il numero degli incontri effettuati ha permesso a tutti i cittadini interessati di esprimere parere, opinioni e suggerimenti Nei molti documenti pervenuti ed utilizzati dall'amministrazione comunale per mettere a punto le direttive che hanno fornito gli obiettivi per le misure del PRGC non risultano in particolare interventi che abbiano sollevato questa specifica problematica né che abbiano suggerito modi o forme alternative per svolgere in maniera più efficace il processo partecipativo A questo proposito si rimanda ai contenuti della dichiarazione di sintesi dove in maniera puntuale e dettagliata sono illustrate le procedure partecipative di soggetti che vi hanno preso parte 2. La componente strutturale deve risultare più attinente al piano operativo deve essere una sua specificazione e non un'alternativa 2. Parzialmente accolta pur sottolineando che la componente strutturale ha inequivocabilmente il compito di delineare politiche ed azioni che hanno un arco di tempo temporale maggiore di quello introdotto nella componente operativa a parziale accoglimento dell'osservazione verrà integrata la componente strutturale in modo che siano più evidenti ed univici rapporti con la componente operativa 3. La relazione di flessibilità deve essere più specifica 3. Parzialmente accolta a parziale accoglimento dell'osservazione in oggetto la relazione di flessibilità verrà integrata in modo da eliminare eventuali margini di indeterminatezza 4. La VAS non considera tutte le modifiche che vengono proposte sul territorio inoltre la VAS risulta inutile in quanto non assume un valore preventivo e propositivo in quanto le prescrizioni sono dichiarate dal nuovo PRGC di valore indicativo 4. Non accolta il rapporto ambientale che insieme al PRGC costituisce il documento che danno origine alla procedura di VAS ha analizzato in dettaglio gli impatti diretti e indiretti derivanti dal piano svolgendo anche valutazioni di confronto rispetto ai vari scenari proposti durante la procedura di VAS non sono emerse critiche a questo riguardo ed i pareri degli enti con competenza ambientale hanno valutato positivamente il documento 105 A. Ance Pordenone Ance Pordenone formula le seguenti osservazioni 1. Il contingentamento annuale della quota di aree libere da edificare è un meccanismo che introduce fonti di incertezza e non offre agli operatori economici sufficienti elementi per una programmazione finanziaria inoltre induce una eccessiva rigidità 1. Parzialmente accolta 1. In contingentamento annuale della quota di aree libere ed edificabili è un meccanismo che è stato ipotizzato in uno degli scenari elaborati inizialmente per meglio valutare i criteri da utilizzare per raggiungere la sostenibilità del piano 2. Nella versione finale del piano anche in relazione alle considerazioni avanzate dall'osservante durante le diverse riunioni effettuate questo meccanismo non è stato utilizzato 2. Evidenza l'indeterminatezza in dubbia di dubbia legittimità del riferimento alle diverse opportunità che si profilano per definire la quota di contingentamento 2. Parzialmente accolta per le motivazioni di quel punto 1 3. Relativamente al meccanismo concorsuale rileva una indebita commissione di piano assolutamente illegittima 3. Parzialmente accolta per le motivazioni di quel punto 1 4. Non tutti i parametri di qualità degli interventi risultano essere collegati al punteggio certo non consente di valutare in anticipo la fattibilità degli interventi e da ciò ne deriva una grande violazione dei diritti edificatori dominicali 4. Non accolta i parametri individuati dal PRGC relativamente alla qualità degli interventi offrono agli operatori una varietà di possibilità operative in relazione alle specifiche esigenze del singolo intervento previsto esiste quindi un'ampia possibilità di intervento avendo la matematica certezza del punteggio attribuito nell'ampio ventaglio della possibilità offerta per raggiungere i requisiti minimi per l'intervento sono previsti anche interventi che per loro natura hanno diversi gradi di attuazione anche in questo caso tuttavia non esistono dubbi di parzialità in quanto è l'operatore ad avanzare le specifiche proposte mentre l'amministrazione aspetta il compito di svolgere le opportune verifiche come del resto avviene da sempre per tutti gli aspetti riguardanti le proposte contenute in un piano attuattivo 5. Alcuni criteri di concorsualità di quell'articolo 42 delle NTA appaiono incongrue 5. Parzialmente accolta per le motivazioni di quel punto 1 6. In riferimento alla relazione generale a pagina 241 all'articolo 53 delle NTA osserva che la possibilità di sviluppare la volumetria che aspetta l'operatore subordinata all'acquisto dei diritti volumetrici si configura quale ulteriore ostacolo alla via dell'operazione immobiliare esiste il rischio reale dell'impossibilità di acquisire i diritti volumetrici e tale condizione comporterebbe l'inedificabilità di tutte le aree libere i meccanismi di iperequazione e compensazione dovrebbero essere introdotti in chiave di premialità i privati e proprietari di diritti volumetrici hanno la facoltà e non l'obbligo di vendere tali diritti condizionando le possibilità di intervento degli operatori economici 6. Parzialmente accolta le previsioni relative alla perequazione e alla compensazione di cui l'articolo 53 derivano dalla necessità di garantire la sostenibilità degli interventi di nuova costruzione come ben specificato dal rapporto ambientale che ha trattato in maniera diffusa ed esaustiva questo aspetto rispetto al quale non sono state avanzate osservazioni l'amministrazione comunale ritiene tuttavia anche in relazione alle altre osservazioni ricevute sullo stesso tema alla riserva regionale 7b di modificare parzialmente l'articolo 53 permettendo la realizzazione della quota volumetrica aspettante all'otto e all'attuazione successiva della quota volumetrica relativa alla quota perequativa l'articolo 53 verrà inoltre integrato prevedendo la possibilità di attuare l'intero intervento anche in assenza di crediti volumetrici che potranno essere successivamente acquisiti nel periodo di validità del piano ottoattivo 7. Con riferimento all'articolo 53 dell'NTA l'osservante pone una questione di natura fiscale e tributaria in particolare chiede su quale base imponibile verranno pagate le imposte 7. Non accolta la legislazione fiscale e l'espressione di pareri in merito ad essa esula dell'attività pianificatoria a questo riguardo l'amministrazione comunale ha valutato che la tecnica perequativa è legittima ed espressamente prevista dalla legge dello Stato oltre che essere applicata correntemente da molti anni nel territorio italiano 8. In conclusione esprime le seguenti considerazioni a. Le previsioni del piano rendono costosa e incerta la sua realizzazione a. Non accolta, si tratta di un'opinione dell'osservante b. Molti dei criteri di concorsualità comportano un aumento di costi di costruzione e un aggravio dei costi legati all'obbligo di acquisizione dei diritti volumetrici b. Non accolta, come già sottolineato il punto 1 la concorsualità non è prevista nella normativa del PRGC c. Il piano rischia di portare ad una paralisi dello sviluppo urbano della città c. Non accolta, lo sviluppo urbano è da anni in uno stato di paralisi che sicuramente deriva dalla crisi finanziaria ma che può essere stato aggravato anche dei modi in cui sono stati realizzati gli interventi di nuova costruzione nell'ultimo decennio questo aspetto risulta in particolare dal processo partecipativo che si è svolto preventivamente alla stesura del piano e che ha messo in luce l'eccessiva edificazione avvenuta nel decennio e le necessità di rispondere ad uno sviluppo più sostenibile tali considerazioni sono state svolte dalla maggioranza dei cittadini coinvolti nel processo partecipativo e da questo riguardo non ci sono state prese di posizione di altro tipo si ribadisce che le azioni principalmente rivolte alla rigenerazione e riqualificazione urbana e del tessuto edilizio esistente proposte e individuate nel nuovo piano regolatore di Pordenone risultano allineate rispetto a quelle evidenziate da ANCE nazionale e regionale il programma riuso ormai è arrivato alla release numero 5 e frutto delle sinergie tra Consiglio nazionale, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ANCE e Lega Ambiente parte dalla consapevolezza che il territorio non costituisce una risorsa infinita e che la città debbono essere capaci di ricostruirsi dal proprio interno sempre ANCE nazionale sottolinea da anni come sia impellente ripensare alle politiche di espansione territoriale che hanno caratterizzato il passato orientandosi verso il riuso e la riqualificazione individuando specifiche misure normative ma anche definendo strette relazioni tra rigenerazione e contenimento del consumo di suolo l'amministrazione è fermamente convinta di aver affrontato queste tematiche e di aver individuato delle modalità di attuazione in linea e coerenti con quanto sollecitato dal dibattito nazionale e regionale ultimo punto il piano è incongruente rispetto all'obiettivo di creazione di un'area vasta la particolare conseguenza dell'eccessiva onerosità degli interventi potrebbe essere la difficoltà di attrarre nuove e rilevanti funzioni produttive e commerciali e la concorrenza insediativa dei comuni circostanti non accolta il piano risulta coerente rispetto alla necessità di relazionarsi in maniera cooperativa con i comuni dell'intorno urbano per sviluppare processi condivisi di rigenerazione urbana tali processi richiedono innanzitutto che ogni comune pianifichi il suo territorio in maniera sostenibile da questo punto di vista la competizione a cui allude l'osservante dovrebbe essere indirizzata a migliorare la qualità degli insediamenti e non certo a perseguire le politiche che negli anni passati hanno visto i comuni competere riducendo la qualità dei propri interventi edilizi e alla tutela dell'ambiente 106 sempre A ordine degli architetti della provincia di Pordenone per firma del presidente architetto Pierini e ordine degli ingegneri della provincia di Pordenone a firma del presidente ingegner Natalucci questa osservazione è divisa in sottocapitoli quindi leggerò prima il titolo del sottocapitolo e poi i punti relativamente alla relazione di piano chiedono capito aumento della sicurezza del sistema urbano riferimento pagina 81 intervenire presso l'autorità di bacino per una revisione dei calcoli delle onde di piena dei bacini del Benuda e del Cellina e per l'esecuzione delle opere strutturali di laminazione delle piene previste sui bacini montani 1. Non accolta la risposta viene fornita dall'ingegner Nicolini le analisi numeriche di tipo idrometrico ai fini della pianificazione non sono da equiparare alle simulazioni numeriche volte a riprodurre eventi reali il modello può essere caribrato solo su uno specifico evento ma non è vero che l'evento debba rappresentare il futuro di riferimento per l'attività pianificatoria chiedo al consiglio se va bene che faccia un riassunto delle risposte tecniche degli ingegneri Nicolini e contratti che avete completamente nelle vostre schede ma che sono abbastanza lunghe in fase pianificatoria si è stabilito di effettuare analisi di sensitività sulla scabrezza essendo le condizioni di contorno presso il ponte Meduna e la confluenza Meduna-Loncello vincolate dai dati ottenibili in termini di portate e livelli della simulazione effettuate dall'autorità di Balcino i valori più cautelativi e alta scabrezza sono stati assunti come base per la perimetrazione delle zone allagabili come uguali ai valori e risultano essere uguali ai valori del professor Caroni e dell'evento alluvionale del 2010 e dello studio sull'asta del noncello del dottor Aprilis del 2013 non è detto che l'evento del 1966 costituisca l'evento più gravoso che in futuro non sarà mai superato è da considerare quindi anche la risposta attuale che avrebbe il territorio a fronte degli stessi eventi avvenuti in passato in altre parole a fronte dello stesso evento pluviometrico del 1966 la risposta in termini di idrogrammi di piena potrebbe essere ben più gravosa le attuali tendenze climatiche sono inoltre tali da ridurre i tempi di ritorno degli eventi storici registrati assunti come normalmente riferimento per la progettazione punto 2 riferimento pagina 81 80 durre ridurre i tempi di ritorno per il dimensionamento della rete fognaria e richiedere al comune di investire risorse 2 non accolta sempre l'ingegner Nicolini tale osservazione potrebbe essere scaturita da una non chiara interpretazione della zonizzazione delle aree a diversa sofferenza idraulica mappate nella relativa tavola di piano i colori non rappresentano infatti esclusivamente l'insufficienza o meno del sistema di drenaggio ma sono da considerarsi come la sintesi di alcuni indicatori irrelazionabili al concetto di sofferenza idraulica impermeabilizzazione delle aree capacità di coinvolgimento del sistema fognario caratteristiche geologiche dei terreni conducibilità idraulica presenza di falde elevate eccetera il modello dimostra come il sistema non sia caratterizzato da insufficienze diffuse pur presentando criticità localizzate di alcune aree le zone mappate in rosso sono quindi da intendersi come zona ad alta sofferenza idraulica per le quali oggi ogni intervento che induca un'alterazione significativa del regime dei diflussi deve prevedere azioni di mitigazione da realizzarsi esclusivamente con vasche di laminazione nelle zone a bassa sofferenza idraulica invece è possibile adottare misure di compensazione che contemplino anche l'infiltrazione delle acque sul suolo tre riferimento pagina 95 modificare i contenuti del piano in relazione alla trasferibilità dei diritti volumetrici collegati alla criticità locale tre parzialmente accolta all'interno del capitolo 17 le invarianti sono illustrati i temi e gli obiettivi principali che risultano alla base del progetto del nuovo piano regolatore il tema della sicurezza diventa un elemento imprescindibile nel disegno del nuovo sviluppo della città ed è determinante per la definizione di una pordenone sostenibile l'azione di trasferimento di volumetrie negli ambiti di criticità locale assume una valenza di indirizzo che viene valutata nella costruzione del piano da approfondire come possibilità all'interno delle specifiche azioni e seppur non declinate in azioni di piano operativo viene mantenuta come possibilità all'interno delle politiche di organizzazione urbana subordinate a specifiche varianti future da valutare in relazione all'attuazione degli interventi di trasformazione urbana verrà invece stralciata la parte riguardante i terreni soggetti a possibile liquefazione a seguito di specifiche riserve regionale quattro riferimento pagina 95 manca una specificazione sul tema della riqualificazione in termini sismici del patrimonio edilizio esistente non accolta nella fase iniziale di costruzione del piano regolatore generale è stato valutata la possibilità di utilizzare gli incentivi volumetrici per favorire la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente rispetto alla tematica sismica gli incentivi volumetrici in quanto limitati e dimensionati rispetto alla sostenibilità degli interventi sono risultati insufficienti per sostenere politiche efficaci per tali interventi quindi pur riconoscendo l'assoluta necessità si dovranno definire incentivi di tipo economico e o fiscale che esunano dalle competenze dello strumento pianificatorio cooperazione sovracomunale 5. riferimento pagina 96-97 indicare le strategie di area vasta sottoscritte dalle parti interessate 5. accolta come noto il PRGC non può determinare azioni pianificatorie che esulino del territorio comunale Pordenone riconoscendo la necessità di creare una governance finalizzata a definire un sistema coerente tra le diverse competenze amministrative ha intrapreso e promosso azioni di coinvolgimento finalizzate a sensibilizzare e informare diversi comuni di fascia che definiscono il medesimo sistema territoriale individuando macro azioni di interesse sovracomunale che possono essere condivise e attuate in un'ottica non esclusivamente comunale tali azioni sono stati oggetti di specifici tavoli di approfondimento con i referenti dei comuni limitrofi e tutte le azioni contenute nel piano sono state illustrate e approfondite in tale occasioni il piano quindi sebbene si sia limitato come previsto dagli obblighi di legge a disciplinare il territorio comunale ha intrapreso azioni che possono essere estese ad un ambito territoriale più ampio e che non fossero in contrasto alle discipline pianificatorie già intrapresa degli strumenti sovraordinati dei singoli obiettivi di sviluppo dei comuni limitrofi si segnala che seppur allo Stato di fatto non si siano delineati protocolli di intesa tra i diversi comuni dell'area di Pordenone si sono svolte alcuni incontri di confronto su specifici temi di interesse generale il 16 dell'11 del 2012, il 3 del 7 del 2014, il 13 dell'11 del 2014 e il 23 del 9 del 2015 contenimento del consumo di suolo 6, riferimento pagina 98-99 riformulare gli scenari affinché contengono indicazioni specifiche per la rigenerazione di aree urbane 6, non accolta come già ribadito all'interno della risposta dell'osservazione scritta degli ordini degli architetti ingegneri del 2 febbraio 2015 gli scenari non rappresentano tre alternative complete di piano ma simulazioni utili a meglio comprendere le problematiche connesse alle trasformazioni urbane al fine di valutare gli indotti di diverse politiche di sviluppo su cui redigere il rapporto ambientale fornendo un quadro di alternative di riferimento i tre scenari rispondono in modo differente ai diversi obiettivi contenuti nelle direttive e in tutti e tre gli scenari sono contenute alcune macroazioni specifiche sulla rigenerazione urbana si ritiene che la funzione degli scenari sia stata efficace e se ne riconferma la validità salvaguardia ambientale 7, pagina 100 modificare il meccanismo dei crediti volumetrici conseguenti alla rigenerazione del patrimonio ed edilizio esistente in modo da far sì che gli incentivi possano essere riconosciuti in un rapporto al raggiungimento di precisi obiettivi 7, accolta il sistema di attribuzione dei crediti edilizi è concepito come un meccanismo per la riqualificazione del tessuto ed edilizio esistente che di fatto ha un impatto ambientale sul tema urbano secondo un criterio proporzionale rispetto alla riduzione degli indotti e alla riduzione delle criticità locali il piano adottato rinviava le specifiche regolamentazioni dei crediti ad un successivo regolamento anche a seguito di specifica riserva regionale sono dettagliati a livello normativo i criteri a cui verranno legate le assegnazioni dei criteri volumetrici 8, incremento valori ecosistemici pagina 101 esprimere la sostenibilità e la perseguibilità delle scelte della pianificazione della piantumazione come unico criterio per il miglioramento della performance ecosistemiche implementare la quantità di giardini scolastici 8, parzialmente accolta la piantumazione è uno strumento efficace per incrementare da subito il valore ecosistemico delle aree sia che esse siano di natura pubblica che privata le politiche di piantumazione rappresenta solo una delle politiche attuabili e non sostituisce le altre possibili azioni che investono le aree urbanizzate consolidate come la creazione di corridoi ecologici l'incremento delle superfici piantumate all'interno dei servizi pubblici le politiche specifiche di piano tendono quindi a mettere tra loro in sinergia le componenti verde pubblica e privata al fine di ottenere un beneficio ambientale senza comportare un incremento delle spese di gestione a carico dell'amministrazione 9, valorizzazione del verde privato, pagina 101 esprimere precisamente le politiche di gestione del verde in città in luogo della premialità definire politiche tese alla condivisione dei servizi potature, prelievo degli sfalci e fornitura delle piante 9, non accolta le modalità di gestione del verde pubblico e privato sono tematiche di grande interesse per il funzionamento della città e se ben strutturate sono capaci di risolvere determinate criticità locali ma tale aspetto non è di competenza del piano regolatore comunale ma di piani di gestione e specifici regolamenti comunali strumenti attuativi e normativi più snelli che possono essere più facilmente modificati alla luce di nuovi obiettivi ed opportunità che si possono delineare si segnala che alcune azioni di riqualificazione sul sistema dei servizi degli spazi residuali possono essere attuate dai soggetti attuatori di ambiti di trasformazione come misure compensative per garantire la sostenibilità degli interventi secondo le modalità contenute all'interno dell'articolo 49 delle norme di attuazione del piano regolatore generale in relazione al verde privato invece il piano definisce all'interno della componente operativa alcune politiche di salvaguardia e potenziamento ecosistemico finalizzato al miglioramento complessivo della sostenibilità ambientale valutata all'interno della VAS tali prescrizioni non sono quindi viste in un'ottica di disegno urbano ma di consolidamento e miglioramento del sistema ambientale urbano e limitato alle sole porzioni del territorio strategiche per la riconnessione ecologica corridoi ecologici urbani e la diminuzione degli impatti esistenti fasce infrastrutturali a tutela del benessere dei cittadini e della salute pubblica tali ambiti rimangono esclusivamente di competenza privata sia dal punto di vista gestionale che di utilizzo e funzione alcuni aspetti riguardanti gli usi del verde privato sono ricompresi tra le diverse azioni attuabili per il raggiungimento dei requisiti prestazionali minimi per la sostenibilità degli interventi nelle aree di trasformazione disciplinati dall'articolo 49 delle norme del nuovo piano regolatore articolo 10 no punto 10 aree agricole pagina 102 si chiede che vengano indicati precisamente i criteri e i passaggi operativi attraverso i quali le zone a filtro poscato a nord sia realizzabili quali siano le risorse operative e collettive che si dovranno impiegare alla voce incentivi economici 10 parzialmente accolta si concorda con la considerazione generale dell'osservante che mettono in risalto la complessità degli interventi legati al riconoscimento dei servizi ecosistemici rivolte all'agricoltura per questo motivo il piano ha innanzitutto l'obiettivo di evidenziare le problematiche ed elencare una serie di politiche per affrontare anche all'interno di processi pianificatori queste problematiche nel piano regolatore generale comunale il piano suddivide gli ambiti agricoli in diverse subzone in relazione agli obiettivi di salvaguardia e potenziamento del loro valore intrinseco di tipo ambientale che rappresentano all'interno del sistema territoriale le azioni sempre possibili rispetto alle diverse norme zonali saranno definite in relazione a specifici bandi e manifestazioni di interesse da modulare nei tempi rispetto alle diverse esigenze del territorio disponibilità di finanziamento e da concordare con le categorie di settore 11 nel capitolo degli scenari scenario 01 rigenerazione urbana pagina 104 chiede che lo scenario venga riscritto chiarendo le modalità di messa in sicurezza sismica degli edifici quale requisito per partecipare al meccanismo premiale precisano che i costi sono inavvicinabili per la maggior parte dei casi 11 non accolta la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente rappresenta una problematica di grande interesse lo scenario quindi include all'interno degli incentivi un bonus volumetrico a compensazione degli oneri di messa in sicurezza degli edifici privati tale azione non è stata ricompresa all'interno delle azioni di compensazione dalla componente operativa e quindi cogente in quanto le volumetrie generate per rendere economicamente sostenibili gli interventi avrebbero determinato un incremento considerevole delle capacità insediativa di grande impatto sul sistema ambientale e infrastrutturale di fatto non sostenibile si rafferma infine che gli scenari hanno costituito la parte iniziale del piano ed avevano lo scopo di condurre una valutazione delle politiche ed azioni in grado di garantire la sostenibilità del sistema urbanistico si sottolinea inoltre che l'individuazione delle criticità del territorio è un obiettivo fondamentale del piano e che deve essere svolto anche se le azioni per la soluzione delle criticità individuate esulano delle possibilità di azioni del piano stesso 12 chiede che vengano indicate le relazioni le relazioni tra i piani attuativi contenuti nelle aree R e che venga definito il carico urbanistico determinato dall'indifferenziato ampliamento del 30% dell'esistente in termini di dotazione di infrastrutture 12 non accolta come esplicitato a pagina 13 della relazione di flessibilità i criteri di intervento all'interno delle zone R riportate nello scenario 0-1 non sono definiti nel piano operativo ma l'attuazione è subordinata a una successiva variante da redigere a seguito della prevista decadenza del piano casa evitando così sovrapposizione di incentivi e valutando la situazione reale data dall'indotto dell'applicazione della legge stessa in termini di impatti sulle infrastrutture e servizi abitanti insediati o insediabili rispetto a quanto contenuto nello scenario 0-1 l'incremento urbanistico in termini di volumetria è stato calcolato in misura percentuale al volume esistente e insediato e alla fattibilità strutturale e insediativa sull'otti oggetto di riqualificazione è riportato all'interno della relazione e delle relative le tale vole illustrative la diminuzione della distanza tra gli edifici in coerenza a quanto previsto all'interno del codice civile è una possibilità che deve essere valutata all'interno di un piano di dettaglio anche rispetto alle specificità locali 13. Proporre alternative immediate immediatamente praticabili istante la concomitanza attuale al piano casa 13. Non accolta lo scenario ha lo scopo di valutare alcune possibili azioni rispetto agli obiettivi previsti lo scenario 0-1 deve confrontarsi necessariamente con il sistema legislativo ora in vigore per tale ragione allo stato di fatto le politiche previste seppur sostenibili non sono state tradotte in azione all'interno del piano operativo proprio come già detto dal punto 12 per evitare sovrapposizione con gli incentivi del piano casa 14. Precisare le valutazioni urbanistiche che hanno portato ad inserire le scelte di tale scenario nella componente strutturale di piano 14. Non accolta lo scenario 0-3 è stato redato con l'obiettivo di demandare l'incremento del tessuto urbano esistente a seguito di interventi diffusi di riqualificazione energetica e ambientale ovvero rimandare le trasformazioni che determinano nuovo consumo di suolo un miglioramento del sistema urbano capace di mitigare gli impatti delle nuove trasformazioni previste l'individuazione delle aree greenfield e la riproduzione delle aree di espansione già previste nello strumento vigente al momento della redazione del nuovo piano regolatore ad esclusione delle zone C ricadenti nell'ambito di rischio idrogeologico le aree di espansione hanno nello scenario il solo scopo di indagare e valutare la sostenibilità urbana degli interventi e di conseguenti effetti indotti cumulativi le aree proposte quindi sono indicate e non conformative le valutazioni puntuali sull'opportunità e sostenibilità degli ambiti di espansione sono state effettuate all'interno della componente strutturale ed operativa nelle elaborati COA2 e COA2B sono riportati gli obiettivi di ogni singolo ambito e risultati attesi in relazione al disegno del sistema urbano complessivo scenario 03 rigenerazione e espansione pagine 114-115 punto 15 ridefinire il meccanismo dei criteri volumetrici cui costi vengono sostenuti dei soli proprietari delle zone C propone una domanda si chiede se il ritmo del tutto teorico del 10% anno di edilizia indotta per monetizzare i benefici volumetrici l'amministrazione possa garantire ai beneficiari e a se stessa da una parte il ristoro promesso e dall'altra la possibilità di perseguire azioni dirette sul territorio divulgare i presupposti normativi per giustificare l'utilizzo del bonus volumetrico in alternativa all'indennizzo espropriativo e alla sua legittimità precisare il supporto normativo per il riconoscimento del diritto di ristoro per i proprietari di edifici in ambito a rischio idrogeologico precisare secondo quale precetto economico venga attribuito il volume del bonus volumetrico se la monetizzazione del diritto volumetrico può essere o deve essere anticipata dall'amministrazione precisare quale è il presupposto per l'emissione coatta di un titolo a ristoro di un adeguamento energetico di un'acquisizione di aree di un riconoscimento di un danno per una condizione non preordinata escludere la premialità volumetrica riconosciuta per il miglioramento di natura ambientale 15 parzialmente accolta le disposizioni relative alla perequazione alla compensazione di cui l'articolo 53 derivano dalla necessità di garantire la sostenibilità degli interventi di nuova costruzione come ben specificato nel rapporto ambientale che ha trattato in maniera diffusa ed esaustiva questo aspetto rispetto al quale non sono state avanzate osservazioni l'amministrazione comunale tuttavia ritiene anche in relazione alle altre osservazioni ricevute sullo stesso tema alla riserva regionale 7b di modificare parzialmente l'articolo 53 permettendo la realizzazione della quota volumetrica aspettante all'8 e l'attuazione successiva della quota volumetrica relativa alla quota perequativa l'articolo 53 inoltre verrà integrato prevedendo la possibilità di attuare completamente l'intervento anche in assenza di crediti volumetrici che potranno essere successivamente acquisiti nel periodo di validità del piano attuattivo elementi strutturali del territorio pordenone pordenonese articolo 16 riferimento pagina 113 chiede quale sia il peso del preverdisman e la valutazione degli ecosystem service nelle aree C 16 non accolta le politiche dei preverdisman viene indicata come una delle possibili azioni da intraprendere per l'incremento del valore ecosistemico delle fasce agricole a nord del tessuto consolidato di Pordenone il peso di tale azione si desume dalla lettura del rapporto ambientale preliminare tale azione come è già precedentemente specificata non rappresenta un obbligo all'interno della componente operativa 17 riferimento pagina 139 214 chiede che nella specifiche schede elaborato COA2A dei cotonifici siano riportati riferimenti operativi ai corridoi ecotecnologici e chiede il motivo per il quale gli incentivi si debbano identificare in una successiva variante 17 non accolta il recupero dello storico cotonificio a manna come primo obiettivo la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente che rappresenta un alto valore testimoniale della storia locale la sua collocazione in un ambito a forte rischio idrogeologico ha determinato storicamente elevate criticità per l'attuazione di diversi progetti che si sono susseguiti sull'area nel corso degli ultimi decenni per tale ragione allo scopo di attuare il recupero della struttura e favorire la reale attuazione dell'intervento è stata prevista la possibilità di trasferimento di parte delle volumetrie a seguito di un progetto di dettaglio che definisce funzioni, geometrie e criteri di recupero dell'archeologia industriale per tale ragione la possibilità di trasferimento di alcune funzioni è subordinato ad uno specifico piano di dettaglio relativamente a tutti gli ex cotenefici le funzioni emissibili e le indicazioni di massima contenute nella scheda normativa di riferimento sono state definite all'interno di un disegno di scala urbano e fortemente connesso al sistema infrastrutturale di tipo ambientale e funzionale denominato sistema ecotecnologico ovvero la nuova centralità urbana su cui si innestano le diverse parti della città e che assume una forte multifunzionalità 18 riferimento pagina 140 e 148 chiede la riscrittura del meccanismo contestato perché ritenuto iniquo e giuridicamente incerto 18 non accolta l'elaborato COA1 norme tecniche di attuazione disciplina in modo inequivocabile le destinazioni d'uso ammesse per ogni sottozona in cui è suddiviso il tessuto terziario produttivo inoltre si segnala che l'articolo 13 definisce anche le possibilità di usi temporanei della struttura il consumo di suolo 19 riferimento pagina 161 fa rilevare di avere inoltrato osservazione generale specifica al PUMS 19 accolta si prende atto che l'osservante informa di aver presentato specifiche osservazioni al PUMS sistema ecotecnologico 21 riferimento pagina 213 approfondire dal punto di vista tecnico-economico dei rapporti benefici la volontà di adottare o convertire a geotermia i servizi di riscaldamento e raffrescamento propone di limitare l'adozione dell'annello di liquido alle nuove lottizzazioni trattandolo se possibile come opere di urbanizzazione propone di attuare un approccio più ampio allo spettro della tecnologia disponibile chiede inoltre lo stralcio di stralciare il documento CS14A tavole 1 2 e 3 in quanto non hanno attinenza pianificatoria 21 non accolta all'interno del PRGC sono illustrate a titolo informativo alcune possibili tecniche di sfruttamento di risorse rinnovabili il cui utilizzo può determinare una sensibile diminuzione delle emissioni locali e una diminuzione dei costi di gestione del patrimonio edilizio esistente e previsto le tecnologie suggerite la cui adozione non è obbligatoria sono alcuni esempi di buone pratiche già adottate in contesti analoghi a Pordenone l'elaborato CS14A descrive le opportunità già presenti sul territorio per lo sfruttamento delle risorse rinnovabili fornendo una quantificazione sintetica degli apporti producibili attuabili con interventi ridotti in tempi brevi l'elaborato ha quindi uno scopo illustrativo per informare delle diverse opportunità che Pordenone offre 22 rigenerazione dei fronti degli edifici pagina 214 osserva con preoccupazione la congruità ad attribuire dei diritti volumetrici per la riqualificazione dei fronti 22 parzialmente accolta si specifica che non vengono previsti diritti volumetrici da ricollocare su altri ambiti per la riqualificazione dei fronti edifici 23 il sistema ecotecnologico come struttura dello spazio pubblico pagina 215 chiede che vengano espressi i calcoli analitici attraverso i quali vengono ponderati i benefici 23 non accolta all'interno della tavola CS09C sono riportati diversi valori ecosistemici creare non urbanizzate allo stato di fatto esercitano su sistema ambientale suddivisi per le diverse categorie di servizi che svolgono sulla base di tale valutazione sono stati stimati gli indotti in termini di benefici ecosistemici del potenziamento delle aree come noto studi nazionali e internazionali hanno valutato gli effetti positivi delle reti ecologiche urbane di connessione ai sistemi delle infrastrutture verdi corridoi ecologici territoriali sul microclima urbano e c'è l'elenco poi di tutta una serie di studi che servono a dimostrare ciò punto 24 riferimento pagina 215 chiede lo straccio del possibile meccanismo per il pagamento dei servizi ecosistemici in quanto non definito 24 non accolta la relazione che ha valore descrittivo e non prescrittivo riporta una possibile evoluzione della trattazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici prefigurando uno scenario a lungo termine perseguibile pratica che di fatto è richiesta nella programmazione di un territorio ovvero definire un progetto urbano resiliente e non limitato ad una prospettiva di breve termine 25 riferimento pagina 234 chiede di specificare quale tra le tabelle della relazione e quelle dell'NTA dell'articolo 49 di sia da ritenersi valida 25 accolta la tabella riportata in relazione non risulta coerente a quella contenuta all'interno delle norme tecniche di attuazione che come noto ha valore prescrittivo viene quindi eliminato il refuso 26 riferimento pagina 235 chiede di aggiungere l'elemento della qualità dell'aria interna IAQ ed un fattore di premio per le iniziative volte a garantirlo o aumentare tale qualità 26 accolta il tema della qualità dell'aria all'interno degli edifici verrà introdotto come ulteriore elemento di valutazione dei criteri prestazionali individuati dal PRGC articolo 49 delle NTA relativamente alla relazione di flessibilità chiede 27 riferimento pagina 12 chiede lo stralcio della possibilità di aumentare del 10% gli indici urbanistici delle zone di 3 in quanto contraddittorio rispetto alle politiche di recupero delle aree artigianali con opifici dismessi 26 non accolta 27 scusate non accolta l'ipotetico incremento del 10% degli indici urbanistici nelle zone di e una possibilità demandata ad una specifica variante futura da promuovere solo nel caso di specifiche esigenze future e da valutarsi in relazione alla reale necessità insediativa per tale ragione non si ritiene necessario stralciare una possibilità futura che di fatto per l'attuazione necessita di un iter di verifica delle condizioni di contorno e di sostenibilità ambientale che orienti e attesti l'opportunità della scelta si sottolinea inoltre che con la legge regionale 21 del 2015 le previsioni sottese alla relazione di flessibilità avranno efficacia non superiore ad un anno rispetto all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore 28 riferimento pagina 12 chiede che venga emendata la scelta di aumentare del 10% la superficie coperta delle zone H2 in quanto contraddittoria rispetto alle politiche di favorire il commercio di prossimità 28 non accolta in analogia a quanto già controdedotto nel punto 27 la flessibilità definisce una possibilità futura che nel caso di concretizzazione si concretizzassero le necessità è percorribile con la redazione di una specifica variante che assume un carattere non essenziale rispetto agli obiettivi e le politiche del PRGC si sottolinea inoltre che la legge regionale 21 del 2015 le previsioni sottese alla relazione di flessibilità avranno efficacia non superiore ad un anno rispetto all'entrata in vigore del piano relativamente alle norme tecniche di attuazione chiede articolo 21 zone B zone residenziali di completamento o ristrutturazione ad attuazione diretta 29A di argomentare gli approfondimenti sugli effetti delle scelte di fissare la quota minima residenziale al 51% del volume urbanistico complessivo in riferimento al carico urbanistico 29A non accolta l'incremento del mix funzionale secondo le possibilità previste degli articoli delle norme tecniche di attuazione garantisce una maggiore resilienza al tessuto residenziale aumentando la possibilità insediative e lo sviluppo di nuovi modelli funzionali integrati 29B osserva che il solo parametro volume urbanistico così come definito l'articolo 7 dell'NTA implica uno sviluppo differenziato a seconda che in quartieri prevalga il condominio o la casa unifamiliare 29B non accolta l'analisi svolta nel corso della redazione del piano regolatore generale consente di affermare che la scelta effettuata garantisce un armonico sviluppo ed una corretta evoluzione degli isolati urbani interessanti 30 articolo 49 criteri di concorsualità per la realizzazione delle aree di trasformazione chiedi di chiarire le motivazioni tecniche economiche energetiche che hanno portato la scelta di privilegiare la tecnologia della pompa di calore geotermica ampliare l'obiettivo dell'uso di energie rinnovabili anche con altre tecnologie considerare le installazioni di accumuli elettrici per favorire l'autoconsumo approfondire la valutazione di sostenibilità dello sfruttamento delle acque superficiali chiarire quale tipo di energia elettrica o anche termica si intenda produrre con l'installazione di tetti e pannelli propone che venga incentivata qualunque tecnologia 30 parzialmente accollata l'articolo 49 definisce alcuni interventi che mirano a delineare un livello minimo prestazionale degli interventi individuando alcune tra le diverse tecnologie applicabili che hanno dei benefici diretti sia sul benessere dei futuri fruitori degli edifici che sul sistema urbano complessivo l'utilizzo della pompa di calore è una delle tecniche da attuare capace di garantire buone prestazioni nello specifico contesto di Pordenone come emerso nella fase di studio la tabella sarà integrata con il riconoscimento dell'utilizzo di accumulatori elettrici come intervento che partecipi al raggiungimento dello standard minimo prestazionale verrà inoltre meglio specificato quanto richiesto dall'osservante in merito al tipo di energia da produrre 31 l'articolo 53 applicazione della compensazione per la rigenerazione urbana e la qualità ambientale che il piano possa essere efficace fin da subito al fine di evitare un periodo di vuoto normativo 31 accolte i criteri verranno definiti contestualmente l'approvazione del PRGC al capo 7 criteri prestazionali per la sostenibilità degli interventi previste nelle aree di trasformazione 32 articolo 56 riqualificazione degli spazi urbani residuali che il piano possa essere efficace fin da subito al fine di evitare un periodo di vuoto normativo 32 non accolta l'individuazione degli spazi residuali pubblici da riqualificare rimane esterno al piano regolatore comunale in quanto oggetto di periodici aggiornamenti in relazione all'esigenza della città e al rapido mutare dello stato dei luoghi per tale ragione si è optato per un regolamento esterno all'impianto normativo del piano regolatore per garantire più flessibilità articolo 33 no scusate 33 articolo 70 corridoi ecologici la ridefinizione dei corridoi alla luce delle scelte faunistiche specifiche effettivamente praticabili 33 non accolta confermando la definizione dei corridoi ecologici riportati dall'osservante è doveroso fare alcune precisazioni i corridoi ecologici si caratterizzano per essere sistemi lineari di connessione ambientali su cui attuare politiche duttettela e valorizzazione del loro valore ecosistemico e assumono rilevanza se strutturati a scala territoriale i corridoi ecologici comunali previsti all'interno del tessuto consolidato sono elementi a supporto della rete principale che mettono a sistema le diverse presenze di verdi di valore ambientale e limitano i fenomeni di isola di calore nonché l'impermeabilizzazione dei suoli l'apporto dei corridoi ecologici comunali all'interno dei sistemi urbanizzati ha indotti di portata inferiore all'incremento della biodiversità rispetto alla struttura verdi territoriali ma partecipano attivamente alla riconnessione delle aree verdi urbane e al miglioramento ambientale delle aree a forte antropizzazione 34 articolo 96 attrezzature e servizi per l'istruzione che vengono previste delle aree a verde destinata a giardini scolastici in ragione del fatto che Pordenone ne è scarsamente dotata 34 accolta partendo dal presupposto che per norma non esiste la definizione di un parametro aree a verde destinata a giardini scolastici si segnala che l'impianto normativo già consente allo stato di fatto la realizzazione dei tali interventi 35 articoli 134 la legalizzazione e compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di descrivere in modo più dettagliato quali impianti si intendono vietare e con quali motivazioni propone di rivalutare questa posizione ed eventualmente introdurre delle limitazioni a detti impianti al fine di rispettare il pregio ambientale rivedere la prescrizione aprendo la possibilità alla realizzazione di impianti di riscaldamento a biomassa con alta efficienza e bassa emissione 35 parzialmente accolta si conferma la validità dell'attuale impostazione normativa in parziale al conglimento dell'osservante verranno introdotte le specifiche riguardanti l'uso domestico delle biomasse 36 articolo 140 suscettibilità di liquefizione degli terreni che l'articolo venga soppresso per tutto ciò che attiene i benefici volumetrici 36 parzialmente accolta scusate la norma verrà eliminata come proposto dall'osservante in ricepimento del nuovo parere del servizio geologico regionale pervenuto in data 24 2 2016 relativamente la tavola CO01 ABC azzonamento scala 1 5.000 chiede che vengano indicate nelle tavole di azzonamento le aree di pericolosità idraulica secondo il PAIL oltre agli ambiti di tutela paeseggistica dei laghi e dei fiumi in sensi del decreto legislativo 42 del 2004 osserva che la tavola CS19 ABC e la CS18 riportano in leggenda in modo differente la campitura 37 parzialmente accolta si modifica il refuso in leggenda rendendo coerente la leggenda rispetto alla specifica grafica di individuazione cartografica delle aree agricole coltivate in cui favorire l'attivazione di politiche per il riequilibrio ambientale e la costruzione di servizi ecosistemici le classi di pericolosità idrauliche sono riportate all'interno dell'elaborato CS11 la riproposizione all'interno delle tavole di azzonamento determina difficoltà di lettura per la presenza di molte informazioni sovrapposte sono comunque indicate con l'asterisco le diverse zone comprese all'interno delle zone di rischio relativamente alle norme tecniche di attuazione geologica e idraulica chiede 38 articolo 3.1 pagina 12 prescrizione per le aree con falda libera superficiale che la validazione della valutazione della potenziale profondità della falda venga codificata con un protocollo procedurale 38 non accolta la risposta l'ha data il dottor contratti l'assetto idrogeologico del territorio comunale è rappresentato dalle tavole idrogeologiche con elementi di morfologia la sintesi riporta il quadro idrogeologico e morfologico integrato con i dati relativi rilevati in campagna con foto aeree con monitoraggio degli acquiferi più superficiali tenendo conto in particolare degli eventi di piena degli anni 2010 e 2014 per tutti gli elementi che ha descritto l'ingegner contratti che hanno costituito l'ossatura di tale studio non reputa necessario che venga definito questo protocollo procedurale passiamo ora alla 157 sempre sezione a piso alessandro coordinatore movimento 9 dicembre libero chiede 1 se sono stati previsti dei fondi per i commercianti che per diretta causa del nuovo piano regolatore decidano di trasferirsi 1 non accolta il piano regolatore generale comunale nella sua impostazione per le politiche che prevede non determina affatto effetti negativi relativamente al sistema produttivo in genere nei confronti dei commercianti in particolare al contrario le stese politiche di riqualificazione ambientale hanno come scopo di rendere la città più vivibile e quindi più attrattiva 2 se è stato previsto un congelamento di tutte le tasse locali per i commercianti interessati dalle aree di cambiamento della città 2 non accolta le politiche fiscali esulano dei contenuti del piano regolatore generale comunale 3 se il comune è pronto ad un'eventuale causa o action da parte dei commercianti che provi la correlazione del nuovo piano regolatore e il mancato incasso da parte di attività commerciali 3 non accolta l'amministrazione comunale ha sviluppato il piano regolatore generale comunale tenendo conto dell'interesse generale ovvero della somma degli interessi privati e dell'interesse pubblico e dallo scopo di creare le precondizioni per uno sviluppo di tutte le attività produttive della città 4 se sono stati studiati gli impatti economici che potrebbero che porterebbero allo spostamento del commercio con il mancato incasso dei parcheggi a pagamento 4 non accolta le valutazioni sulle politiche legate alle tariffe della sosta esulano dalle competenze del piano regolatore generale comunale 5 se il comune e la giunta hanno previsto un piano di recupero per i locali sfitti se sì quale 5 non accolta le politiche che il piano regolatore generale comunale può sviluppare sono quelle previste dalla legge urbanistica e regionale le politiche relative agli alloggi sfitti esulano di gran lunga delle possibilità operative del piano regolatore generale comunale 6 le previsioni di isole ecologiche per contenere i bidoni della raccolta differenziata così da evitare l'abbandono di tali bidoni e provvedere che le stesse isole siano utilizzate come punto di deposito anche per la raccolta settimanale 6 non accolta la previsione di isole ecologiche esula altresì dalle possibilità operative del piano regolatore generale ho finito le A grazie assessore bene abbiamo completato anche il gruppo A chiedo ai consiglieri comunali se ci sono richiesti di chiarimenti consigliere Sperotto prego grazie grazie presidente partirei dall'osservazione numero 104 quella presentata da sostanzialmente dai rappresentanti del Comitato Assoluta e Pubblica Bene Comune io ho letto e ho visto l'osservazione presentata che è piuttosto corposa e però rilevo che rispetto alle 19 pagine e ai punti sollevati da questa osservazione i punti individuati come contenuti siano nettamente inferiori rispetto a quello che veniva invece evidenziato da questa osservazione e in realtà i quattro punti richiamati nell'osservazione qui riassunta sono sostanzialmente solo le premesse perché i punti riguardavano ovviamente a parte la questione del piano partecipato le componenti strutturali sovracomunali locali che si suddividevano poi queste osservazioni in ulteriori cinque punti che riguardava il riordino delle reti infrastrutturali la valorizzazione del sistema ambientale in particolare per la creazione di corridoi ecologici messi in rete delle aree verdi e di qualità la razionalizzazione del sistema dei servizi della città pubblica politiche di rigenerazione del tessuto urbano per limitare l'emissione di CO2 in atmosfera politiche per il rilancio del sistema produttivo quindi partiva dalle questioni che riguardavano le grandi infrastrutture come ad esempio la questione della gronda nord e il tracciato come indicato poi dalla regione che nelle osservazioni nelle riserve regionali poi ha indicato quali modifiche erano da portare per indicare puntualmente quale sarebbe il tracciato della gronda nord poi continuava appunto sollevando la questione dell'aumento della sicurezza del sistema urbano la struttura insediativa della tecnica del preverdissement che abbiamo visto è stata sollevata anche dagli ingegneri e dagli architetti la questione delle schede normative degli ambiti BIBAR-RU la questione della trasparenza dei grafici la questione del dimensionamento del piano i servizi della città la struttura la flessibilità che c'è e la BAS che in qualche modo mi chiedo come mai tutti questi aspetti non sono stati presi in considerazione grazie e poi sulla 106A proprio una cosa molto puntuale sul 106A per quanto riguarda i corridoi ecologici mi chiedevo se nell'individuazione dei corridoi anche in relazione all'osservazione importante veramente importante e utile ritengo fatta dall'ordine degli architetti e degli ingegneri se era stato fatto uno studio fonistico puntuale per quanto riguarda i corridoi ecologici e l'osservazione al punto 33 dell'osservazione 106 categoria A ovviamente punto 33 parto dalla dalla seconda cioè dell'articolo 33 corridoi ecologici la ridefinizione dei corridoi alla luce di scelte faunistiche specifiche effettivamente praticabili allora è importante sempre inserire i piani regolatori su quelle che sono effettivamente le loro possibilità di azione e quelli che sono i contenuti che i piani debbano avere anche perché ampliare i contenuti prescrittivi all'interno dei piani risulta estremamente controproducente in quanto si va a ingessare in modo molto più complicato una una normativa che invece può avere delle caratteristiche e poter necessitare di avere delle caratteristiche di flessibilità ed utilità che possono essere invece demandate a degli strumenti diversi dal piano regolatore tant'è vero che storicamente nei piani regolatori per quanto riguardava ad esempio le zone della scusate i contenuti dei piani attuattivi venivano indicate non la vedo più venivano indicate delle ecco grazie venivano indicate le essenze ma in modo generale descrittivo con la finalità del rendere e del premiare l'applicazione l'utilizzo di essenze autoctone piuttosto che non autoctone per quanto riguarda lo studio che il piano regolatore ha fatto sui corridoi ecologici secondo me è importante la risposta che abbiamo dato il valore che è stato scelto è quello del disegno di riconnessione tra gli elementi importanti ambientali attraverso questi corridoi che hanno carattere pubblico e privato e che per la prima volta sono stati inseriti all'interno del piano regolatore comunale e che hanno una funzione di riconnessione che garantisce quindi degli effetti di mitigazione puntuale e locale ma che servono anche a ridisegnare quel reticolo che si è andati perdendo nel tempo e perdendo a causa di una urbanizzazione che si è sviluppata in modo pianificato ma con degli obiettivi che erano quelli rivolti ad un consumo diffuso del suolo più che concentrato e perdendo quindi quei valori di connessione che sono portanti quindi il valore che il piano regolatore e l'azione che il piano regolatore ha dato è quello di individuare tutti quegli assi mettendo delle prescrizioni anche su le proprietà private che hanno l'obbligo di mantenere e di garantire la continuità di questi percorsi verdi per quanto riguarda lo specifico studio faunistico non è materia del piano regolatore come si diceva in altre occasioni saranno dei regolamenti dei regolamenti di altra forma che potranno andare ad incidere direttamente su questo perché è importante che questi regolamenti abbiano le caratteristiche di essere flessibili e modificabili mentre non deve essere flessibile e modificabile il disegno urbano che garantisca la presenza dell'elemento non so se mi sono spiegata a riguardo la mia domanda è nel momento in cui la risposta è che la biodiversità ce l'abbiamo ovviamente negli ambienti naturali che abbiamo all'interno della città e ne abbiamo gli importanti se io devo connettere le aree verdi attraverso anche dei corridoi ecologici dovrò sapere cosa ho dentro le aree verdi e cosa devo mettere in connessione visto che lo prevede e nel piano regolatore ci sono delle norme che concernono proprio favorire questo scambio anche per cui dico mi serve nel momento in cui poi metto una norma prescrittiva e se non so cosa ho dentro come faccio a dire che ci passa qualcosa tutto questo è basato su studio preciso ed è tutto all'interno del rapporto ambientale non è dentro il corpus che fa parte del piano regolatore il rapporto ambientale e la VAS hanno tutta questa parte di analisi di normativa di valutazione nel senso che ad esempio il valore ecosistemico non è stato deciso d'amblè l'abbiamo verificato sull'integrazione e lettura di tutti i dati reperiti da tutti gli enti competenti da tutti gli studi sviluppati e però sta in quella componente ma che fa parte integrante del piano regolatore non è stata arbitraria per quanto riguarda invece l'osservazione 104 come premesso nella relazione le risposte alle osservazioni sono state fatte sull'analisi non del sunto che noi abbiamo indicato qui ma sul tema sul testo integrale dell'osservazione stessa e naturalmente non abbiamo riportato tutti gli elementi di considerazione ma abbiamo enucleato quelle che sono le domande che emergevano dall'osservazione stessa e queste erano le domande che venivano specificatamente indicate è vero che l'osservazione era molto corposa ma era composta da valutazioni che non hanno neanche necessità di risposta ma che erano una lettura da parte dell'osservante le domande lette tutti il testo sono queste quindi a queste abbiamo risposto perché tutta la considerazione le valutazioni e le analisi fatte erano delle dichiarazioni delle considerazioni ma non erano delle domande per chiarezza noi abbiamo consegnato a tutti i consiglieri i testi completi in modo che li potessero avere noi abbiamo letto tutto il testo completamente abbiamo identificato quelle che potevano essere le domande alle quali dare una risposta non abbiamo riportato nell'assunto e nell'analisi tutte le considerazioni che emergevano a supporto delle domande che sono state poi identificate sì quindi secondo voi sono solo queste quattro le domande non ce ne sono altre grazie ci sono altre richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri nessun'altra richiesta consigliere prego no consigliere piccinato grazie presidente niente volevo solo chiedere se durante no vabbè ma anzi chiederò dopo sull'altro visto che non è perfettamente riguardante questo grazie bene nessun'altra richiesta di chiarimenti da parte di nessuno possiamo passare allora alla discussione allora ricordo ai consiglieri che avete la possibilità di fare un primo intervento di 30 minuti massimo e un secondo intervento di 10 minuti come dopo di che ci sono le dichiarazioni di voto bene dichiaro aperta la discussione sono le 16 54 no la discussione su tutto abbiamo deciso si può parlare anche sulle riserve regionali se si vuole io pensavo che su un piano regolatore ci fossero tantissimi iscritti vedo che per il momento sono solo io allora riparto in questa discussione un po' da dove abbiamo appena terminato nel senso che ci sono tanti aspetti di questo piano che hanno sicuramente diverse criticità e devo anche dire che le riserve regionali e le osservazioni dei privati in parte ma soprattutto di alcuni ovviamente degli ordini di architetti ingegneri hanno sollevato molte questioni e dopo il lavoro dell'amministrazione io ritengo a seguito ovviamente del recepimento di una parte dei riserve regionali e di osservazioni di privati di associazioni questo piano sicuramente è migliore rispetto a quello adottato ovviamente i punti focali sono due cioè il primo è se le riserve regionali sono state che sono riserve vincolanti sono superate e di questo ne abbiamo parlato anche ieri e il punto è che territorio daremo ovviamente alla nostra città nel futuro e quali saranno i problemi che l'amministrazione che seguirà questa dovrà trovarsi a risolvere parto un po' da distante nel senso che se noi sorvoliamo la città di Pordenone purtroppo anche facendo un diciamo un'osservazione di cosiddetta area vasta troviamo un'area piuttosto devastata quello che si è inciso nel territorio negli ultimi anni è stato di una cementificazione che ha riguardato degli ambiti naturali importanti agricoli e che ha creato dei grossi problemi grossi disagi che oggi cerchiamo in qualche modo di sistemare anche attraverso questo piano regolatore quindi noi abbiamo due grossi complessi commerciali tra fiume Veneto e Pordenone al confine con Cordenone che abbiamo avuto il coraggio si è stato anche il coraggio di chiamare Meduna un centro commerciale immenso fatto nella zona più intasata nell'area stradale più intasata della regione vicino a un ambito naturale importante come quello Meduna abbiamo avuto il coraggio perché l'uomo spesso fa anche di chiamarlo Meduna cioè Meduna è stato vincolato è stato cementificato quell'area agricola è sparita ma io provo veramente fisicamente io mi sento male quando vedo le infrastrutture viarie che si sono dovuti realizzare per permettere l'insediamento di un centro commerciale di quelle dimensioni operazione assolutamente legale nella totale legalità nessuno si sogna di dire diversamente per oggi quella scelta la paghiamo carissima la paghiamo due volte non solo perché ci troviamo la Pontebana costantemente intasata abbiamo dovuto investire un sacco di denaro pubblico bisogna vedere poi il ritorno costi benefici qual è abbiamo il centro cittadino vuoto e abbiamo altre due strade due viabilità importanti che andranno a massacrare il nostro territorio che sono la gronda nord e la gronda sud quindi abbiamo pensiamo Pordenone dall'altro a l'autostrada la statale Pontebana fra poco la gronda nord e la gronda sud in mezzo il blocco di cemento cioè che riguarda fra l'altro la questione della dogana che il cemento c'è già e per Dio utilizziamolo come si diceva ieri Assessore sfruttiamo quell'occasione dopo anche lì bisognerà erodere ancora all'ambiente e all'agricoltura però quel cemento ormai che c'è da così tanti anni che venga utilizzato adesso un deserto mi sembra anche strano che debba essere ancora eroso territorio per spostare il mulino Zuzzi da via Oberdan in quel luogo però io dico dobbiamo risolvere quel grosso problema attraverso gli strumenti che sono ancora che per carità non abbiamo deciso noi in parte e in parte ancora in parte sì o comunque le amministrazioni che stiano preceduto allora mi chiedo e chiedo a tutti i colori consiglieri che sono seduti qua che il piano regolatore dà una visione lunghissima nel tempo le decisioni politiche che si prendono hanno un'importanza incredibile nel territorio che non non ci portano non abbiamo possiamo avere una visione di un anno cinque anni dici anni ma veramente ultra e ultra decennale le auto è molto probabile per quanto per quella che è l'evoluzione economica anche che spariranno per cui tutti quei parcheggi che sono stati creati attorno a Meduna non saranno assolutamente inutili e quindi noi abbiamo cementificato un'area per creare una zona e allora a nostra volta continuiamo a creare infrastrutture che alla fine rimarrà cemento totalmente improduttivo per cui questo è anche lo scenario purtroppo è tristemente lo scenario triste che ci tocca osservare ovviamente una considerazione che possiamo fare ex post alla luce di quello che poi è successo ritornando diciamo alle questioni più diciamo giuridiche ovviamente ieri qualcuno mi ha accusato di voler fare nessun desiderio di fare lo specialista in urbanistica però se verifichiamo quella che è la razza della norma e quello che è stato l'evoluzione di questo piano regolatore la sua adozione e poi le osservazioni e questa fase è cambiato moltissimo questo piano ed è cambiato incidendo direttamente su molte aree private se guardiamo dei vincoli che sono stati introdotti mettiamo io sono un proprietario di un fondo che abita in Comina e confligge ovviamente con l'aeroporto della Comina sono stati inseriti solamente successivamente e per l'accoglimento di riserve regionali dei vincoli sulla possibilità ovviamente di edificare che prima non c'erano cioè quando è stato adottato il piano quei vincoli non c'erano io privato su questi vincoli non posso fare osservazioni e opposizioni perché le approviamo oggi e potrò fare solamente un ricorso giurisdizionale vi sembra giusto vi sembra corretto ecco e su tanti punti cioè perché quello che l'adeguamento che è stato fatto a seguito dell'accoglimento seppur parziale delle riserve ha veramente introdotto tantissime questioni tantissimi elementi per cui abbiamo io mi auguro che possa andare bene questo piano però in realtà se abbiamo due ostacoli a superare o che la regione potrebbe dirci o che non abbiamo superato le riserve perché di fatto noi non le abbiamo accolte le riserve vincolanti ma ci siamo appesi a un parere legale che per carità di un ottimo professionista io mi auguro che abbia ragione lui ma se così non fosse comunque rischiamo di ritornare da capo perché anche la regione potrebbe chiederci la stessa regione di rivedere completamente il piano non è detto che la regione anche perché su elementi come quelli dove abbiamo fondato la nostra dove l'amministrazione ritiene di poter andare avanti ritengo difficilmente emendabili tu curda la regione con un taglio di forbici quindi potrebbe veramente richiederci anche solo per il fatto di non aver accolto le riserve regionali di rielaborare il piano e dall'altro perché proprio attraverso il recepimento delle riserve regionali è stato cambiato in elementi sugli obiettivi sulle strategie e in tantissimi aspetti normativi per cui i privati si trovano un piano diverso di quello che era stato adottato cioè io sono il privato un terreno viene adottato il piano lo leggo benissimo per me questo piano non mi tange oggi invece sì e per questa persona non è possibile fare osservazioni questa è la mia opinione però è così nel fatto questa persona non potrà fare osservazioni assessore purtroppo è così dovrà solo andare al tar se questo piano verrà ovviamente poi approvato per questo ribadisco quello che ho già detto che in realtà forse sarebbe prudente opportuno procedere una nuova adozione del piano prendo atto comunque del lavoro svolto vi ringrazio per aver elaborato l'emendamento che in qualche modo avevo mi ero permesso di suggerire anch'io che vincolerà la possibilità di avere una nuova sala una nuova convenzione con fiuladria per la nuova sala conferenza che verrà costruita nel centro città quindi questo di questo ve ne do il merito però ritengo che appunto questo piano abbia ancora troppe criticità soprattutto per quella che è stata la sua fase il suo sviluppo e i suoi molti aspetti appunto dubbi e possono comportare delle legittimità sotto il profilo amministrativo grazie grazie consigliere Sperotto consigliere lo perfido prego emozione grazie presidente grazie assessore dopo essermi soffermato diverse diverse volte ieri sull'aspetto di carattere normativo e interpretativo è ovvio che oggi non diletterò più il collega Piva con argomenti di carattere specifico ma affrontando la tematica del piano regolatore per quello che è ovvero il più importante documento politico che un'amministrazione può fare durante il proprio mandato perché se qualcuno pensa che per parlare del piano regolatore si debba essere per forza architetti o avvocati per interpretazione delle norme forse non ha capito che in realtà si parla della progettualità della città da oggi a 30 anni e non bisogna essere unicamente architetti ma forse bisogna anche essere come ogni tanto il collega Giannelli dice dei sognatori e pensare alla città del futuro e la città del futuro deve avere una visione che riguarda quello che si vuole fare dell'aspetto dell'istruzione per quello che bisogna fare dell'aspetto relativo alle politiche del commercio cittadino come si intende cercare di far sì che la gente nei quartieri non ci dorme e basta ma che li viva quotidianamente come far sì che la città sia piena non soltanto di cittadini ma anche magari di visitatori grazie alle bellezze che abbiamo ereditato quelle che abbiamo creato magari negli anni recenti sono poche ma quelle che abbiamo ereditato da centinaia e secoli di storia le possiamo vedere qua davanti e sono sicuramente un patrimonio da tutelare perché io stesso quando porto clienti da tutte le parti del mondo vengono a visitare Pordenone rimangono sballorditi del fatto che hanno delle bellezze che loro pensano ci siano soltanto a Venezia o Firenze o Verona o poche altre città vengono a visitare il centro storico di Pordenone e rimangono piacevolmente colpiti e quindi per far sì che Pordenone possa rimanere sempre una città attrattiva bisogna lavorarci sopra bisogna lavorarci sopra avendo bene in mente cosa si vuole fare e qua invece abbiamo ragionato unicamente di metri cubi e abbiamo ragionato unicamente di interpretazioni della norma e poco abbiamo tenuto in considerazione quanto il ruolo di Pordenone potrà essere o dovrà essere da qua a 30 anni ecco allora che poi di fronte a una richiesta di chiarimenti per cercare di capire se l'interpretazione relativa al fatto che la regione ci chiedesse nelle riserve delle modifiche sostanziali ovvero quando ieri veniva chiesto da parte del sottoscritto ma anche da parte di altri colleghi che sullo strumento della pianificazione della città del futuro si chiedeva all'amministrazione ma fin dei conti le modifiche che avete fatto sono quelle che vi ha chiesto la regione o avete fatto altro la risposta politica di questa amministrazione è stata quella di dire lasciamo che risponda il tecnico esterno quindi vuol dire che il documento politico più importante di questa amministrazione invece di essere difeso politicamente da questa amministrazione è stato unicamente concesso e lasciato in come dire totale appropriazione e totale con la totale capacità di intervenire dal punto di vista politico a questo punto visto che il piano regolatore è un documento politico a un tecnico esterno mi sarei aspettato da parte dell'amministrazione un intervento per dire guardate la regione ci ha chiesto questo ma noi in realtà abbiamo fatto questo questo quest'altro perché pensiamo che il progetto nostro della città sia questo e invece di progettualità della città non se ne è parlato e allora vede signor sindaco lei si è presentato in questa amministrazione cinque anni fa con quello che avrebbe fatto il piano regolatore come il suo strumento politico più importante di questo mandato ci ha messo cinque anni probabilmente non è neanche più il suo piano regolatore perché è del tecnico o quantomeno sarà della candidata Daniela Giust lei non si ricandida forse perché tra le varie cose non sente neanche suo questo piano regolatore visto che dovrebbe essere un suo vanto quello di dire io sono il sindaco che dopo trent'anni ha fatto il piano regolatore della città trentacinque ha fatto il piano regolatore della città e quindi con questa medaglietta mi ricandido perché ho fatto qualcosa di positivo per la città e invece come dicevo ieri lei non si ricandida e boccia tutta quanta la sua giunta come ha fatto nell'intervista rilasciata in televisione quindi dico ci avete messo cinque anni dicendo che avrete fatto il piano regolatore e lei aveva detto due anni e mezzo fa che se non arrivava entro al fine dell'anno il piano regolatore avrebbe preso una decisione molto importante che in realtà non prese ma sì ma è perché ha imparato a fare il politico è certo lei aveva detto che ha imparato a fare il politico perché lei prima disse guardate io sono convinto che l'ospedale di Pordenone sarà in comina e poi ha iniziato a imparare a fare il politico capendo che in realtà se avesse fatto qualcosa che Serracchiani non avrebbe gradito non avrebbe gradito si avrebbe trovato in grosse difficoltà magari non so facendolo avere meno la maggioranza in consiglio comunale come minimo però lei iniziò a capire bene come fare il politico e dall'avere un'amministrazione che dice con lungimiranza io sono convinto che per la progettualità della città l'ospedale deve andare in comina perché poi della città lì dove c'è l'ospedale attuale potremmo fare tante altre cose invece lei no decise decise che l'ospedale era giusto farlo là parentesi chiusa ma parentesi chiusa parentesi parentesi chiusa parentesi chiusa però di fronte all'amministrazione che appunto vuole avere lungimiranza si fa imporre le scelte della regione e qua e qua nel frattempo questa amministrazione che doveva fare il piano della mobilità poi prende piani per fare dei percorsi pedonali con l'attenzione a gli utenti deboli non mi ricordo il termine corretto quando abbiamo visto in commissione urbanistico quel piano per cui un progetto uno studio che l'amministrazione doveva fare propria perché era fatto bene il fatto di far sì che la città di Pordenone fosse particolarmente attenta agli attraversamenti pedonali in cui gli utenti deboli non vedenti potessero attraversare tranquillamente la città di Pordenone senza avere particolari problemi e quindi per esempio con il semaforo che suona quando c'è il verde suona in un modo quando c'è il rosso suona in un altro e noi cosa abbiamo fatto appena appreso l'importanza di questo studio abbiamo fatto la rotatoria in largo in piazza Ducaraosta in cui chi è non vedente non sa più dove può attraversare perché ci sono a malapena le strisce pedonali perché dovete ancora capire dove metterle e chi arriva in piazza Ducaraosta se per caso appunto è un utente debole in piazza Ducaraosta è meglio che si fermi perché se già chi se già chi è un utente che può godere di tutte le facoltà e magari anche un automobilista che ha la patente perché ha studiato a malapena riesce ad affrontare indenne quella rotatoria e il sindaco ne è un esempio perché l'abbiamo letto sui giornali figuriamoci che ha difficoltà ora tutto questo per dire cosa che di fronte che è il migliore comunque questo per dire cosa che di fronte all'amministrazione che pensava di fare dei progetti a lungo respiro per cinque anni in realtà ha continuato ad intervenire in base a quello che magari era l'assessore calzava di più la voce ecco allora le piste ciclabili carsiche ecco allora degli incroci fatti nella oppure incroci fatti a dir poco in modo pericoloso oppure dire guardate noi abbiamo una abbiamo fatto il piano della mobilità pensiamo che la largo San Giovanni che piazza piazza d'Aosta debba avere una rotatoria a cannocchiale in consiglio comunale il sottoscritto colleghi più esperti e tanti altri dissero guardate che a noi ci sembra un po' una boiata quella rotatoria ma no cosa dite abbiamo un mobility manager che ha detto che è una cosa fatta bene realizzata questa rotatoria sempre con il solito modo caparbio e senza ascoltare chi vi dà consigli il risultato è che ancora siete fermi là forse in questi giorni metterete a posto con la rotatoria e nel frattempo una cosa della quale avete una certezza assoluta era quella di buttare giù i cedri del Libano di Largo San Giovanni per fare un'altra rotatoria a fagiolo allora i cedri del Libano prima erano assolutamente da buttare giù perché avete fatto fare uno studio che io ho ricevuto e dicevano che quei cedri erano da buttare giù ma siccome vi si è sollevata contro la popolazione avete rifatto fare un altro studio da parte di Gea e io vi ho chiesto i risultati dello studio a distanza di un mese ancora non me le avete dati ma non vorrei mai che poi sull'onda di questa del popolo che per voi appunto è molto importante essendo voi un partito popolare essendo il partito democratico il partito del popolo non vorrei che magari questo studio dicesse questo studio dicesse forse si possono resistere anche i 20 di 100 km all'ora questo è il modo in cui avete governato questo è il modo in cui avete governato ovvero non avete mai governato perché avevate una progettualità ma avete sempre governato guardando non più distante di 5 cm nei vostri occhi o non più di 5 cm nelle vostre orecchie perché se qualcuno alzava troppo la voce avevate paura delle vostre decisioni avevate paura delle vostre decisioni e allora quello che vi chiediamo caro collega del santo che lei si presentò in modo baldanzoso dicendo la prima cosa che faremo via Cappuccini e via Cappuccini ancora così e ancora così via Cappuccini perché anche lì avete sentito troppe lamentelle e vi siete fermati perché questo è il vostro modo di governare sulla base di quello che vi dice la gente se sono 100 persone chi se ne frega ma se sono 200 sono il 5% dei vostri voti vi fermate perché non avete una progettualità e men che meno siete disposti ad ascoltare i consigli da parte dei consiglieri comunale anche di opposizione che seguono qua insieme a voi perché sono stati eletti democraticamente e vogliono far sì che in città si possano prendere decisioni per il bene della comunità una comunità che è sempre più grande e che dovrebbe comportarsi da comune capoluogo e quindi quando si dice che il comune capoluogo è quello che deve far sì deve essere il collettore degli interessi della collettività che ormai non è soltanto Pordenone ma è Porcia Pordenone Storo Veredo Sanquirino e quant'altro Pordenone non deve essere più l'esempio palese lampante plastico che la famosa pista ciclabile che va da Pordenone a Porcia ma si conclude al confine al confine di Porcia perché Pordenone non sapeva che Porcia stava realizzando una pista ciclabile e quindi non è stato in grado di fare una pista ciclabile che continuasse verso il territorio di Porcia dopo via Capuccini questo è l'esempio di Pordenone è un comune capoluogo che pensa al conurbamento la città dei 100.000 200.000 essere l'utile noncello più grandi potenti di tutti però poi alla fine non riesce a fare un'azione che sia che sia di largo respiro e sappia coordinare una semplice pista ciclabile che metta in contatto in comunicazione Pordenone con Porcia in tutti questi anni ormai 5 una maggioranza solida perché voi eravate solidi ogni tanto magari il numero legale non siete in grado di darlo ma quando c'è da votare siete sempre presenti e votate sempre a favore perché quello che vi dice il capo bastone lo votate giustamente perché fate parte di questa maggioranza in questi 5 anni l'unica cosa che siete stati in grado di fare è fare 82 milioni di riunioni che su questo c'è stato tanto da fare a prendere la medaglia al petto dell'assessore e di tutti i tecnici per la pazienza che hanno avuto però poi dal punto di vista politico siete arrivati in zona cesarina a presentare questo piano regolatore che intanto appunto come diceva il collega Sperotto prendono come dire qualche dubbio che magari tra qualche mese potrà essere ripresentato anche un ricorso perché c'è qualche dubbio dal punto di vista della legittimità riguardo le modalità di come si è assunto la decisione rispetto a quello che sono state le riserve regionali dall'altro è un piano regolatore come dicono diverse riserve che sono state e osservazioni anche che sono state presentate che di certo non fa vedere come Pordenone possa essere la città del futuro perché a Pordenone bisogna far capire che non si viene soltanto perché siamo comuni e capoluogo ma si viene perché è attrattivo attrattivo dal punto di vista estetico attrattivo dal punto di vista delle attrazioni culturali dal punto di vista edilizio dal punto di vista architettonico dal punto di vista delle proposte professionali dal punto di vista delle proposte occupazionali dal punto di vista delle proposte legate all'istruzione perché la gente deve capire che vivere a Pordenone è meglio che vivere per esempio a Rovredo a Cordenons a Porcia senza nulla togliere ai comuni limitrofi perché vivere a Pordenone magari uno può spendere anche 100 euro in più al metro quadrato ma non è una questione di costo del metro quadrato perché vivendo a Pordenone tu gli dai una serie di opportunità che da altre parti non ci sono allora non è una questione economica ma questo ne siamo stati in grado di dimostrarlo come è stato espresso anche come è stato espresso anche come è stato espresso nelle varie riserve che ci sono state e allora nel momento in cui nel momento in cui questo piano regolatore viene presentato in zona Cesarini io confido che si possa ancora accettare questa proposta fatta dai consiglieri dell'opposizione di dire se è vero come è vero che questo piano è valido se è vero come è vero che tutto il lavoro fatto tutto il lavoro dei documenti presentati se le discussioni il coinvolgimento che è stato fatto anche se qualcuno dice che in realtà non c'è stato alcun coinvolgimento e l'abbiamo appena sentito quindi non si riesce a capire fino a che punto è stato veramente condiviso questo piano o con chi è stato condiviso questo piano ma se è vero che è così buono e se è anche vero che lei signor sindaco non deve appuntarsi la medaglia al petto del piano regolatore perché tanto non si ricandida perché non possiamo semplicemente dire guardate mancano due mesi alle elezioni ci sarà un'altra maggioranza nel senso che comunque di certo non ci sarà più Pedrotti non ci sarà più Martina Toffolo non ci sarà più Romor probabilmente non ci sarà più Moro Flavio probabilmente non ci sarà più Moro Flavio e visto che appunto non ci sarà più questa maggioranza politicamente parlando ovviamente Assessore ma neanche allora visto che è tutto buono l'unica cosa sicura che rimarrà l'unica cosa sicura che rimarrà è questo è questo piano regolatore e allora io dico accettate per una volta i consigli da parte di chi siccome è l'opposizione ha studiato bene i documenti ha presentato delle osservazioni ben fatte che vi hanno anche messo in difficoltà nel momento in cui ve le hanno fatte e non sapevate più che pesci pigliare di fronte alle osservazioni fatte e vi siete dovuti rifugiare politicamente nel dire ah no la responsabilità è del tecnico e il segretario che dice ah beh io la responsabilità non me la prendo perché insomma se il tecnico mi dice che va bene allora io dico che va bene parere di legittimità ci sta politicamente non si capisce di chi sia la responsabilità però di certo quella dal punto di vista dell'interpretazione della legge il segretario la scarica sul tecnico e quindi questa maggioranza non si è neanche presa la responsabilità politica di quello che è il piano regolatore e allora dico se non vi siete neanche presi la responsabilità politica di questo piano regolatore e di come lo state approvando lasciatelo là approvarlo adesso o approvarlo come primo atto della prossima amministrazione visto che è buono non costa niente anzi l'unica cosa che può essere può essere positiva perché magari vi dicono guardate facciamo così non facciamo neanche più un intervento stradale perché per esempio Largo San Giovanni che doveva essere fatto a dicembre non so se lo sapete io sto aspettando l'interrogazione io sto aspettando l'interrogazione per sapere quando verrà fatto però ho saputo da Daniela Giuse sui giornali che quello andrà fatto dopo le elezioni allora ripeto ripeto signor sindaco Claudio Pedrotti alla fin fine alla fin fine io faccio l'interrogazione a questa amministrazione non ricevo risposte per un motivo o per l'altro non ricevo risposte e devo sentire da Daniela Giust e allora se Daniela Giust sa cosa succederà nel 2016 da giugno in poi facciamo in modo che si possa anche tranquillamente dire guardate come Largo San Giovanni anche il piano regolatore lo proviamo da luglio 2016 in poi perché se lei dopo dirà perché l'ha annunciato a mezzo stampa più volte in modi diversi che sarà lei a difendere questo piano regolatore dirà questo piano regolatore è così valido che non ci interessa forzare la mano nonostante tutto e andare oltre ed approvarlo soltanto con la forza dei numeri che avete oggi se avete il numero legale perché l'importante è approvare il piano regolatore in modo completo corretto e magari anche con un voto in più rispetto ai voti soliti che avete perché vorrà dire che avete accettato i consigli di chi come voi vuole il bene della città perché nessuno ha voluto bloccare niente perché noi siamo contro Tizio, Caio e Sempronio oddio ci siamo accorti che se una banca chiede di fare un auditorium con parcheggio sotterraneo in piazza 20 settembre guarda non serve neanche che me lo chiedi tant'è che hai dovuto fare la domanda e poi dopo integrazione perché probabilmente qualcuno ha detto guarda che forse è meglio se lo integri meglio mentre ad altri che forse non avevano lo stesso sponsor cosa volete mi dispiace mi dispiace e punto sì ma perché no mi dispiace mi dispiace ecco allora che quello che si vuole chiedere come avete accettato l'emendamento del collega Sperotto e vedo che l'avete accettato tutti ci mettiamo in stand by tanto sapete tutti l'inglese non in latino non è in latino e mettiamo tutto in stand by rivediamo bene tutto quanto compreso anche la questione relativa alle riserve e poi chi avrà la fortuna sfortuna di passare il giudizio popolare si ripresenterà qua ci sarà un'altra giunta di sicuro e avendo un documento valido lo si può approvare e sarà il miglior atto politico il miglior dono alla città che si possa fare perché in questo modo voi state facendo una forzatura in zona cesarini politicamente un atto scorretto e non vorrei che in realtà fosse un atto scorretto perché qualcuno vi dice che dovete farlo assolutamente e allora anche al collega salvador che dice io perché il collega salvador mi piace perché io e lui ci conosciamo da tanto tempo prima giocavamo a calcio abbiamo sempre fatto di sfida chi era più forte era sicuramente più forte lui secondo lui lui diceva che era più forte lui io non sono convinto no però è di sicuro caparbio è di sicuro caparbio tant'è che quello che volevo chiedere al collega salvador che ha presentato una lista con il nome pn 1291 che insomma sapete tutti che è il primo punto il momento in cui porterone dice noi siamo autonomi siamo liberi di prendere decisioni per quanto riguarda questa città allora io ricordo che il collega salvador era tra quelli che sosteneva fortemente l'ospedale in comina ma qualcuno gli ha imposto un'altra scelta allora visto che adesso ha preso come simbolo del suo del suo partito quello dell'autonomia di Pordenone dia un colpo di reni e dica questa volta non mi faccio imporre decisioni a nessuno nel nome dell'autonomia di Pordenone che rivendichiamo con il nostro simbolo e con la nostra lista noi possiamo decidere quando vogliamo di approvare il piano regolatore anche decidendo di temporeggiare perché siamo convinti che il bene della città non si debba per forza decidere prima delle elezioni ma per il bene della città debba essere deciso in modo più collegiale possibile e magari anche dopo le elezioni senza che nessuno imponga le decisioni politiche dall'alto questa sarebbe una scelta assolutamente contro l'autonomia di Pordenone guadagnata nel 1291 grazie 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 consigliere del santo prego era un po' che era un po' che non mi sentivate e così approfitto per rispondere alle provocazioni dell'amico Lopertido è evidente che siamo compagno è evidente che siamo in campagna elettorale perché di tutto ha parlato all'inforo del motivo per cui siamo qui noi oggi non dobbiamo parlare né di piano regolatore né di politiche future ma dovremo discutere delle osservazioni e quindi degli emendamenti a un piano regolatore che vi ricordo è già stato assunto votato ok quindi di fatto in realtà dedichiamo tutto il nostro tempo a parlare d'altro ma come volevo ricordare poi magari la stampa ma non vedo la media non so ne ho in sala che mi riprende a chi sente benissimo bene che mi riprende sul giornale e mi dice che del santo non si discorda mai di ricordare a tutti che mestiere fa no il mestiere che faccio io credo l'ho detto poche volte ma ricordo a tutti che i politici hanno davvero poca coerenza nel mio mestiere la coerenza è indispensabile perché dico questo perché con i medesimi argomenti qui dentro sentiamo il tutto è il contrario di tutto vorrei ricordarvi quante volte abbiamo sentito soprattutto dall'opposizione perché evidentemente questo deve fare anche questo deve fare che a Pordenone ci sono duemila appartamenti sfitti che bisogna cedici identificare ecco nel momento in cui si cominciano a mettere delle regole addio addio mamma questi vogliono impedirsi la libertà la libertà di costruire di identificare mettiamoci un po' d'accordo su che cosa vogliamo fare mi preme però caro compagno Lopertido tornare su un argomento tornare su un argomento ci sono degli argomenti che evidentemente vi sono talmente propri che non vi neanche vi accorgete di utilizzare un certo gergo anche all'interno della sala consigliare perché abbiamo sentito dal tuo amico e compagno di banco Ribetti usare la parola soldatino nel confronto del sindaco soldatino ragazzi no no e oggi stasera ascoltiamo Lopertido che dice che all'interno del partito di cui io vi onoro far parte ci sono i capi bastone evidentemente siete talmente abituati a queste figure a queste figure che non vi accorgete della male utilizzo che state facendo di queste argomentazioni siete talmente coerenti e soprattutto così come dire convinti di quello che fate che nella prossima campagna elettorale vi state mascherando non avete neanche il coraggio di usare il simbolo del partito di cui avete in tasca la tessera lo vedremo lo vedremo lo vedremo e vi nascondete dietro una civica scusa ma questo se la dovevo abbi pazienza allora allora di fatti di fatti vedo che comunque la moria vi è un po' passata perché fino a qualche mese fa voi qualcuno di voi anzi voi quel banco libera noi quando governeremo adesso avete cominciato a mettere il dubbio forse ci sarà Flavio Moro mi par giusto preoccupatevi preoccupatevi eh ma forse non ci sarà vuol dire che qualche dubbio e questo è il problema ma beh comunque non importa comunque qualche dubbio c'è e fate bene a farvi venire qualche dubbio io io assolutamente 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 io nel mio vengo all'argomento chiedo scusa nel mio nel mio mestiere e parlavo di coerenza prima nel mio mestiere mi hanno insegnato mi hanno insegnato e vi ricordo e voi vorrei che ve lo teneste a mente che il meglio è il nemico peggiore del bene tutto è fattibile meglio di quanto è stato fatto ma se dopo tre anni di approfondimenti e discussioni in merito al piano regolatore io personalmente ho partecipato a più di qualche decina vorrei dire una cinquantina di incontri tra quelli pubblici quelli con la maggioranza le commissioni urbanistiche di cui faccio anche il presidente beh io credo che un argomento non sia un argomento non sia stato altrettanto sviscerato quanto questo piano è regolatore benissimo allora la questione la questione importante la questione importante del nuovo piano due questioni importanti del nuovo piano regolatore motivo per cui è evidente che diamo la nostra totale approvazione alle scelte dell'amministrazione compaiono per la prima volta due termini compare il termine per equazione e compare il termine consumo di suolo zero sono due questioni fondamentali e di carattere politico caro Loperfido chiedo scusa volevo Loperfido scusami volevo soltanto riferire concordo su una cosa almeno su una cosa concordo con te non serve essere dei tecnici anzi per valutare un piano regolatore ci servono i tecnici che ci guidano ma la scelta è una scelta assolutamente esquisitamente politica quindi qui ci sono delle scelte fondamentali di carattere politico che sosteniamo e di cui siamo perfettamente convinti possiamo fare meglio potremmo fare ancora di più ma io mi accontento arrivo a dire che un passo dietro l'altro qui facciamo un passo molto lungo molto grande molto importante arriveremo anche a fare il meglio per ora mi accontento di fare il bene ci sono delle scelte che condividiamo e alle quali non rinunciamo ribadisco la parola per equazione mi piace tantissimo e il consumo di suolo altrettanto una questione importante e non vengo su questa questione semplicemente perché De Bortoli mi ha provocato sulla questione della regione ma la regione allora chi lavora sbaglia io l'ho sempre detto come imprenditore chi lavora sbaglia ha il diritto di sbagliare l'importante è che gli errori non vengono reiterati perché altrimenti diventa un problema ma può sbagliare anche la regione allora e se qualcuno di voi oltre che a leggere le osservazioni all'interno del gruppo qualcuno avrebbe dovuto restribuirle avesse letto quelle che sono state le controdeduzioni dell'avvocatura della regione stessa e che dice che alla regione signori avete sbagliato su questa valutazione beh forse non servirebbero molti altri commenti la regione l'ufficio dell'avvocatura della regione Friuli Venezia Giulia che dice alla regione avete sbagliato e sulla questione della perequazione quindi sulla osservazione sulla riserva più importante tra quelle individuate dalla regione ricordo che quella riserva parlava di illegittimità l'avvocatura della regione dice che è perfettamente legittimo che sta nei diritti del consiglio comunale e dell'amministrazione comunale quelle di prendere le decisioni riguardo all'aspetto per equativo termino dicendo semplicemente che è stato fatto un lavoro assolutamente positivo stavo per dire brillante ma non vorrei che l'assessore Toffolo si può montarsi la testa quindi accontentati Martina che ti do un bel 8 ma non ti do il 10 perché questo ce lo riserviamo la prossima volta prima di terminare Presidente mi sia consentito volevo illustrare un emendamento che è stato presentato e distribuito chiedo scusa ai colleghi che l'hanno ricevuto che magari visto che c'è la firma anche è un emendamento osso dire trasversale mancano alcune firme ma semplicemente perché personalmente ho fatto girare questo foglio e qualcuno è evidentemente è arrivato un po' in ritardo oppure ha scelto di non filmarlo per l'amor di Dio esatto no 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 c'è filmato anche da qualcun altro anzi ringrazio il collega Sperotto che ieri sera a tardissima ora si è ricordato di questa questione perché era passata in commissione ne avevamo parlato discorso e con questo emendamento chiediamo all'amministrazione di evidenziare un aspetto rispetto di cui avevamo già discusso e che era stato in qualche modo condiviso e chiedendo condizionando l'assenso all'osservazione della Banca Friulabria alla definizione di un accordo con la banca stessa che consenta l'utilizzo pubblico della sala consigliare che verrà scusate della sala convegni che verrà realizzata grazie grazie consigliere 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 Dalmas prego siccome il collega Loperfido mi ha chiesto intervenire ma gli avevo chiesto anche per piacere darmi un appunto perché io non sono molto preparato su questa mattina non sono addentro a queste complesse vicende del piano regolatore purtuttavia chi mi ha preceduto mi dà il destro per intervenire dovrei dire politicamente non so cosa significhi politica non esiste più c'è una politica in questo piano e credo che le osservazioni che ha fatto che ha fatto Lance parlo di queste parliamo di queste osservazioni che ha fatto Lance in realtà descrivano e siano fonte credo di preoccupazione per noi cittadini perché o le cose si scrivono tanto per scriverle oppure perché evidentemente sono meditate e in quelle osservazioni c'è chiaro chiaro netto in modo assolutamente inequivoco il fatto che quello che ho detto già ieri io ho tanto l'impressione che voi avete fatto un esercizio di stile secondo i canoni oggi ermeneutici di una certa sinistra che pensa che il bello sia più importante del vero sicuramente il bello è più efficace del vero e allora negli stilemi di alcuni concetti quali non consumo di suolo una città che ha delle invarianti sulle quali costruisce sul piano regolatore ma partendo da quello voi avete poi costruito un meccanismo per equativo compensativo di cubi edificabili di tutta una serie di cose le quali poi entrerò nel dettaglio di queste cose che non hanno anima semplicemente non disegnano niente non ci dicono niente di quello che volete fare non dicono a me personalmente niente di quello che sarà il destino dell'area a mano ad esempio di quello che sarà un contenitore che sarà sbottato nei prossimi anni che è tutta la zona del Bronx che non mi dicono e non ci dicono niente di come saranno gli investimenti produttivi commerciali la capacità attrattiva della città in ordine a queste cose anzi lancia dite guardate che l'operatore privato non è nelle condizioni con le regole che avete posto di poter dare certezza a un investimento finanziario questo è il tema questo è il tema peraltro di questi tempi avrebbe da dire non banali dove caro del santo del santo abbiamo circa 2.000 alloggi inoccupati dove negli anni precedenti abbiamo concesso con una certa allegria ma perché evidentemente il mercato lo richiedeva no? abbiamo consentito di edificare forse di più del dovuto del necessario e non avevamo una previsione corretta coerente del nostro fabbisogno sediativo abitativo condizione che voi oggi ponete ponete per decidere qualità tempi modalità di interventi e di contingentamento annuale delle quote di aree libere da edificare no no la stessa non non avrà modo di replicare dire che sono uno sciocco ignorante che non ha letto bene le cose anche se lo dicesse non mi offendo ma se l'associazione che ho citato prima ci dice nelle osservazioni che fa che non c'è nessuna certezza negli investimenti che la possibilità di edificare è subordinata all'acquisto di questi diritti edificatori volumetrici e nonostante l'acquisto di diritti edificatori volumetrici tu non hai poi certezza di poter realizzare il tuo intervento valga valga per il privato valga per il costruttore valga per l'immobiliare evidentemente tutto ciò confligge anche con un altro principio che è quello della proprietà e della possibilità di edificare sul suolo che viene rimesso ad una valutazione prettamente discrezionale dove su questo non solo sarà condizionata dal cosiddetto fabbisogno abitativo ma anche da quello che voi scrivete e cioè dalle diverse opportunità che si profilano annualmente criterio assolutamente discrezionale quali sono le diverse opportunità che si profilano annualmente mi è piaciuta la definizione che danno sempre questi signori dell'associazione costruttori dove dicono al riguardo che proprio su questo meccanismo della diversa opportunità è calidamente dissimulato sotto l'ingannevole denominazione di opportunità mi piaceva quel calidamente cioè astutamente no? Bene ritornando a che cos'è un piano o cosa dovrebbe fare un piano regolatore immaginare la città no? non la per le ragioni che ho detto prima non lo vedo non lo comprendo al di là di alcune informazioni di principio che fate però sui nodi risolti di questa città c'è il vuoto più totale c'era una grande opportunità che per la scelta inopportuna mi piacerebbe poi sapere quando interverrà il consigliere giust che ha annunciato nella stampa il suo intervento siamo qui in trepida attesa perché vorremmo conoscere il suo punto di vista in ordine a questo piano regolatore per cui se lei signora sarà il sindaco si troverà a dover gestire un piano regolatore del sindaco Pedrotti le consegna come un testimone il sindaco Pedrotti il quale sindaco Pedrotti una scelta l'ha fatta quella del piano regolatore sostanzialmente più di tanto direi no visto che non ci mette tanta passione su questo ma tanta passione ha messo nel decidere nel decidere che l'ospedale andava rifatto lì andava rifatto lì in quelle condizioni ora io non entro nelle questioni relative all'edificazione del nuovo ospedale nuovo vecchio ospedale di Pordenone come correttamente dovremmo chiamarlo mi limito ad osservare che la scelta che allora fece l'amministrazione precedente e comunque chi l'ha preceduta cioè il sindaco Bolzanello era evidentemente anche quella di considerare che una città come la nostra che ha avuto uno sviluppo urbano precluso nella zona forse più salubre della città nella zona nord che l'è stato sempre precluso per effetto di una quinta dovuta al combinato disposto di sediamento dell'ospedale più la caserma bene lì la miopia della sua amministrazione signor sindaco e il carattere improvvido della sua scelta ha tolto alla città la possibilità di immaginare uno sviluppo diverso nuovo quindi sull'area ma non dite niente sulla zona via Montreale assisteremo all'ulteriore incremento di confusione di traffico e quindi di una portata devastante rispetto alle scelte che ha fatto l'amministrazione comunale sulle altre cose investimenti commerciali in città non credo verranno per effetto di questo nuovo piano regolatore perché di fatto blocca tutto ed è un piano regolatore ribadisco per pochi per pochi che esclude coloro i quali appartengono alla cosiddetta zona grigia cioè non possono accedere al mercato immobiliare la possibilità di incidere nel mercato urbano di comprarsi la casa di potersi vedere assegnata anche una qualità dell'abitare diversa questa cosa non c'è in questo piano non c'è per una ragione molto semplice perdiamo mille abitanti dall'ultimo cento mille residenti dall'ultimo censimento aumentano del 25% gli stranieri gli over 65 una città che invecchia come un po' tutte le città italiane non avete nemmeno pensato a come costruire una città o un piano regolatore che tenesse in debito conto questa circostanza l'invecchiamento crescente della popolazione c'è nulla c'è pochissimo quindi dov'è la necessità di adottare questo piano al termine di una gestione di 5 anni di questa amministrazione che si è occupata dell'ordinario ha gestito l'ordinario di più non ha pensato se no una scelta l'unica scelta assolutamente sciagurata scellerata che è stata quella come ripeto e non posso evidentemente fino a che starò ancora per poco in questo consiglio comunale non ricordare e ribadire sì sì no ma è vero è tutto qua poi io non so se le riserve della regione saranno superate o sono superate dal da quello che proponete oggi avete proposto ieri non so se le riserve della regione impongono o comunque la modifica al piano conseguenza delle riserve impone di riadottare il piano questo non lo so però il parere che ha dato il segretario generale comune è così debole e mi spiace che non ci sia ma debole anche di difficile comprensione perché non è assolutamente chiaro ciò che dice non dico in contrasto con quello che ho detto ieri perché comunque la regione ha la possibilità di non rendere esecutivo il piano se ritiene non soddisfacente quello che viene approvato qui però c'è un po' di approssimazione c'è un carattere quasi stentorio nel modo in cui avete in cui siete andati avanti un piano partecipato avete ascoltato tutto il mondo avete ascoltato tutto il mondo per partorire che cosa semplicemente dei luoghi comuni la non il non consumo di suolo avete detto che la città questa è sviluppo ulteriore non ne avrà e sostanzialmente avete consegnato un piano che consente solo a pochi di poter stare dentro questo piano queste non sono considerazioni di Franco Dalmas che probabilmente ne capisce poco in generale queste sono considerazioni che fanno importanti associazioni di categoria che operano su questo non sono semplicemente etichettabili come speculatori del mattone questo è il tema non so lei assessore come pensa di rispondere a queste cose e non so se effettivamente lei può anche dal punto di vista della coerenza della coerenza politica ritenersi soddisfatta da questo piano quando fa l'esatto contrario di ciò che ha fatto negli anni precedenti con l'amministrazione Bolzonello quando lei è stata l'assessore che ha consentito l'edificazione del come si chiama il supercondominio no l'ecomostro l'ecomostro io la difesi nella circostanza perché non sono contrario c'è identificazione in sé però voglio dire ogni tanto dovrebbe anche riflettere cosa dovrebbe anche dirci si ammetta che ha cambiato idea che l'hanno chiamata a fare un lavoro completamente diverso quindi lei è al soldo di un'amministrazione che di volta in volta cambia cambia opinione anche se il colore e la bandiera rimane la stessa Pedrotti non è Bolzonello per certi aspetti c'è un bene per altri non lo so quindi penso che su questo a me personalmente io vorrei capire ciò le avrà dato qualche imbarazzo suppongo assolutamente no lei è assolutamente in grado razionalmente di rispondere su qualsiasi punto però lei è l'assessore dell'ecomostro lei è l'assessore dell'ecomostro che ha fatto della cementificazione insomma una cosa di un certo peso in questa città e oggi dice basta non si può più fare nulla quindi chiudiamo 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 poi c'è un'altra questione fatto un piano ma che non un dialoga con i comuni che stanno intorno fatto un piano che non si inserisce mi spieghi questa cosa che non si inserisce nelle uti fate un piano che non è un piano sovracomunale ma è un piano che è destinato a subire la forza insediativa dei comuni limitrofi e circostanti inutile che ricordi quali sono perché li conosciamo quindi sostanzialmente la fotografia è proprio questa e qui veramente chiudo perché sono in trepida attesa dell'intervento dell'intervento del consigliere giusto al quale ma però è spiccinato non so se lo ascolto adesso non ho voglia però dico del consigliere giusto perché ha annunciato questo intervento sui giornali evidentemente dovrà difendere la continuità delle scelte dell'assessore Topolo se lei è sindaco prenderà l'assessore Topolo a fare l'assessore urbanistica non so ce lo dica ce lo dica no no ce lo dica ce lo dica visto che lei ha accettato di stare qui in questa arena adesso si assuma anche la responsabilità nella sua duplice veste di candidato sindaco tra un paio di mesi al rinnovo delle elezioni comunali e di consigliere comunale e segretario del partito di maggioranza che regge questo comune rispetto al quale io personalmente vorrei capire qual è il suo punto di vista su un atto non banale ma un atto qualificante qual è quello del piano regolatore generale non è obbligato a farlo ma visto che ce l'ha detto sui giornali o forse un'invenzione giornalista non lo so questo ce lo ce lo dirà o ci spiegherà durante la campagna elettorale qual è il suo punto di vista sì perché mi rendo conto che di questi tempi a chiunque è dato la possibilità di candidarsi al sindaco io credo che questo sia la conseguenza dei social network sia la conseguenza di internet sia la conseguenza della possibilità e facilità con cui chiunque parla di tutto ed è bene questo è un atto assolutamente rivoluzionario democratico quindi uno si sveglia la mattina e dice faccio il sindaco di Pordenone non è il suo caso perché lei è un apparato una struttura un pensiero vorrei dire un'ideologia che la sorregge ma insomma questo sta accadendo credo che fosse Ferrarossia Ferrarotti non so chi altro abbia detto che all'epoca in cui viviamo è un momento in cui assistiamo degli imbecilli perfettamente informati tutti sanno tutto domani mattina non mi piace questa costituzione la riscrivo perché io Franco Dalmasco so meno di Pietro Calamandrei qualcosa no dico posso possiamo pensare così quindi per questo le chiedo le chiedo visto che ha accettato di stare qui io non do altro perché lei ha coraggio rimane qui in consiglio comunale e ci spiegherà qual è il suo punto di vista sul piano regolatore ben inteso poi ce lo dirà anche un altro candidato Gianelli già sappiamo la sua visione della città fatta di grattacieli di aeroporti ma ha una visione ha una visione quella che a voi è mancata perché voi avete una visione assolutamente contraria chi ha avrà di più chi non ha non avrà nessuna possibilità di accesso resterà sempre nella zona grigia resterà sempre escluso dalla possibilità del mercato e della edilizia abitativa questo è il tema questa è la sinistra la sinistra che voi avete che voi rappresentate che voi vi candidate a rappresentare il popolo è un'altra cosa il popolo soffre perché non c'è il lavoro abbiamo cinquantenni che hanno perso il lavoro famiglie in grandi difficoltà economiche imprese che non ce la fanno hanno chiuso proprio le imprese edili sono le prime che hanno chiuso ebbene rispetto a questo c'è una generica assoluta sufficienza anzi insufficienza di questo piano a questo non avete pensato non c'è scritto non ci avete trasmesso un'idea non siete stati convincenti avete solo posto degli inutili vincoli favorendo già chi ha la cosiddetta zona grigia diventerà zona nera questa è la questione cara consigliere giusto questa è la questione per cui io le consiglio di prendere le distanze da questo piano so che lei è una persona intelligente le consiglio di prendere le distanze da questo piano usi un escamotage giuridico dica che forse è necessario riadottarlo ma faccia qualcosa dica qualcosa ci dica qualcosa perché dobbiamo scegliere lei e non scegliere Pedrotti non abbiamo capito perché avete tolto Pedrotti dalla dalla corsa non l'avete capito perché non lo sapete nemmeno voi perché non lo sapete nemmeno voi cosa ha fatto di così male Pedrotti cosa ha fatto ha fatto tutto quello che avete chiesto beh sai il piano regolatore penso che sia assolutamente vedo che si iscrivono a parlare quindi il mio intervento serviva a questo ciao grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente no non parlo tutti i tecnicismi le questioni di merito che avevo già espresso l'altra volta rimangono agli atti e le ritengo tutt'oggi valide perché poco o nulla è cambiato rispetto alla precedente approvazione del piano aggiungo ribadisco determinati temi ad esempio dal mio punto di vista che questo piano non guarda al futuro o meglio lo guarda in ritardo nel senso che l'amministrazione di questa città sono ormai più di dieci anni che arriva sempre dopo arriva in ritardo rispetto agli eventi perché perché è chiaro che fino a qualche anno fa è stata cementificata la città in una direzione centri commerciali grandi palazzi eccetera eccetera adesso che la crisi morde e impedisce di far costruire perché basterebbe già la crisi per non far cementificare la città ulteriormente si diceva mettiamo un freno mettiamo un vincolo così non si costruisce più niente siamo bravissimi e non ci sarà quasi nessuno a lamentarsi dico quasi perché qualcuno c'è sempre giustamente ma non ci sarà quasi nessuno a lamentarsi perché chi oggi viene qua ad investire a costruire che ci sono oltre duemila tra appartamenti sfitti e invenduti chi viene a chi viene voglia di cementificare ancora quello che poi non si può vendere e allora non mi si venga a dire che era una grande necessità quella di dire basta il cemento se non c'è più nessuno che vuole costruire ecco che allora si è arrivati ancora in ritardo perché questo doveva essere fatto dieci anni fa perché cemento ce n'era già abbastanza dieci anni fa e siete dieci anni in ritardo e questo è molto importante perché significa che voi agite con l'istinto opposto di quello che dovrebbe essere fatto cioè non a tutela della città ma a tutela di quello che non viene fatto quindi adesso diciamo eh no c'è il piano regolatore per forza non si costruisce perché l'abbiamo deciso noi dopo anni che non si costruisce niente perché c'è la crisi ma questo piano regolatore è anche il problema opposto nel senso che appunto impedendo di costruire nuovamente non da più uno sbocco futuro dovesse domani finire questa crisi economica io non credo che finirà domani forse neanche dopo domani ne riparleremo probabilmente tra una decina d'anni probabilmente tra una decina d'anni questo anche per questioni di ostruzionismo di una Germania che è rimasta 200 anni indietro nella concezione economica ma questi sono altri ragionamenti però questo piano ha il grosso difetto di essere stato preparato nonostante l'ampio periodo di ragionamento che si è presa questa amministrazione per produrlo però ha il difetto grosso di essere stato portato veramente in fretta con con questa spasmodica necessità di essere approvato il giorno prima delle elezioni per sbandilarlo in campagna elettorale e questo secondo me è un peccato originale di cui questo piano purtroppo sarà macchiato perché non avrà tutte le necessarie precisioni come avrebbe dovuto ed è in dubbio che comunque riconosco che questo piano regolatore sia stato anche per certi aspetti coraggioso e abbia delle positività però è stato più un dialogo che l'amministrazione ha portato avanti cercato di portare avanti con una parte della cittadinanza che poi è sempre insolita perché alla fine però ha il merito di aver cercato di coinvolgerla mentre l'amministrazione non ha praticamente dialogato con l'opposizione nella stesura di questo piano regolatore e quindi dico io perché sono anche nella commissione sono nella commissione adatta insomma che si è occupata di questo e di dialogo nella stesura insomma direi che non ce n'è stato e questo secondo me è un problema che non dico che va a inficiare l'importanza di questo atto però diciamo che può essere privato di una parte importante della visione che ha questa città che di cui l'opposizione che ricordo l'ultima volta al primo turno facevamo tutti assieme il 60% e che quindi è importante il 60% nel portare la visione a una maggioranza quindi è mancato un po' questo tipo di visione poi cos'altro è mancato ricordo ripeto i tecnicismi li lascio all'intervento dell'altra volta che feci ma questa volta riporto alcuni dati politici questo piano è un po' fuori dal mondo è nato vecchio perché lo dico perché non tiene in considerazione né l'Uti né il dialogo con gli altri territori confinanti quindi le altre città gli altri paesi ed è non è stato concordato con loro in una maniera organica che possa dirsi effettivamente che domani mattina che verrà approvato e sarà in vigore sia un qualcosa che possa dare un nuovo respiro completamente sia da un punto di vista viabilistico che da un punto di vista fluviale o naturalistico ma invece rimane vincolato ai vecchi schemi e questo è un peccato perché visto che era è un mattone che dovrà portare avanti la struttura e la costruzione di questa città per un bel po' di anni e sarà difficile che nel breve periodo e con un breve periodo parlo anche di 50 anni qualcuno si rimette a rimettere mano salvo grossi sconvolgimenti a questo piano perché è un documento che comunque assorbe enormemente le energie di un'amministrazione e quindi un'amministrazione che si dedica in maniera così importante come ha tentato di fare questa insomma ha fatto nella politica dell'oggi è difficile perché è difficile perché si tende più a privilegiare purtroppo la visione del del qui ed ora e quindi pensare a un piano regolatore che probabilmente toglie qualche voto all'amministrazione invece che portarlo perché non è un qualcosa di di elettoralmente spendibile in senso stretto diventa difficile che qualcun altro torni a metterci le mani sarà solo per eventuale necessità del momento e quindi dico ancora un peccato maggiore se c'è stata una mancanza di dialogo con l'opposizione da questo punto di vista però ci sono altri aspetti negativi che vorrei rimarcare il discorso delle perequazioni non mi è chiaro non sono stato folgorato sulla via di Damasco da questa introduzione stilistica quasi verrebbe da dire perché la trovo piuttosto arzigogolata poi c'è stato il problema del periodo di riserva in cui non si è potuto costruire per un determinato periodo e che qualche scompenso e qualche danno sicuramente l'ha portato a diversi cittadini non cambiava niente se non si utilizzava lo statuto di quel tipo di non mi viene il nome di istituto nel senso che alla fine qualcuno avrebbe avuto diritto a completare determinate cose o a far partire determinate cose finché da oggi il punto zero si ripartiva ben sapendo che cos'era per cui non è che sarebbe cambiato il mondo se si permetteva di ultimare determinate cose ad alcune persone io credo che insomma sia stata una lesione del diritto acquisito che avevano alcuni che da oggi da domani sarà diverso ma che fino a ieri era diritto loro di poter fare nel loro terreno e quindi in qualche modo l'amministrazione si è arrogata al diritto di dire no tu decido unilateralmente non puoi più fare questo finché non si sa poi è arrivato il termine siamo arrivati a questo passaggio e quindi da domani mattina sarà diverso e tutti non avranno più questo diritto però anche il discorso che era stato fatto all'inizio quando era stato presentato questo piano del più o meno 30% dei cubi io ricordo ancora lo schemino che venne proiettato lì appunto dove ci faceva vedere l'assessore che con il 30% di cubi in meno e il 30% in più della possibilità di costruire in classe A il cittadino rimaneva a pari che poi matematicamente non è neanche vero ma che invece alla fine dei conti tutto questo si ritraduce in un danno nelle tasche dei cittadini perché alla fine questo è perché se poi uno deve costruire il 30% in più attraverso la classe A che è molto più costosa è un bene per tutti ma si detassi si faccia qualcosa in più però non è neanche più il 100% di prima che aveva perché 100 meno 30 fa 70 70 più 30% non fa mica 100 e quindi questo va ricordato quindi è sicuramente un piano regolatore che ha delle che ha dei punti positivi e sicuramente c'era necessità di mettere un freno a una a una a una cementizzazione perché quello che c'è ce n'è abbastanza e bisogna assolutamente ripuntare nel prossimo futuro a innovazioni dal punto di vista strutturale e riqualificazioni ristrutturazioni piuttosto che nuove cementificazioni però è evidente che questo poteva essere fatto in maniera più lineare forse anche meglio grazie grazie consigliere consigliere Giannelli prego consigliere Giannelli consigliere Zanotto signori consiglieri lo aspettavo di intervenire dopo consigliere Giannelli volevo guardarmi un po' lo spettacolo ma insomma no no tranquillo tranquillo nessun problema signor sindaco signor consigliere nessun problema allora mi è piaciuto molto l'intervento di Loperfido perché sei stato un grande politico sì qua dentro noi siamo stati eletti per fare politica cioè per ragionare e discutere su quello che ciascuno di noi pensa che sia che siano le scelte migliori ovviamente dal suo punto di vista per la città ed è con questo spirito che io personalmente il gruppo del fiume ha affrontato questa vicenda del piano regolatore per una città avere un piano regolatore vuol dire avere un'idea di un certo tipo così siamo chiari di come dovrebbe svilupparsi la propria città di che futuro dovrebbe avere di quali sono gli strumenti tecnici operativi e amministrativi per ottenere quel risultato quindi non è solo una scelta politica generica ma è accompagnata da una serie di strumenti e di valutazioni tecnico-economiche e amministrative che accompagnano questa scelta allora questo è quello che abbiamo fatto da quando abbiamo cominciato l'iter di questo piano noi abbiamo cominciato coinvolgendo diciamo così la gente cominciamo così vediamo un po' che idea e ci sono arrivati due segnali molto chiari molto chiari basta cemento la dico così la dico così come viene basta cemento e vediamo se quello che c'è lo possiamo mettere a posto questi sono stati segnali molto chiari che abbiamo ricevuto pensavamo all'inizio pensate che fosse solo la solita opinione del cittadino di sinistra ambientalista che aveva una serie di e invece sapete sapete che cosa che in quella fase tutti pensavano la stessa cosa l'ance pensava la stessa cosa gli architetti pensavano la stessa cosa l'ordine degli ingegneri pensava la stessa cosa la regione Frioli e Venezia e Giulia i programmi politici delle varie forze politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale pensavano la stessa cosa la minoranza l'ha appena detto l'ha appena detto ok ha detto non va bene allora abbiamo cominciato così poi abbiamo detto cerchiamo di capire se troviamo degli strumenti tecnico-amministrativi sofisticati adatti a definire queste scelte e abbiamo cominciato a ragionare di merito col progettista del piano ci dispiace che probabilmente finiremo stasera no? no? allora lo ringrazieremo domani lo ringrazieremo domani stravolentieri ok? senza problemi noi ringraziamo il redattore del piano come tecnico dell'assessore non ha bisogno allora fino a quando siamo arrivati al dunque che cosa ci hanno detto tutti? tutti ci dicevano bloccherete la città la regione non vuole ok? allora mi spiegate quali sono stati gli interventi che sono stati fatti in città quali sono state le idee che sono circolate in città da quattro anni a questa parte dove è stato? me li spiegate le idee sono circolate perché le abbiamo messe in circolo noi con le proposte del piano regolatore altrimenti idee proposte interventi lottizzazioni chiamateli come volete zero zero cioè tutti i famosi soggetti economici che dovevano intervenire che in qualche modo hanno detto qualcosa su questa faccenda non sono intervenuti zero proposte zero idee allora cos'è successo? c'è stata la crisi se voi mi dite qual è la soluzione a questo problema di questa crisi storica io vi finanzio vi do i pochi soldi che ho perché se fosse qualcuno che ha la soluzione al problema di questa crisi è chiaro una sola cosa sappiamo che la fase precedente a questa fase storica promossa da certe idee di governo e di orientamento politico ha determinato un sostituto di abitazioni incompatibili con il mercato negli anni 70 c'è stato lo sviluppo di Fordenone sono state trovate case per migliaia migliaia di famiglie quindi lo sviluppo è la casa per le persone negli ultimi 10 anni sono state costruite le abitazioni e non sono state occupate vuol dire che quello sviluppo non era in sintonia con la città non era in sintonia era in sintonia ovviamente con determinati interessi che comprendo dal punto di vista economico ma non comprendo dal punto di vista politico amministrativo o meglio non sono d'accordo con questi interessi tant'è che siamo arrivati al dunque al dunque che abbiamo 2000 alloggi non ce n'è uno che venga occupato cioè questo tasso è fisso da almeno 5 anni rispetto a questo quando noi abbiamo iniziato il dibattito sul piano regolatore zero proposte zero idee zero progetti dov'è domani si è intervenuto adesso devo rispondervi no? no non importa facciamo finta che ci sia dov'era l'ANCE dov'era l'ANCE in quel periodo dove erano gli voglio un bel dell'anima e lì rispetto ma dove erano l'ordine degli equitetti l'ordine degli ingegneri o altri che poi hanno fatto delle osservazioni scusate la franchezza ma noi abbiamo bisogno che questa città ritrovi le sue energie e riparta comunque comunque noi abbiamo un'idea di come pensiamo che debba ripartire e l'abbiamo concretizzata in quello che noi chiamiamo piano regolatore è un'idea dei prossimi vent'anni dei prossimi trent'anni io voglio citare due aspetti di questa idea il primo è questo magari sarà banale l'attrattività una persona non si avvicina una persona di questo secolo o meglio di questo periodo storico non si avvicina ad una città se la città non è in qualche modo attrattiva chi vi parla ha portato il figlio al Politecnico di Milano sabato a vedere il Politecnico che è uno spettacolo dal punto di vista urbanistico quello che io vedevo su internet ho detto il campus il campus a Milano vedevi una foto su internet che era straordinaria il campus della Bovisa sono andato lì e non mi sono mica accorto che c'era questo campus perché è contenuto all'interno di un gruppo di case però quando ti avvicini e quando lo vedi dici bello qua voglio studiare migliaia e migliaia di studenti che volevano venire a studiare lì che cosa li attraeva la percezione che in quel posto si sarebbe studiato meglio se noi riusciamo a comunicare a chi ha 20 anni o 30 anni che si sta mettendo su famiglia che anche se spende qualcosina in più a Fordenone sta meglio che a Fordenone si è da sano noi abbiamo fatto probabilmente il grosso del lavoro di pianificazione è chiaro che non possiamo farlo domani o dopo domani è un ragionamento di medio periodo di lungo periodo la seconda questione è questa l'equilibrio noi non dobbiamo più mettere mano a questa città per la premessa che ho fatto che ho fatto 5 minuti fa perché ce lo dicono tutti ce lo dicono tutti l'equilibrio cioè rimettere a posto in equilibrio quello che c'era in equilibrio fra le abitazioni in equilibrio possibilmente con la natura la natura ce l'abbiamo qua vicino si chiamano il cielo si chiamano altre cose allora questo è quello che personalmente come gruppo del fiume abbiamo percepito in tutta questa operazione del piano regolatore adesso ovviamente tutti dicono non va bene non va bene allora mi permetto di rispondere con pacatezza serenità con calma ma con fermezza ad alcune considerazioni buon va bene l'ospedale non c'entra ok quindi l'ospedale non c'entra abbiamo deciso fate una ragione è finito ok allora sapete che cosa mi aspettavo io personalmente il mio gruppo in tutta questa fase di redazione del piano se eravamo preparati ad una battaglia politico-culturale importante se eravamo preparati se pensavamo che una componente culturale della nostra città quello che ci diceva che con questo piano avremmo bloccato l'economia della città fosse presente preparasse dei documenti preparasse delle emozioni preparasse degli interventi facesse convegni facesse come zero zero eh il consiglio del mar mi perdoni ma citare adesso l'ance dopo quattro anni di lavoro mi pare un po' strumentale molto strumentale neanche loro ci chiedono più a questi ragionamenti neanche loro se voi guardavate l'intervista al presidente regionale dell'ance di circa una decina di giorni fa su Rai 3 la mattina alle 8 avreste capito che anche loro stanno ragionando in maniera molto seria su queste problematiche perché si tratta di capire come usciamo da questa crisi economica che cosa facciamo facciamo ancora cemento o ci proviamo seriamente a trasformare le cose in un determinato modo e anche l'ance regionale si interroga su queste cose quindi non siamo fuori schema siamo assolutamente in schema allora noi abbiamo sostenuto questo piano regolatore dall'inizio cosa cosa allora tranquillo tranquillo non c'è problema non c'è problema perché non l'ha detto allora quando il piano regolatore è stato approvato giusto per la prima volta adottato la prima volta ci aspettavamo ci aspettavamo un insieme di comportamenti cioè io ho un buco normativo no ci eravamo chiesti perché avevamo fatto alcuni provvedimenti ponte per in un certo senso garantire che la continuità di questo piano avesse avesse luogo ci aspettavamo delle pressioni zero zero pressioni allora probabilmente se posso dirla probabilmente abbiamo ragione noi probabilmente pianificando in un certo modo e ragionando in un certo modo sulla città noi creiamo in maniera più efficace determinate condizioni perché anche le strutture economiche e amministrative possono intervenire con dignità e facendo profitto e facendo profitto quindi ottemperando a quegli obiettivi economici che molte forze economiche hanno e magari chissà se riuscivamo a trovare un po' di equilibrio facendo un po' di soldini in più facendo star meglio la gente che non sarebbe proprio male che non sarebbe proprio male allora adesso se posso dirlo scusate perché adesso tutti dicono che la prossima volta chissà chi ci sarà chi non ci sarà non so cosa succederà la prossima volta ma io posso dirlo con grande se mi permettete con grande orgoglio e anche affetto per quattro anni noi abbiamo partecipato come gruppo del fiume come maggioranza alla redazione di uno strumento importante mi risulta che uno strumento di questo tipo in Triuli è stato fatto da tre città nel Triveneto da nessuna di queste caratteristiche da nessuna noi abbiamo costruito uno strumento che lasciamo alla prossima amministrazione completo forte efficace non incompleto chi prenderà in mano chi sarà il prossimo settore all'organistica chi sarà il prossimo sindaco avrà in mano già un materiale su cui lavorare è un materiale sicuramente complesso e sicuramente che ha bisogno di ulteriori spinte ma politicamente crediamo che queste scelte non facciano che bene alla nostra città grazie consigliere Giannelli prego allora che cos'è la città l'essere umano quando smise di fare il nomade e divenne sedentario si fermò in un posto e cominciò a coltivare la terra gli animali eccetera si accorse che altrettanto avevano fatto aveva fatto della gente da un'altra parte più o meno vicina allora cominciarono andare uno verso l'altro e cominciarono a fare un sentiero da due nuclei dopo un po' di anni se ne formarono quattro allora non era più solo un sentiero ma erano due sentieri che si incrociavano laddove questi due sentieri si incrociavano nacque la città che cos'era? era un posto dove la gente diceva si può vivere bene perché non c'è solo il mio villaggio ma c'è quello anche del vicino e la città che cos'è? nient'altro che costruzioni dopodiché il vivere e anche rapporti relazioni cultura sanità eccetera ma siccome stasera parliamo di città ebbene chiarire che comunque un piano regolatore deve far crescere valla trasformare una città niente di più niente di meno cioè se una volta negli anni 60 70 le città crescevano oggi crescono oppure si trasformano io avevo deciso di fare un intervento un po' più politico quasi elettorale come chi mi ha preceduto ha fatto invece non è giusto io vi dico solo che cosa pensiamo anzi cosa penso di questo piano intanto un dato il piano regolatore di Pornemone doveva costare 143.000 euro è venuto a costare 243.000 euro lo sapevate è aumentato del 70% contratto iniziale 143.000 euro 47,60 integrazioni nuovi professionisti indennità seminari 243.000 euro 4 anni di lavoro per far questo quando è andato in regione mi sarei aspettato un parere che diceva wow ragazzi ci avete messo tanto avete speso il 70% di più però come diceva la Martina Tofforo che figata non ha detto che figata ha cominciato a dire pretende bisogna pretendere che venga chiarito il quadro delle scelte portanti attraverso rappresentazioni appropriate e correlate alla zonizzazione all'interno dei quali queste scelte devono essere variate direttamente evitando al Consiglio Comunale di dover obbligatoriamente impartire nuove direttive politico amministrative parere della Regione e poi ancora a un certo punto la Regione poiché non è stato affatto chiede di rappresentare nel piano operativo nella relazione di flessibilità anche gli elementi previsionali poiché non è stato fatto obiettivi e strategie affinché gli stessi possano essere definiti e rispettati nel trasferimento alla zonizzazione ricordato il livello di incoerenza del piano nella definizione degli obiettivi e delle strategie deve essere fatta una ricomposizione delle varie componenti ok e poi nella riserva 7 dice testualmente questa nuova modalità ci riferiamo alla tanto decantata attività dei crediti volumetrici chissà quando si andrà da un notaio a rendere un credito volumetrico cosa succederà comunque questa nuova modalità di attuazione non è prevista nella legislazione regionale la regione ribadisce che non è possibile limitare l'attività privata riconosciuta dalla legge articolo 42 della costituzione la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento non venite mi voglio dire del parere regionale che è spuntato e ha detto no no beh ma si può fare gli avvocati sanno che così come ho un parere bianco domani mattina me ne faccio fare uno rosso i pareri non sono la legge la costituzione parla quindi a fronte di un parere regionale così pesante io mi aspettavo che l'assessore e il sindaco si mettessero di traverso e dicessero ma scherzate questo è un piano rivoluzionario nel Veneto e nei Friuli non ce n'è bisogna andare a Ferrara per trovarne uno io che lavoro a Ferrara e pari pari identico però è una cultura che non mi appartiene no non hanno fatto questo voi voi avete fatto i soldatini che avete detto ok 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 mentre a 150 cittadini non 1500 e neanche 15 cittadini a parte 31 a tutti gli altri gli avete detto ma va posso modificare non se ne parla alla regione anche quando ha sparato cazzate paurose gli avete detto ok 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 cambiamo ma abbiamo solo 15 giorni per approvare il piano perché dopo decadiamo ok va bene va bene 11 riunioni prima neanche una poi 11 riunioni per dire va bene va bene e speriamo che valla bene perché se non va bene non è tanto facile come ha detto l'architetto ieri sera se alcune questioni di merito non sono riportate negli elaborati l'approvazione non è valida perché un piano è fatto di documenti cartacei e di elaborati grafici salvo che non li facciano di notte come siamo qui per me la riadozione è d'obbligo però siete voi al potere adesso vorrei per piacere un po' di risultato un po' di risultato allora vorrei vedere l'osservazione 45 adesso vi spiego vi spiego perché io ho sostenuto pur apprezzando il lavoro fatto dai professionisti dall'assessore perché io non dico che non è stato fatto un lavoro dico che è stato fatto un lavoro con un'impostazione bolshevica e talebana 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 allora l'estratto di piano del nuovo piano regolatore eccolo là è oblunga la cosa comunque allora qui alla banca popolare che ha chiesto la saturazione del lotto o mille metri di coprotutti che ha chiesto di fare un auditorium glielo avete dato al cittadino che ha chiesto di poter fare la robetta no alla banca popolare glielo avete dato io non ho niente da dire poi vi inventate questo emendamento patetico che dice va bene vi abbiamo dato tutto quello che avete chiesto cioè saturare il lotto i parcheggi i parcheggi degli standard li monetizzeranno perché sono ricchi loro possono farlo il cittadino non può emendata prevedendo nella scheda specifica che la realizzazione dell'intervento badate bene venga vincolata alla sottoscrizione di una convenzione tra il richiedente e la pubblica amministrazione finalizzata a garantire l'uso pubblico gratuito della struttura per un numero d'anni cioè la banca popolare dice va bene siamo vincolati a darvi la struttura gratuitamente ma se sono io la chiara mia la chiara mia dico ma ma state scherzando ma chi ti avete presi per Babbo Natale ehi ehi guardate che vi abbiamo dato niente un po' di meno che la possibilità di fare un volume enorme senza parcheggi perché il piazzaretto che c'è dentro sono gli standard di quando hanno costruito la banca mentre il cittadino guardate questa proprietà qua è la parte del parco Marchi questo è il parco San Valentino questo qui è il parco Marchi di proprietà privata della famiglia Marchi la speranza del vecchio Marchi che poi è morto recentemente poverino era quella di cedere il restante parco alla città e per far questo si era riservato vedete quel rettangolino rosso lo vedete bene? allora questo questo grande rosso qui sono 37.000 metri quasi 8 campi da calcio quel rettangolino lì sono 900 metri che servivano ai due figli del povero Aldo Marchi per farsi la casa una casa binata come quelle case Italo Raffin il povero Giannino Furlan e avanti vedete quelle casette lì? ecco quel tassello rosso erano 900 metri che la proprietà aveva detto se un domani cederemo il parco alla città però i miei figli si fanno una bella casa binata 900 metri risposta dell'amministrazione come per la Banca Popolare no la la 48 questa ecco voglio dirvi questo è il modo di fare urbanistica ok? perché sicuramente quei 900 metri infigiano 7-8 campi di calcio di giardino ma siccome ecco per piacere la 48 voglio che sia messo a microfono naturalmente io non ho nessun tipo di incompatibilità perché non sono né parente né affine della proprietà Marchi e comunque tanto dopo non voto il piano per cui però mi è servito perché sono casi che conosco tra l'altro la proprietà le ha detto sarebbe bello fare un piccolo tennis club privato vicino alla scuola lo facciamo in terra non in plastica in terra rossa 37.000 metri quadri una ricca società romana decide di investire in città si chiama Paradiso anzi si chiama Dea Rimobiliare S.P.A. che investe in giro per l'Italia comprano una grande area al Paradiso e decino di fare un centro commerciale arriva la crisi il centro commerciale non parte come vogliono loro allora ferma tutto vanno dal sindaco e dall'assessore e dicono sindaco noi abbiamo ancora fiducia crediamo in questa città si parte con una società molto importante non è l'investimento di 10 milioni non è però crediamo in questa città ci mettiamo in stand by non vogliamo costruire una cattedrale nel deserto diteci cosa volete siamo qui il sindaco può testimoniare perché lo presenta all'incontro diteci cosa volete noi siamo qui investiamo perché crediamo che Pordenone sia una città che può dare ristore economico a noi ma tutto quello che viene per la città questa proprietà ha pagato l'area per avere 15 mila metri quadri di superficie commerciale il nuovo piano regolatore prevede 1500 metri quadri cioè gli hanno detto si 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 oh grazie guardate che avevano già pagato 900 mila euro di Buccalossi che dicevano beh insomma che restino lì vabbè prima o poi faremo qualcosa ok credevano nella città e la città gli ha detto da 15 mila metri 1500 questo è il sistema con il quale hanno trattato i cittadini col piano regolatore talebano veniamo adesso allora questi due esempi mi sono serviti per dirvi come la città viene trattata da chi deve pianificarla il piano regolatore che non avete fatto e che noi avremmo voluto era un piano regolatore diverso sì grazie mi sono voi allora chiarisco subito una cosa è il mio mestiere credetemi siccome adesso si è parlato ho sentito dire anche prima ci sono 2000 appartamenti vuoti cosa ha fatto Sergio Borzonello ha cementificato la città cosa facciamo fino al 2010 quindi a crisi iniziata e la crisi era una bolla speculativa non era edilizia chissà anche cosa vuol dire non c'era un appartamento invenduto da me venivano imprenditori che facevano i condomini chiamiamoli così o i palazzi e vendevano tutto a un certo punto arriva la crisi e si ferma il mercato a uno che lo deve fare presto demolite un appartamento quando l'hai fatto se è fatto bene in classe A chiudi la chiave e non va male mi garantisco che non va male ormai era arrivata la crisi io ho fatto personalmente l'intervento più importante in città che è corte del bosco e vi garantisco che l'impresario ha detto io boh qua non si vende più niente le banche non danno più soldi e non è il cittadino che non vuole più comprare i mutui sono finiti non crediamo più e quindi vabbè resterà là i prezzi non sono corollati resta là quindi sfattiamo sta storia che fino a ieri abbiamo dato e adesso dobbiamo paura di costruire non è vero qui signori il problema non è la quantità è la qualità però quando si parla di trasformazione bisogna a parte credo i volumetrici non ci credo non esistono sono burocrazia pura sfido i notai e i contabili a pagare le tasse su questi crediti io vado a vendere vado a vendere ecco qua 100.000 euro di crediti e chi ha dato il credito ha controllato se la classe A è vera o no perché io faccio ristrutturazioni in classe gold non ha di più ma vi garantisco che ci fanno un mazzo così per controllare bucano i muri per vedere se la stiferite che ho dichiarato ha quella densità se però uno guarda l'appartamento e dice bello classe A ok e poi il credito è truffa non è il terreno che andiamo dal notaio se io notaio vendo il mio terreno 100.000 euro foglio mappale ok crediti burocratia casini dici e e e e e e ristrutturare una città vuol dire mettere in atto un sistema virtuoso con il privato immaginatevi che piazza 20 settembre con i bei condomini di piazza 20 settembre debbano essere portati in classe A così basta che ci sia uno che dice no io non vado fuori di casa cosa facciamo dobbiamo rifare tutti gli impianti tutte le colonne montagne i bagni le facciamo serramenti impermeabilizzare fare il capotto e dove mandiamo la gente allora si instaura un processo virtuoso che dice sindaco il sindaco io sono sindaco immaginiamo chiamo il privato gli dico stai attento io ti do l'area tu ci metti dei bellissimi bungalow e cominciamo a trasferire la gente che deve stare tre mesi condominio per condominio bagni nuovi pavimenti piccoli bungalow quelli belli che trovate in vacanza e poi a rotazione portiamo le famiglie per poter mettere mano cioè trasformare questa città questo è un processo l'unico possibile perché il privato è proprietario cioè o lo convince ad andare fuori o non è che puoi cambiare la dorsale i montanti dei tubi dell'acqua che sono marci se dentro c'è la gente che abita giusto? questo processo è possibile solo col privato e allora il piano regolatore deve invogliare il privato a venire a Pordenone il sindaco deve dire cosa vuoi tu per investire a Pordenone questo e io questo ti do signori soldi non ce ne sono più io oggi ero in regione e hanno illustrato al ministro Costa che è il ministro che segue le regioni tutti i gruppi politici hanno detto non abbiamo soldi voi non ce le date anzi li dobbiamo pagare ok soldi non ce ne sono questo piano non coinvolge il privato non fa niente per dire trasformiamo e possiamo anche crescere perché crescere vuol dire prendere degli isolati fatti da dieci billette pagare bene le billette queste billette vengono demolite al posto delle dieci billette viene fatto un bel palazzo con i parcheggi sotto con 4 o 5 negozi con belle camere con il verde dappertutto oppure seguendo la teoria di Giannelli e di Le Corbusier che nel 25 1925 diceva costa più portare un autobus a 3 km o un ascensore al 60esimo piano allora liberiamo le aree facciamo giardini andiamo in alto ma è un altro modo io ho fatto un'osservazione in questo senso che mi è stata miseramente bocciata è un altro modo di pensare alla città però se vogliamo dobbiamo solo immaginare di trasformarla non avete fatto niente per il futuro sono previste un paio di centrali biomassa e il teleriscaldamento per la città Brescia andate a vedere Brescia quasi la metà della città è riscaldata dal teleriscaldamento è previsto in qualche modo un sistema virtuoso per compensare l'intervento del privato no non c'è non c'è è un piano regolatore che si è riempito la bocca di slogan il verde i corridoi ecologici io purtroppo ho perso il foglio dove mi ero annotato un paio di osservazioni e la gente chiedeva di poter tirar via il corridoio ecologico dove è possibile fare di tutto tranne che mandare il proprio cagnolino senza paura che scappi fuori arrivo alla parte finale di quello che avremmo voluto noi come piano regolatore Aldo Rossi il compianto maestro dell'architettura e dell'urbanistica moderna che la Martina Toffolo conosce bene e che mi onoro di aver avuto come professore chiamava il locus quel punto strategico attorno al quale la città ripresse riparte quel famoso incrocio col quale ho iniziato la storia in lina vi ricordate l'incrocio degli uomini primitivi Montparnasse a Parigi era un quartiere degradato improvvisamente sorge per il magnifico grattacielo nero attorno al quale riparte tutto il tessuto urbanistico di quel quartiere esistono dei locus dei fatti urbani che vanno centrati dal piano regolatore perché sono i punti attorno ai quali la città ripartirà il Bronx il cotonificio a man le caserme di fronte all'ospedale il centro di studi la rive rasca Giannelli vuole costruire sulla rive rasca non c'è città al mondo che non abbia costruito sul fiume e ne abbiamo anche vicine passano a Sacile treviso o terzo ma non parisi londra ok ma ammettiamo che io sto sbagliando comunque la rive rasca non può rimanere una circonvalazione con le signore e i vecchietti come me che vanno a passeggiare non esiste è un posto di qualità attorno al quale l'imprenditore deve dire cavolo faccio passare le macchine sotto la strada la faccio sotto in fondo è un rilevato costruito nel 1920 sì non è storia non è una collina morenica faccio passare la strada faccio i parcheggi sopra faccio bei negozi ufficetti e poi abitazioni pensate che alla mattina uno si sveglia guardando il fiume e alla sera cena guardando l'abside del duomo io cercarei subito a abitare non vado a abitare al verzo vengo a abitare a Pordenone allora Pirelli Real Estate vieni ti vado investire in città cavolo che bel progetto allora la gente tornerà come diceva Pasolini Vers Pordenone nel mondo in una sua famosa poesia Pordenone negli anni 60 e l'ottimo de Bortoli l'ha detto ricordando quando è arrivato qua era l'imbuto era il collettore di tutto il nostro territorio c'erano idee voglia di fare avranno sbagliato ma il primo grattacielo del Friuli Venezia Giulia e del Veneto è il grattacielo Santini e voi vi ricordate era il locus dove ci troviamo lì del grattacielo come dire in stazione come dire ai giardini fatti urbani quella volta avevano capito che era il motore per far ripartire la città in città abbiamo una decina di posti strategici che sono stati totalmente ignorati dal piatto non è acqua è città finisco con Piazza della Motta ce l'abbiamo qua vicino e il nobile interrompimento io sindaco chiamo il privato e gli dico senti io ti do l'area io comune ti do l'area tu fai un grande scavo costruisci i parcheggi cinque piani di parcheggi per chi abita in centro storico guadagnerai costruendo e ti tieni due punti più dei botte in CCT perché è giusto che tu al posto di mettere i tuoi soldi in botte CCT quindi in situazioni parassitarie investi nella mia città e poi vendi i parcheggi a chi viene abitato in centro storico però li vendi a 15.000 euro a posto macchina non 40 15 allora chi arriva in centro storico compra l'appartamento perché sa che è al posto macchina e voi sapete che è al posto macchina senza il posto macchina oggi non si compra nulla questo era l'ultimo esempio anzi un esempio per dirvi che il piano regolatore doveva investire sul privato non c'è speranza per il futuro o il sindaco prende il privato e gli chiede facciamo assieme ripartiamo assieme o la città è destinata a morire voi avete fatto questo piano 41 secondi voi avete fatto questo piano in scadenza di mandato pregate il signore di vincere le elezioni perché altrimenti avrete buttato via 4 anni e 243 mila euro perché se vinciamo noi lo buttiamo l'accesso grazie consigliere consigliere giusto prego grazie presidente insomma io ho sempre pensato che il consiglio comunale fosse il posto adatto per discutere dei problemi della città ho riscontrato stasera non era neanche la prima volta che invece è già diventata un'arena di campagna elettorale mi dispiace di questo atteggiamento che sconfina alle volte in come dire affermazioni che sento cariche di cariche forse troppo ma insomma connotate da un certo livore da un certo sarcasmo e che esulano dal contenuto stesso del dibattito che questa sera è in corso credo che il consigliere lo percido che forse non vedo qui sia davvero spaventatissimo l'idea che io possa diventare sindaco della città di Fordenone perché più volte si è rivolto al sindaco Pedrossi dicendo ma allora il sindaco no questa qui che fa affermazioni come se fosse lei io non ho mai oltretutto preannunciato interventi dichiarazioni non è nel mio stile entro tuttavia nel merito dell'argomento e questo piano regolatore ci ha impegnato questa amministrazione moltissimo e quindi le affermazioni di improvvisazione di superficialità credo che siano davvero inopportune è un piano regolatore che ha coinvolto in un lungo percorso partecipato la cittadinanza e le categorie proprio con lo scopo di far emergere le criticità di un sistema urbano che aveva bisogno di soluzioni urbanistiche innovative io credo veramente che sia un piano che raccoglie la sensibilità ambientale e sociale a cui oggi nessuno di noi può più rinunciare quindi un piano regolatore che non poteva che passare attraverso questi valori fondanti di un'amministrazione che consegna a chi verrà una città che ha fatto una città in cui ci sono delle scelte forti di fondo tiene conto questo piano delle fragilità del territorio e anche delle fragilità del tessuto abitativo gli assi portanti del piano li abbiamo ricordati varie volte e sono del tutto condivisibili perché questo è un piano che mette in sicurezza il territorio è un piano che punta a regolamentare il consumo del suolo con una compensazione a favore delle aree verdi queste sono scelte di sfondo non di poco conto e i principi tanto nominati in questi giorni della rigenerazione urbana e della progettazione intercomunale indicano oltretutto una visione europea che si trova in linea con le città europee che hanno fatto scelte ancora forse più coraggiose energiche delle nostre penso ad esempio a Friburgo come esempio che potrebbe diventare anche di sviluppo di una green economy non di poco conto i concetti di riuso di riutilizzazione urbana di efficientamento energetico applicati alla pianificazione della città futura sono principi cardine per una città non in espansione ma in rigenerazione evidente comunque che la complessità di questo piano di cui tutti abbiamo avuto evidenza ha stimolato nel corso del lungo processo partecipativo numerose osservazioni e riserve credo fosse veramente inevitabile l'elenco delle osservazioni regionali dei privati delle categorie sta a documentare esattamente la portata del cambiamento e proprio per la delicatezza del passaggio che questo nuovo modo di concepire la città porta con sé io sono convinta che la prossima amministrazione dovrà dovrà accompagnare il cambiamento che è contenuto come fondamentali direi assessore di questo piano garantendo nei piani attuativi l'apertura di tavoli di concertazione per una ottimizzazione degli obiettivi comuni da raggiungere la gestione del piano insomma dovrà lasciare ampi spazi di confronto con i portatori di interesse le imprese edili i comparti correlati i professionisti di settore in modo da agevolare la gestione ottimale delle opportunità innovative che ci sono in questo piano opportunità che rendono e renderanno la nostra città veramente attrattiva sul piano economico residenziale e ambientale e permettetemi infine insomma di sottolineare come questo lungo lavoro sia stato un lavoro che ha visto nella commissione e nella qualità del lavoro di tutti ma certamente della maggioranza che lo ha appoggiato un lavoro qualificato e francamente sentir parlare di schiavizzazione di una maggioranza che solo preme il pulsante per dire signor sì non rende ragione di un ragionamento lungo che è durato veramente molto tempo e che certamente adesso accompagna in modo favorevole questo piano fino a qui ma è evidente che questo piano avrà bisogno di realizzazioni di concretezza e come ho detto poco fa è una concretezza sulla quale bisognerà assolutamente riaprire i confronti con la cittadinanza e con tutti i tavoli che noi sicuramente avremo cura di aprire grazie grazie consigliere giusto mi potete cancellare il nome del consigliere Giannelli protesi bene signori se volete fare il primo intervento iscrivetevi perché se no altrimenti devo chiudere il primo intervento bene nessuno è iscritto pertanto chiudo il primo intervento passiamo adesso al secondo intervento consigliere Freschi prego grazie presidente sono intervenuto ieri sera per cui cercherò soltanto di fare dei brevissimi passaggi allora ritengo che ci sia stata un'ampia articolata approfondita discussione sia in sede di di commissione sia in sede di di consiglio e che questo piano abbia avuto un percorso una genesi direi altrettanto partecipata è chiaro che nel momento in cui discutiamo un piano regolatore discutiamo quelli che sono stati gli indirizzi di un'amministrazione come quando ci mettiamo a discutere di un bilancio cerchiamo di traguardare il futuro attraverso i numeri nel caso di un piano cerchiamo di traguardare quella che sarà la vita collettiva attraverso delle regole che andranno in qualche modo a comporre il tessuto il tessuto urbano della città partendo da una analisi sociologica del territorio cosa che è stata fatta e che è stata anche approfondita ecco nel momento in cui ci apprestiamo a dar vita ad un nuovo strumento è chiaro che abbiamo davanti tutte le incognite che un nuovo strumento può in qualche modo presupporre e diciamo che queste incognite sono già state in qualche modo delineate nel momento in cui le abbiamo adottato e sono state anche sottolineate da alcuni passaggi delle riserve passaggi che hanno avuto una loro puntuale precisa anche risposta nel momento in cui le riserve parlano di regolamento che il piano va accompagnato da un regolamento penso che sia stata attenzione di questa amministrazione proporre immediatamente quale poteva essere il regolamento da approvare in seduta comune alle osservazioni al piano regolatore il regolamento che ci è stato anche spiegato e approfondito dall'avvocato Stecanella che abbiamo avuto tutti in modo di ascoltare e di percepire quali sono le novità certamente ci troviamo di fronte ad una ad una novità il fatto stesso che nelle riserve ad esempio si parli ad un certo momento della facoltatività della compensazione è un altro passaggio che ci ha messo in qualche modo di fronte ad una possibile soluzione alternativa a quello che era un po' la rigidità del fatto di aver adottato il piano con determinati criteri questo è stato in qualche modo anche recepito ed è stato ritrasmesso ed è stato rielaborato il fatto stesso delle riserve ci parla di una sperimentazione su questo capitolo evidentemente quando si parla di sperimentazione anche da parte di colui che fa la riserva significa ci si trova di fronte ad uno strumento nuovo sul quale bisogna in qualche modo fare anche dell'allenamento cioè capire cosa si va a fare diciamo che stare fermi e muoversi ci sono due aspetti diversi stare fermi guardiamo cosa ci accade intorno muoverci forse vuol dire anche dare incontro a qualche rischio ecco ma pensiamo che in questo momento in cui siamo tutti attanagliati preoccupati e anche un po' tristi da ciò che ci circonda dalla crisi economica che dal 2008 in qualche modo imperversa perché Giannelli faceva riferimento al 2010 buon per lui però le famiglie sentono la crisi dal 2008 perché dall'estate del 2008 sono cominciati i primi licenziamenti i primi ridimensionamenti dal punto di vista lavorativo significa che bisogna avere anche il coraggio la forza di dotarci di strumenti nuovi per poter traguardare il futuro questi strumenti non possono essere certamente risolutivi infatti questo piano nel momento in cui sarà operativo dovrà per forza di cose poi essere tradotto nel pratico attraverso altri strumenti lo dice il piano stesso lo dicono le riserve ci saranno tutta una serie di passaggi di varianti che in qualche modo andranno ad attuare quelli che sono i principi generali di questo piano perché se non affrontiamo il discorso con questa chiave pensando che questo è lo strumento che viene applicato come fosse una norma tassativa alla quale dobbiamo attenerci senza prevedere nulla nulla di diverso e nulla di dinamico significa che siamo ingessati invece questo piano introduce dei criteri anche di flessibilità che certamente hanno bisogno di essere sperimentati sperimentati sul campo e qui convengo con il consigliere Ragianelli non convengo con le sue soluzioni anche se anch'io sono affascinato dall'architetto Le Corbusier però certamente lui faceva riferimento anche a degli spazi ristretti in cui bisognava operare in altezza ma noi questi spazi ristretti non 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 li abbiamo per cui questo fatto di vabbè vabbè ma il principio il principio è quello è il principio sia di palazzi sia delle casette a schiera che parte sempre dal principio del poco spazio che va sfruttato in altezza e comunque al di là di questi aspetti a cui lui è molto affascinato e che io penso che la città di Pordenone per le sue caratteristiche non sia adattabile a quei principi ma al di là di questo il fatto che dobbiamo mettere sicuramente in relazione invogliare il privato a venire in città per cui significa dare al privato gli strumenti per poter in qualche modo avere l'interesse ad intervenire è chiaro che questo diventa il focus il momento il punto il momento principale di un'evoluzione che deve avvenire e lui faceva riferimento specificatamente ai palazzi della zona centrale della città i palazzi che sono datati che sono degli anni 60 dove c'è stato uno sviluppo perché questa città lo richiedeva nel senso che avevamo un'espansione di tipo economico legata al manifatturiero principalmente che richiedeva maggiori abitazioni ora queste abitazioni hanno bisogno di essere in qualche modo riviste hanno bisogno di essere in qualche modo rigenerate e il piano parla appunto di questo dobbiamo però fornire gli strumenti di attuazione di questo piano attraverso tutta una serie di passaggi che avverranno dopo è qui che entra in gioco la capacità dell'amministrazione di essere statica o dinamica di fronte alle richieste che verranno in qualche modo avanzate e qui vanno giocate le carte per il futuro nel senso che va messo in campo tutta la possibilità di fare in modo che queste situazioni anche di tipo strutturale che sono datate possano essere in qualche modo rigenerate lo spazio per fare questo penso ci sia la volontà penso ci sia per cui si tratta di metterla di metterla in atto ecco questo piano in qualche modo però ha dato delle direttive ha dato delle linee guida che sono la base di un vivere diciamo sano all'interno di una città che tutti che tutti amiamo e che vorremmo vederla più bella vorremmo vederla più verde vorremmo vederla più a portata a portata di tutti penso che noi viviamo in una città che ha queste caratteristiche si tratta soltanto di esaltarle di svilupparle quando io sento parlare della tristezza che la nostra città in questi ultimi anni eccetera 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 ma mi chiedo ma voi da Pordenone non vi spostate cioè rimanete sempre in centro città non andate a Treviso non andate a Udine non andate a Conegliano dove c'è scritto affittasi vendisi negozi attività di smesse non fate mai la strada che da Pordenone va a Udine e nella parte tra Campoformido e Udine c'è solo un vendesi e un affittasi non lo fate mai perché nel momento in cui localizziamo il fenomeno alla città di Pordenone che è tutto triste vuol dire che non abbiamo la visione a 360 gradi ma la facciamo allora in maniera strumentale mi pare un po' un po' un po' riduttivo io penso che noi con questo strumento ci diamo una strada sicuramente potrà essere una strada con delle incertezze ma le incertezze fanno parte della vita vanno affrontate le incertezze vanno anche in qualche modo governate penso che questo sia uno strumento che ci aiuti non sarà certamente risolutivo ma è uno strumento che ci aiuti se non altro ha aperto un dibattito un dibattito profondo a cui molti hanno partecipato a cui molti hanno dato il loro contributo io ho cominciato a seguirlo dalle prime fasi al Palazzo Badini e vi dico che moltissime persone anche inaspettatamente incuriosite dal fatto di poter partecipare ad un percorso innovativo e nuovo vi hanno partecipato per cui questo penso sia un modo per mettere in circolazione idee per mettere in circolazione sensazioni sensibilità per cui questo penso sia la strada che in qualche modo ci è stata così delineata e che va percorsa ecco io per la mia cultura politica non ho nessun capo bastone penso di essere libero da questi condizionamenti per cui le mie scelte le faccio in tutta libertà e in tutta sincerità per cui rimando rimando a chi l'ha detto prima il fatto che seguiamo un capo bastone tra l'altro è un linguaggio è una così allegoria che non appartiene alla mia cultura per cui assessore grazie del lavoro che ha fatto lei con tutta la squadra certamente non è da parte mia farle le lodi non voglio neanche che che sia in qualche modo incensata troppo perché non è così è un lavoro che è stato messo in piedi è un lavoro che ha richiesto fatica è un lavoro che ha dato delle direttive è un lavoro che richiederà come dicevo ieri sera anche da parte della macchina amministrativa penso che il dirigente Toneguzzi e i suoi colleghi ne siano pienamente consapevoli richiederà un forte sforzo perché seguire tutte le procedure che questo piano comporta non sarà un percorso facile penso solo al discorso della come si può dire del governo dei registri per quanto riguarda i diritti a cui facevamo riferimento anche ieri sera ecco per cui grazie e penso che ci sono tutti i presupposti per poter fare un percorso serio grazie consigliere nessun altro iscritto consigliere Tavella prego io io non ho fatto nel primo farò solo questo ah ok meno male che ho trovato un pertugio per poter dire qualcosina e probabilmente quello io ho seguito poco quello che avete fatto in questi giorni per problemi personali che grazie a Dio ho risolto io no la sanità pubblica è risolto e perciò magari ripeterò delle cose che altri avranno già detto ma voglio soltanto che sia agli atti quello che è il mio pensiero personale insomma sicuramente avrei voluto seguire molto più da vicino perché ritenevo molto istruttivo per la mia persona egoisticamente parlando di seguire le esposizioni che ho visto velocemente l'altro giorno quando Martina pardon l'assessore ha esposto e senz'altro sarebbe stato qualcosa di interessante per me ma tralasciando questo aspetto meramente personale io faccio un ragionamento che non entra assolutamente nell'aspetto tecnico perché non ne ho le competenze non ne ho le capacità quindi andrei a fare a dire delle resi e le lascio invece intervenire chi queste cose le conosce molto meglio di me mi domando solo che non ricordo nel vostro programma elettorale se avevate inserito o meno il la ristrutturazione non so se la parola è corretta il mettere comunque nel predisporre il nuovo piano regolatore per per la nostra città ma sia che fosse inserito che non lo fosse sono entrambi elementi che mi fanno pensare in modo non positivo ma forse soprattutto per voi ma non lo ritengo corretto verso i nostri cittadini perché siamo proprio in addirittura d'arrivo fra tre mesi o meno andremo andremo a votare pare ci sia molta bagarre in entrambi gli schieramenti e quindi non non possiamo dire magari con certezza o con maggiore diciamo convinzione la riconferma di un'amministrazione o l'insedimento di una nuova o addirittura una terza mettere un piano regolatore approvarlo correre per approvarlo prima che scadano i termini e poi andare subito al voto con il rischio di cambiare completamente l'amministrazione e non sto ne dicendo che vince una parte o che vince l'altra certo è che per chi esce è un grosso rischio perché se quelli che escono quindi se l'attuale compagine di centro-sinistra dovesse vincere le elezioni ben venga perché allora ha investito correttamente ma se dovesse perdere è quello che diceva Giannelli e quello non so se l'ha detto anche altri ma sicuramente venne preso rimaneggiato o se dovesse vincere l'amico Franco addirittura cestinare completamente davanti ai cittadini non sarebbe assolutamente un passo un passo bello e quindi quello che mi rammarica è questo no? quindi averlo aver fatto questa questa azione di fare un piano regolatore adesso io credo che una delle motivazioni per le quali magari molti cittadini non andranno a votare credo una delle motivazioni può essere anche questa cioè il fare delle cose fare la cosa giusta nel momento sbagliato mi domando perché non è stato fatto come prima azione è chiaro che non è che un piano regolatore lo si faccia in 24 ore in 48 ore o in un mese e mezzo come una patente di guida per carità ci mancherebbe ci sarà voluto un anno non è mezzo ma poteva cominciare appena appena siete partiti o magari poteva pensarci chi vi ha lasciato l'amministrazione che insomma era abbastanza facile capire che poi sareste sareste ritornati voi a governare farlo adesso secondo me è un passo azzardato forse anche politicamente non non favorevole perché magari hai accontentato qualcuno e avrai senz'altro non accontentato altri quindi la mia perplessità è tutto molto semplice sia da consigliere comunale ma da cittadino ho parlato mi sono confrontato con alcune persone che mi hanno chiesto informazioni su questo piano regolatore ma chiaramente li ho indirizzati verso persone che hanno più conoscenza di me però c'è questo diciamo questo poco gradimento di quest'azione fatta così in zona Cesarini tutto qua quindi se poi magari la gente non andrà a votare magari può dipendere anche secondo me da questo per il resto vi auguro che possa andare a buon fine e buon lavoro e bravi per chi ha lavorato fino ad oggi perché non sono entrato nel merito ma sicuramente il lavoro è stato fatto un lavoro reggio grazie 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 non vedo nessun altro iscritto pertanto ritengo di poter dichiarare chiusa la discussione e do la parola all'amministrazione per le repliche prego assessore grazie presidente beh intanto ringrazio il consiglio per la pazienza e per questi giorni di presenza perché la maratona non è stata indifferente certo è che oggi arriviamo alla parte conclusiva di un iter lungo che è durato quattro anni perché la costruzione di un piano regolatore è un processo molto complesso che vede la compresenza di molteplici questioni che vanno affrontate tutte con la stessa serietà ed attenzione e questo lo abbiamo fatto nell'ottica del cercare di dare alla città uno strumento che fosse e che accogliesse una visione diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato coerentemente con le richieste di quei tempi la stesura dei piani regolatori principali dal mio punto di vista ogni strumento urbanistico è figlio della sua epoca oggi dovevamo confrontarci con altre esigenze con altre sensibilità e con una struttura completamente diversa che si è andata costituendo negli anni che ha chiesto che ci fosse una modalità diversa di interpretazione della città e di consegna per il futuro della stessa grazie prima di usci scusate ma ho sentito una ventata dietro sembrava definitiva e in quest'ottica noi abbiamo strutturato questo piano regolatore inizio con con una frase che ha detto il consigliere Freschi che ha ripetuto anche rispetto al suo intervento di ieri cogliendo pienamente quello che è la natura dello strumento del quale andiamo a proporre l'approvazione questo non è uno strumento chiuso ingessato è uno strumento che andrà gestito nel tempo che identifica delle modalità che mette dei paletti molto strutturati su alcune questioni che parte del presupposto che noi non possiamo più considerare il nostro territorio come infinito infinitamente riutilizzabile o manomissibile ma che lo dobbiamo tutelare e su questo poggia una struttura che governata dovrà portare come obiettivo alla rigenerazione della città costruita quella città che noi viviamo e per la quale sentiamo la necessità però di un rinnovamento non è vero che c'è una discrasia con Ance non è vero perché Ance nei suoi programmi nazionali per prima insieme all'ordine degli architetti a lega ambiente in tre hanno affrontato e hanno messo le basi di un progetto come Riuso che è una volontà politica di individuare proprio nella capacità della città di rigenerarsi una delle azioni principali della città stessa il problema che noi oggi abbiamo è che di fronte alle tante dichiarazioni di intenti non abbiamo di incontraltare delle modalità provate o effettivamente e approfonditamente declinate per vedere se sono efficaci per il risultato che vogliamo ottenere però tutti ci chiedono a noi nel nostro piccolo ma a livello nazionale quale potrebbe essere invece la metodologia che rinnovi le nostre città salvaguardando l'ambiente rendendole salubri sane e quindi attrattive abbiamo cercato abbiamo immaginato che le soluzioni contenute in questo piano possano dare anche queste risposte ma siccome neanche noi abbiamo la sfera di cristallo e siccome tutto questo è una sperimentazione abbiamo pensato di mettere anche degli elementi che ci aiutino nel tempo a controllare i risultati di quello che facciamo e quindi a poter individuare delle modalità modalità atte a rendere sempre più congruo con quello che è l'obiettivo il percorso per arrivarci abbiamo avuto naturalmente delle osservazioni da parte dei cittadini è logico stiamo proponendo un modo diverso di interpretare la città e le abbiamo avute anche dai confronti della regione e anche la regione non si è espressa in modo superficiale anzi è entrata nel merito ma è entrata anche nel merito rispetto al fatto che la nostra regione è una regione che ad oggi sconta una necessità di rinnovamento della normativa relativa alla pianificazione perché ad oggi i funzionari non possono che chiedere la coerenza con gli strumenti pianificatori che per la regione si sono affermati e sono ancora quelli del 1978 per fortuna il resto questo sa chi nessuno lo può cioè mi fa piacere che lei lo interpreti in questo modo io ho visto dal mio piccolissimo osservatorio che altre regioni hanno provato altro e hanno anche messo in gioco altre dinamiche credo che queste dinamiche siano importanti perché sono in linea con delle visioni che sono magari lontane da alcuni di noi ma che si pongono in un'altra ottica nei confronti della tutela del territorio il il territorio come elemento prezioso è un presupposto ed è un presupposto che noi abbiamo voluto e vogliamo consegnare ai futuri cittadini di Pordenone quando viene detto che questo piano regolatore non ha una visione posso dire che questo piano regolatore non ha una visione di espansione ma dal mio punto di vista una visione ce l'ha e ha la visione della cittadina di 50.000 abitanti che ha l'intenzione di rendersi attrattiva per la qualità di vita che riesce a fornire ai propri cittadini che riesce a fornire grazie alla compresenza e all'equilibrio tra la città costruita e la città naturale per quello abbiamo delle visioni diverse ma sono naturalmente tutte lecite solo che noi abbiamo voluto con questo strumento tutelare questo e lo abbiamo fatto con estrema serietà e lo abbiamo fatto grazie anche alla visione e all'apporto che persone che vengono dal di fuori di Pordeone che ci hanno saputo guardare con occhi diversi dai nostri hanno saputo aggiungere e darci come qualità aggiuntiva hanno voluto fornirci degli strumenti ma anche una percezione di ciò che è Pordenone diversa da quella che abbiamo noi e credo che questa sia stata un'esperienza importante per noi perché ci hanno fatto focalizzare altri punti di vista che avevamo negli anni perso o ridimensionato tutto la questione dell'energia del potenziamento degli assi verdi dei corridoi ecologici del definire un limite alla parte urbanizzata del ripensare le parti centrali della città in funzione di una sua rigenerazione del condizionare ma non è vero del relazionare fortemente la rigenerazione della città con la trasformazione dei nuovi dei terreni ancora liberi ma soprattutto del pensare che tutti noi siamo parte attiva nella rigenerazione della città che anche il singolo cittadino può trovare interesse ad intervenire questo lo abbiamo avuto grazie alla sollecitazione che è partita dai cittadini che hanno partecipato a Pordeone più facile e tra questi cittadini c'erano tutti c'erano gli ordini c'erano associazioni di categoria c'erano i portatori di interessi ma c'erano anche i singoli portatori di interessi che sono i singoli cittadini che vivono la nostra città e hanno saputo costruire questa mappa che ha trovato delle risposte che sicuramente saranno migliorabili saranno in divenire ma che sono strutturate con un'ottica diversa rispetto a quella che era l'ottica passata io vorrei per concludere ringraziare oltre a i professionisti che ci hanno assistito i cittadini che hanno partecipato dall'inizio perché ci sono stati perché hanno potuto seguire perché sono stati utili sono stati utili perché hanno condiviso e hanno dato a noi una visione e una indicazione di quello che cercavano come risposte da questa amministrazione ringrazio la maggioranza che ha sostenuto le scelte di questo piano regolatore che non sono state scelte facili sono state scelte complesse perché hanno messo in discussione dinamiche che erano consolidate nel tempo e questo coraggio io lo riconosco pienamente quindi ringrazio totalmente la maggioranza di questa volontà di sostenere una modalità diversa ringrazio il sindaco che lo ha permesso perché è stato uno è stato il primo che ha voluto e accettato questa sfida e naturalmente ringrazio gli uffici che si sono messi seriamente in discussione nel loro ruolo perché recitando il consigliere freschi la sfida in gran parte poi sarà loro perché sarà una modalità diversa di gestire un piano regolatore perché questo sarà un piano regolatore che andrà che avrà delle cose per noi innovative ma che sono già state usate in molte situazioni quindi non è un salto nel buio lo sappiamo e che però dovranno diventare anche traduttori di tutti quegli elementi incentivanti che andranno promossi per il territorio quindi dovranno diventare da no anzi assumere un ruolo nuovo che è quello del proporre oltre che del controllare i giusti percorsi e questa è una sfida che gli uffici sono sicuramente in grado di affrontare e ringrazio tutti coloro che anche con le critiche anche con le perplessità anche con i timori hanno in fondo anzi non in fondo hanno espresso nelle loro parole un amore nei confronti della città è vero un piano regolatore è uno strumento di lungo respiro uno strumento che pensa di pianificare per la città per i prossimi trent'anni sicuramente quello che noi abbiamo messo e stiamo cercando di confermare come base con l'approvazione di questo strumento è far sì che questo strumento sia più attento e più in linea con quelle che sono oggi le nostre esigenze di tutela del nostro territorio e di trasformabilità del nostro territorio e quindi è una sfida è una sfida diversa ma è una sfida che io credo la città e noi tutti si sia in grado di giocare giocare pienamente perché in fondo è la modalità con la quale noi vogliamo consegnare la città nel futuro grazie a tutti e grazie per il lavoro svolto solo breve qualche breve commento penso sia necessario anche se ricordo che al termine della prima tornata che abbiamo avuto sul sul piano regolatore credo che avessimo dato una chiara indicazione dell'importanza di come questo passaggio del piano regolatore veniva visto come un segno per il futuro alla fine qualche cosa con cui noi abbiamo stabilito come chi verrà dopo con l'amministrazione comunque si dovrà confrontare ecco però prima di parlare un attimo non solo di questo devo per forza rispondere ad almeno il 30% del tempo che è stato speso nel nostro dibattito e voglio dire di tutte le osservazioni e gli ricchi passaggi che sono stati fatti da un punto di vista adesso la tengo lunga questa parte da un punto di vista dell'eloquenza della ricchezza di linguaggio che riguarda il fatto che io non mi ricandido che per così per inciso non è che avesse una grande valenza rispetto alla tematica di questa serata io so che ho stabilito con la mia decisione un diciamo un esempio insolito io sono un politico non abituale e quindi è ovvio che abbia dei comportamenti insoliti è stato insolito anche il fatto che io abbia deciso di servire questa città cinque anni fa perché è vero che dopo un confronto con le forze che poi hanno sostenuto la mia candidatura sono arrivato ad essere eletto per merito delle forze che hanno sostituito dato corpo alla mia candidatura ma io non sono espressioni di lobby non sono espressioni di consorterie non sono espressioni di categorie di nessun tipo e questo l'ho proprio dimostrato in questi cinque anni tanto è vero che in qualche passaggio recentemente mi è stato anche rimproverato io non sono uno che ha dei marchetti di tipo particolare e quindi stranamente visto che ho pensato che un politico come entra anche se vuole e se ritiene opportuno e se ritiene per la sua vita di fare una scelta molto precisa di questo tipo se ne può anche andare lo so che è insolito che un politico se ne vada per io me ne vado punto e il fatto che il sottoscritto fino all'ultimo secondo come ha sempre fatto nella sua vita farà il suo servizio ve lo posso garantire ve lo dimostrerò io appartengo ahimè a quella razza un po' come si dice miteleuropea con una formazione calabrese visto che ci sono stati dieci anni quindi sono tipicamente italiano doc che quando si impunta alla fine le cose le fa fino all'ultimo secondo ed è proprio una delle caratteristiche nostre degli italiani alla faccia di quelli che dicono che noi non abbiamo la determinazione degli anglosassoni quando noi siamo determinati non ce batte nessuno ricordatevelo questo è lo spirito con cui sono entrato e con cui me ne vado e il fatto che noi con una certosina pazienza abbiamo fatto fronte alla navigazione piuttosto tempestosa diciamo che abbiamo avuto con questo piano regolatore soprattutto all'inizio è inutile andare a ricordare diciamo aspetti pulizieschi di indagine che hanno tenuto pagine e pagine di giornali della nostra coronaca all'inseguimento di pennuti e nonostante questo siamo qua pensate un po' nonostante questi siamo qua e siamo qua con una caratteristica un carico di cambiamento di cui io magari modestamente ma sono abbastanza fiero quindi non dubito che chi dal punto di vista amministrativo verrà dopo di noi avrà agio di osservare di modificare di applicare eccetera però consentitemi dirlo questo dopo 40 anni noi qualche cosa l'abbiamo fatto e abbiamo segnato un qualcosa una specie di misura in cui i concetti di cui oh non c'è un evento andate e fatevi un giro su internet che se parli del Brasile che se parli della Russia che si parli di qualsiasi paese al mondo non c'è un contro di esperti di urbanistica di architetti di quello che volete voi che alla fine non dica che sulla rigenerazione urbana noi ci dovremmo giocare una fettina del prossimo futuro con un impegno beh insomma noi oltre a dirlo abbiamo cercato di mettere delle regole si poteva fare di più sempre si poteva fare di meno anche quindi alla fine noi qualcosa l'abbiamo fatto questo secondo me è la è la vera eredità che mi piace pensare che noi diamo se qualcuno la vuole buttare nel cesso è un gesto importante perché dovrà fare una decisione dovrà dire se sarà eletto alla città che a fronte di un lavoro che è stato fatto che insomma tutto sommato ha speso alcune alcuni dei nostri neuroni alla fine alla fine non ci interessa lo buttiamo via ma dovrà dirlo chiaramente e dovrà giustificarlo ed è per questo dico che noi dobbiamo nel male diamo una una certa misura termino parlando del confronto serrato che abbiamo avuto con la categoria con l'ANCE in particolare che è stato nominato spesso e volentieri era ovvio che avessimo con l'ANCE ma parlo in generale delle categorie ma l'ANCE diventa emblematico abbiamo l'abbiamo anche detto prima è chiaro che all'interno di ogni categoria ci sono per definizione pensieri diversi poi la rappresentatività è un'altra cosa però insomma noi abbiamo avuto dei momenti in cui il confronto ci era sembrato anche particolarmente positivo per il lato innovativo che andavamo a introdurre della rigenerazione ecco io ho un messaggio dal cuore che do a l'ANCE ma come andando in giro soprattutto nell'ultimo anno e mezzo per le nostre imprese mi piace sempre condividere cioè quello dell'innovazione praticata innovazione praticata allora io veramente do un messaggio perché so che le intelligenze e le volontà fattive all'interno della categoria sono tante non possiamo pensare io ho sentito quello che diceva Franco Giannelli che rispetto molto e che stimo per la sua intelligenza ma non mi sembra che Franco Giannelli diciamo interpretando una parte del pensiero dell'ANCE proponesse dei modelli diversi rispetto a quelli che oggi hanno portato ad una situazione di stallo come questa quindi io veramente il mio messaggio a questa parte della nostra imprenditoria è di capire come i loro modelli alla fine possano trovare un elemento effettivo di innovazione noi ci auguriamo di averla aiutata e stimolata questa come si dice evoluzione della categoria se non ci siamo riusciti ci abbiamo provato non sempre abbiamo sentito dall'altra parte lo stesso desiderio ecco io credo che per il futuro visto che loro rappresentano una parte della economica estremamente importante questo aspetto di vabbè l'abbiamo provocati va bene ma che ci dicano alla fine con un chiaro ritorno dove come vogliono innovare faccia parte dell'agenda della nostra città e della nostra comunità per il resto anch'io messaggio ecumenico quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato senza entrarsi in dettaglio perché è stato effettivamente un lavoro di anni quindi un lavoro molto impegnativo per la costanza e la determinazione che è stata messa grazie grazie signor sindaco bene no 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 allora apriamo adesso la fase delle dichiarazioni di voto prego iscrivetevi pure ricordate che sono 5 minuti nessuno iscritto pertanto dichiaro chiusa ma ho detto è solo dichiaro chiusa ma non so se è una no ma voglio non capisco se è una prova di riflessi che i consiglieri vogliono è sempre una prova che vogliono che vogliono fare vabbè penso che interverranno altri dopo dunque sono più in Italia se qualcuno intende intervenire che si scriva perché io ho fatto l'intervento ieri oggi mi sono fermato perché volevo sentire cosa diceva questa amministrazione e se aveva alcuni dubbi poi me li avete proprio levati tutti sull'espressione di voto a questo documento forse la pensiamo in modo diverso noi non buttiamo in cesso nulla perché lo leggiamo lo rileggiamo tutto il documento che abbiamo sì lo so lo so che l'avete riferito a me ma lo dite leggeremo tutto però per chi è stato tanti anni in questo comune in questa amministrazione e che ha visto passare proprio la gente che la pensava come voi e ha visto lo sviluppo di Pordenone che negli anni settanta non era così era in pieno sviluppo e pensava all'economia della città perché la città è come quello che ha una villetta con un giardino e vorrebbe che attorno a sé rimanessero sempre campi e nessuno ci venga ad abitare perché ci viene ad abitare qualcuno puoi fare rumore i bambini schiamazzano cioè è meglio vivere così nella solitudine perché Assessore quando lei mi dice che vuole tenere una città di 50.000 abitanti e che ieri sera abbiamo detto che se andassimo via per la crisi economica coloro che non sono stanziali come noi ma sono migranti andassero via e rimanerebbe a 40.000 abitanti Pordenone capisce questo? cioè città del Veneto con la crisi economica hanno perso il 30% degli abitanti e guardate che quando una città perde 30.000 abitanti poi evidentemente il costo della gestione della città va nei cittadini che restano per quello qui tanti anni fa quando si pensava all'autostrada che abbiamo qui si è pieno di fare un'autostrada del genere si pensava perché lì doveva venire il sentimento industriale il piano sentimento produttivo il centro comissario ingosso mica l'abbiamo inventato in questa città perché ci piaceva inventarlo perché Pordenone doveva diventare sempre la città capoluogo la città che portava gente a Pordenone eravamo stufi di vedere i pullman che arrivavano tutte le mattine alle 5 dalla bassa friulana per lavorare a Zanussi volevamo che quella gente non perdesse 4 ore di andare a venire per andare a lavorare alla nostra grande fabbrica che aveva costruito Pordenone e se noi facessimo il discorso che fa la stessa storia oggi dovremmo dire no no devono rimanere a None Veneto venire col pullman ogni mattina a lavorare a Pordenone ma devono rimanere là invece li abbiamo portati qui li abbiamo fatti abitare qui e Pordenone rispetto a Portogruaro o altre città limitrofe può essere San Donato di Pia è stata città capoluogo e la città capoluogo cosa che voi avete tolto con le UTI adesso si chiamerà UTI del Noncello perché non si può parlare più di capoluogo di provincia fatto conquistato con grande fatica rispetto a Udine dai cittadini di Pordenone dunque abbiamo già arretrato con l'amico Panontini e la Seracchiani su queste posizioni poi penso che alla fine andiamo sotto Udine l'altra volta ma questo lo vedremo è un altro film per cui capisce io non posso quando qua c'era un cardin che oggi è la figlia che siete qua e che si era doveva costruire la città di 80.000 abitanti perché la città di 50.000 abitanti non poteva permettersi nemmeno il canal jet perché costava troppo costava 250 milioni e comunque non poteva permettersi questa macchina che usavamo per poco per pulire ciò che occorreva dunque dobbiamo diventare uno standard per poter essere autonomi perché altrimenti tutti i costi li pagano i cittadini di Pordenone perché questo è il fatto per gestire una città come questa se vogliamo rimanere 20.000 vuol dire che i 20.000 che rimangono in questa città dovranno caricarsi delle spese di tutte le strutture e sta perché siamo capologi perché abbiamo la sede al tribunale però tante cose scappano via adesso cioè noi eravamo capologi di provincia per i servizi che paghevamo noi per tutto l'Interland ma eravamo qua a Pordenone questo vuol dire ricchezza perché l'avvocato che doveva gestire veniva a Pordenone tra l'altro adesso vado ad abitare a Zanvito perché il carcere lo facciamo là e forse non vuole fare fra poco ci va via il tribunale questo è il problema grosso di capire che tipo di città vogliamo ed è per queste ragioni anche il sindaco ha valorato che la comparazione del verde va bene ma la città cresce con l'economia non cresce non diamo al mare due mesi all'anno e scegliamo la spiaggia migliore abbiamo a Pordenone perché devo far vivere noi le nostre famiglie e dare un futuro ai nostri figli capisce Assessore e allora una città di 40.000 abitanti non danno futuro nostro i nostri figli andranno a lavorare all'estero e noi andremo in Portogallo a fare i pensionati questo è quello che voi di sinistra avete in testa in questo paese ed è questo che noi non possiamo votare questa cosa che state facendo voi perché la pensiamo totalmente diversa noi vogliamo il benessere l'industria il lavoro l'economia anche il verde comparato ma non vogliamo diventare un paesino diventare una grande città perché nella grande città acquisiamo servizi sempre migliori per noi acquisiamo economie per poter vivere meglio e Forza Italia la pensa in questo modo purtroppo siamo fatti così ecco grazie grazie al consigliere De Bortoli altri che si iscrivono per la dichiarazione di voto non vedo nessuno prego consigliere Ribetti grazie 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 presidente noto che la celerità con cui l'amministrazione vuole approvare questo piano regolatore la sta passando anche al al presidente per far chiudere prima possibile perché è giusto il tempo di arrivare e di struccare il bottone come si dice beh ma sa presidente ci sono io ritengo che sia nei diritti di un consigliere comunale andare a meditare soprattutto quando soprattutto quando un'amministrazione ci mette cinque anni a presentare qualcosa e poi affrettare fare tutto di corsa consigliere Ribetti è vero di questo però è anche vero che il presidente deve far rispettare quelle che sono i tempi ma in realtà mancherebbe altro credo di aver perso credo credo che la ponderazione sia una delle virtù che dovrebbero contraddistinguere molti di noi ecco a parte questo sketch una una prima riflessione l'ho introdotta l'abbiamo già detto in sede in sede di adozione non ci è piaciuto non ci è piaciuto il metodo perché se è vero che da una parte che questa amministrazione ha cercato di sentire di coinvolgere più persone nel processo che hanno portato a dettare a fare quel quadro quella cornice dentro la quale doveva muoversi ritengo che per come poi si erano sviluppate le cose non ci fossero più i presupposti e non fosse neanche più corretto arrivare ad approvare questo piano regolatore e mi dispiace e mi dispiace evidenziare e sottolineare e ribadire che non è che l'abbiamo detto solo noi da questa parte dei banchi di minoranza ma la stessa regione che è un colore politico che non può certo essere confuso con il nostro ma è il vostro vi ha detto in maniera chiara in maniera precisa cari signori questo piano regolatore non è che proprio sia una cosa eccezionale anzi vede lei assessore io ieri purtroppo non sono dovuto sentare a un certo punto la giornata per motivi di lavoro però quando potevo mi collegavo e lo streaming funziona è interessante e ho sentito un paio di risposte ho capito delle risposte che lei ha dato e io ritengo che fondamentalmente ci siano delle questioni che questa amministrazione non ha valutato in maniera approfondita è stato sollevato da più di qualche di qualcuno dei miei colleghi questo piano regolatore deve essere rimandato indietro deve tornare a una fase precedente la regione in maniera chiara in maniera chiara ma voglio farlo velocemente per non tornare nel dibattito che è già stato fatto ve l'ha detto le linee programmatiche che avete dato sono state confutate dalla regione vi ho fatto le osservazioni molto importanti e quella ciò comporta che questo piano deve tornare un passo indietro non avete voluto farlo e questo me ne dispiace me ne dispiace perché il piano regolatore è uno degli atti più importanti di un'amministrazione e sarebbe bello che l'amministrazione lo adottasse se non proprio all'inizio almeno con qualche tempo davanti per vedere gli effetti di quello che chiede i propri cittadini cosa che questa amministrazione non ha fatto ed è una cosa veramente triste perché è triste sindaco vedere che a un mese mesetto scarso dalla chiusura dei lavori di questo consiglio ci obbligate a questo tour de force su un documento che viene bocciato ripeto dalla regione quindi io credo che non ci sia molto altro da dire dal punto di vista pratico ce l'avete fatto voi e andato al vaglio della regione che è il vostro stesso colore politico ve l'hanno bocciato ve l'hanno rimandato indietro dicendo in un passaggio in un passaggio dove vi invitano a rivedere come rappresentato l'imperiato strutturale attraverso la conseguenza della riformulazione da parte dell'organo competente delle direttive politico-programmatiche è scritto in una delle osservazioni e secondo me questo voi non l'avete fatto voi non tenete conto di questo se ci sarà qualcuno che avrà voglia di andare a impugnare questo piano avrà voglia di energia e risorse ci faremo delle risate ma ci faremo delle risate postume perché non ci sarà nessuno di questa amministrazione per sentirci ridere e gli unici che piangeranno saranno i cittadini pordenonesi e questa sindaco è l'eredità che lei lascerà ai cittadini pordenonesi concludo facendo riferimento a un intervento del collega del santo prima quando ricordava che le ho dato del soldatino sì le ho dato del soldatino perché ha seguito pedissequamente gli ordini che arrivavano dal suo capo di Trieste sulla questione ospedale senza pensare al bene dei suoi cittadini ma per far prestarsi a un gioco più grande di lei per interessi sovracittadini e regionali che è vero che vi hanno portato a vincere le elezioni ma non hanno portato l'ospedale alla città di Pordenone e alla provincia di Pordenone per queste motivazioni il voto del nostro gruppo sarà un voto contrario grazie grazie consigliere Ribetti altri che si iscrivono a parlare non vedo nessuno per cui chiudo con le dichiarazioni di voto e passo la parola al presidente grazie signori scusate un attimo di attenzione vi leggo l'articolo 78 sui doveri e condizioni giuridiche per contribuire agli amministratori il secondo come l'articolo 68 del decreto legislativo 267 del 2000 dice recita gli amministratori di cui l'articolo 77 coma 2 che è in buona sostanza di cui noi consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di deliberi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fa il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado ovviamente visto che è previsto il quarto grado ovviamente ognuno di voi deve essere consapevole se effettivamente sussiste questo prego con relazioni dirette prego consigliere perfido può essere sulla singola osservazione dica presidente ma soltanto per la singola osservazione o per tutto il piano regolatore sulla singola osservazione fino al quarto grado pertanto parliamo di cugini o cugini del conige prego ecco detto questo poi all'inizio del all'inizio dei lavori vi avevo ricordato che le votazioni salvo non vi sia una unanimità da parte del consiglio dovranno essere votate per singola osservazione nel caso in cui invece il consiglio all'unanimità dovesse ritenere di poter votare le osservazioni per gruppi si potrebbe apparare in questo modo tenete conto che nel caso in cui non vengono accorpate per gruppi ci sono 160 votazioni che quando avranno inizio non potranno poi essere interrotte mentre per gruppi 168 mentre se fossero accorpate per osservazioni che non è necessario accorpare tutti i gruppi potrebbero essere alcuni gruppi accorpati e altri singolarmente adesso vi chiedo se per esempio si potrebbero accorpare le accolte e le? le accolte le accolte le accolte parzialmente e le altre votate si potrebbero votare singolarmente le accolte che determinano gli effetti giudici che sappiamo le non accolte abbiamo visto che la votazione positiva o negativa non cambia nulla adesso dovete essere tutti d'accordo se no andiamo a votazione 168 votazioni un attimo scusate prego non capisco sono otto i gruppi o votiamo per gruppi tutti otto possiamo votare per gruppo alcuni prego era per per agevolare i lavori se volete possiamo non ricordavo la chiusura sono 32 le accolte Presidente non mi ricordavo perché in riunione capigruppo quella sera mi sembra non non mi sembrava fosse uscita la questione fino a 2230 a meno che non si fosse in fase di votazione come le altre volte quindi volevo verificare questo però lo trovo scritto quindi sì perché non si può si interrompere le votazioni sì sì era per quello infatti che dicevo di valutare allora vi chiedo di nuovo grazie mi chiedevo siccome lei siccome lei aveva letto prima quel dispositivo regolamentare di parentele fino al quarto grado se votiamo per gruppi come facciamo ma scusa ma scusa ma allora effettivamente se uno io posso avere uno se un consigliere dovesse sostenersi ma cosa dice se il gruppo è il gruppo ho capito allora io sono per la votazione una per una grazie quindi non c'è l'unanimità bene ok calma 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 voto diretto allora voto diretto allora un attimo allora state sì è deciso 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 allora no non andiamo avanti perché manca l'assessore prego consigliere dal massimo scusi un attimo noi non possiamo sospendere la votazione una volta che iniziamo a votare poi dobbiamo andare ad oltranza non sembra di capire sono esattamente le ore 20 e 10 non penso che sia possibile io sono il primo a venire in conto e dire votiamo per gruppi ma non credo che sia tecnicamente possibile votare per gruppi perché non hai proprio la possibilità di rispondere alla 267 del 2000 al facoltà l'obbligo diritto dovere di estensione bene ci ho detto ripeto sono fuori può chiedere di votare sicuramente per quel gruppo dove c'è la sua la sua sono le 20 e 30 riprendiamo domani pomeriggio domani pomeriggio domani pomeriggio perché voi ci costringete a stare qui tutta la notte per votare il piano lavoratore no 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 bene questa è la proposta che faccio veda lei no no non vedo nulla io mi attengo a quello che ha deciso dal capigruppo se poi c'è una mozione così ha deciso il capigruppo poi guardate che probabilmente chiuderemo per le 10 e mezza non andremo oltre non pensiate che perché io l'assessore l'assessore Toffoli dopo un po' che cosa c'è? visto che qua c'è scritto che si chiude la 22 e 30 a meno che non si fai in fase di votazione prendo atto che quindi votiamo va bene andiamo avanti visto che dopo all'ordine del giorno c'è un'ulteriore delibera allora la domanda che chiedo sull'ordine dei lavori è questa noi per domani per fare quella delibera siamo riconvocati o meno perché se noi visto che qua da verbale commissione capigruppo che appena avete detto che non si cambia noi alle 22 e 30 quando finiamo le votazioni ce ne andiamo se domani dobbiamo tornare perché in ogni caso dobbiamo fare la delibera ritengo molto più logico sospendere prima votare domani e fare la seconda delibera se no 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 l'avete detto voi la capigruppo non si cambia quindi non si cambia ovviamente non si cambia però i tentativi con le mozioni d'ordine ne abbiamo avuto più di uno sì voglio dire Presidente l'ha detto lei io personalmente finché la capigruppo mi dice questo va avanti così allora poi il consiglio i parchi sono chiari se si vota adesso si vota e come è scritto la capigruppo noi 22 e 30 quando finiamo la votazione ce ne andiamo se la delibera invece dobbiamo tornare per fare la delibera successiva ritengo molto più non dico intelligente se no qualcuno si offre è molto più logico venire domani votiamo poi facciamo l'ulteriore delibera andiamo a casa grazie non lo so se 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 successivamente alla votazione qualcuno presenta una mozione d'ordine e il consiglio delibera sa che io non posso andare contro il consiglio perciò io non garantisco nulla io garantisco per quanto mi compete non per quanto se non ho i poteri e allora forse no consigliere ribetti consigliere ribetti consigliere ribetti io non posso io non posso perché non ho i poteri per garantirle nulla lei lo sa benissimo che il consiglio è sovrano e io non posso impedirlo perciò le dico o lei trova o lei trova un accordo sì ma consigliere ribetti lei ha presentato ma avrà presentato una dozzina di mozioni d'ordine per cambiare quello che va decima capigruppo in questi cinque anni perciò non è una cosa che non è mai successa perciò la invito rimanga per le votazioni vediamo come va vediamo come va allora vi dico le modalità allora io allora prima si voteranno le riserve della regione giusto? no 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 calma calma chi? è su un'osservazione l'ammendamento perciò allora si voteranno prima le riserve regionali poi si voterà ogni singola osservazione consigliere De Bortoli eh consigliere De Bortoli scusi ascoltatemi se dopo ci perdiamo si votano prima le riserve regionali poi si votano le osservazioni dei privati tutte singolarmente io le chiamerò in ordine cronologico chiamerò osservazione numero uno e la chiamerò solo così e l'assessore risponderà come? di chi è accolta non accolta di chi è accolta non accolta dopodiché io dirò votate voi votate poi chiudiamo la votazione e io leggo il risultato dopodiché riprendiamo osservazione numero due questo è il meccanismo adesso adesso te lo do dopo di che una volta votate tutte le osservazioni si vota il documento finale bene allora come sono le come le 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 richiamo le riserve come dico votiamo le riserve documento eh bene signori possiamo iniziare allora come prima votazione metto in votazione l'elaborato di risposta alle riserve regionali vincolanti al piano regolatore generale comunale dichiaro aperte le votazioni sono su perché quando arrivi chiaro chiuso le votazioni leggi la votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 favorei 24 contrari 2 esternuti 8 le documento è stato approvato la risposta è stata approvata ecco adesso passiamo alle osservazioni dei privati no devo dire che è fatta proprio dall'amministrazione per questo ti ho chiuso eh relativamente all'emendamento presentato l'amministrazione lo fa proprio quindi quando arriveremo alla votazione di quella 110 mi sembra è come emendata 110 bene 110 poniamo ora in votazione le osservazioni l'osservazione a posizione numero 1 Fernandez Franziska non accolta votate dichiaro chiuso le votazioni esito votazione seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 favorei 24 contrari 7 astenuti 3 la la delibera è stata approvata la proposta amministrazione è stata approvata bene metto in votazione osservazione posizione numero 2 Brusadin Beniamino non accolta votate dichiaro chiuso votazioni esito votazione votanti 34 presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 farorei 24 contrari 7 astenuti 3 è stata approvata la delibera dell'amministrazione pongo in votazione l'osservazione a posizione numero 3 Pighin Livio in qualità di procuratore proprietario signore Feletto Teresina Pighin Fernando Pighin Anna Maria Pighin Camilla Pighin Luigi parzialmente accolta in quanto parzialmente accolto il punto 1 non accolto il punto 2 non accolto il punto 3 accolto il punto 4 non accolto il punto 5 6 parzialmente accolto il punto 6 dichiaro aperte le votazioni complessivamente risulta parzialmente accolta in quanto i sottopunti 1 risulta parzialmente accolta 2 non accolta 3 non accolta dichiaro chiuse le votazioni esito votazione seguente precede 33 votanti 31 maggioranza 16 favorevole 24 contrari nessuno astenuti 7 approvato passiamo all'osservazione a posizione numero 4 cancianna andrea accolta aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni esito votazione è seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevole 30 contrari nessuno astenuti 3 approvato osservazione a posizione numero 5 cancianna andrea non accolta in quanto non accolto il punto 1 non accolto il punto 2 aperte le votazioni chiuso le votazioni esito votazione seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favore 24 contrari 6 23 approvato osservazione osservazione a posizione numero 6 andrea beninto non accolta aperte le votazioni esito la votazione seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevole 24 contrari 6 astenuti 3 approvata osservazione a posizione numero 7 cosina antonio non accolta aperte le votazioni chiuso le votazioni esito presenti 33 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contrari 5 astenuti 3 approvata osservazione a posizione numero 8 corolla Anna Maria non accolta aperte le votazioni chiuso le votazioni esito presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevole 24 contrari 6 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 9 archetipo costruzioni SRL di architetto Berreca e sesso per via del terreno in Viano Garedo accolta aperte le votazioni chiuso le votazioni esito presenti 33 votanti 32 maggioranza 17 favorevole 30 contrari nessuno astenuti 2 approvata osservazione posizione numero 10 Santino Ruggero e Santino Elisabetta non accolta in quanto non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2 aperte le votazioni esito chiuso le votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favorele 24 contrari 5 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 11 non viene votata in quanto è stata integrata assorbita dall'osservazione 40 per richiesta del richiedente quindi passiamo alla 12 perciò non votata il richiedente aveva chiesto che ha presentato un'altra istanza con la quale ha chiesto l'annullamento della 11 si era già stata spiegata osservazione a posizione numero 12 parrocchia San Francesco d'Assisi accolta aperte votazioni chiuso votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 31 contro nessuno astenuti 1 approvata osservazione posizione numero 13 Santa Rosa Mara Franco e Clelia non accolta aperte le votazioni chiuso le votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contro 5 astenuti 3 approvata osservazione a posizione numero 14 Zuzzi Marco e Valentino per S.P.A. società di vaccinazione parzialmente accolta aperte votazioni chiuse esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contro nessuno restenuti 8 approvata osservazione osservazione a posizione numero 15 Salone Luciano non accolto in quanto non accolto il punto 1 non accolto il punto 2 aperte votazioni chiuse votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contro 5 astenuti 3 approvata osservazione a posizione numero 16 scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SR Liccordenonse in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno parzialmente accolta in quanto parzialmente accolta il punto 1 e non accolto il punto 2 aperte votazioni parzialmente accolta chiuse votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contro nessuno astenuti 8 approvata osservazione a posizione numero 17 scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SR di Cordenonse in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno parzialmente accolta in quanto non accolta il punto 1 non accolta il punto 2 accolta il punto 3 aperte votazioni chiuse le votazioni esito presenti 32 votanti 31 maggioranza 16 favore 23 contrari 4 astenuti 4 approvata osservazione a posizione numero 18 scorrano Alberto in qualità di amministratore unico della società Ingeco SRL di Cordenonse in qualità di procuratore dei signori Milani Serafina e Brusadin Bruno parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1 accolto il punto 2 non accolto il punto 3 non accolto il punto 4 non accolto il punto 5 non accolto il punto 6 non accolto il punto 7 non accolto il punto 8 non accolto il punto 9 non accolto il punto 10 non accolto il punto 11 aperte votazioni chiuse le votazioni esito presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 farò 24 contrari 5 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 19 scorrano alberto in qualità di amministratore unico della società ingeco srl di coordenonse in qualità di procuratore dei signori milani serafine brusadim bruno parzialmente accolto in quanto non accolto il punto 1 accolto il punto 2 non accolto il punto 3 aperte votazioni chiuse votazioni esito presenti 32 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 5 astenuti 2 approvata osservazione posizione numero 20 scorrano alberto in qualità di amministratore unico della società ingeco srl di coordenonse in qualità di procuratore dei signori milani serafine brusadim bruno non accolto in quanto non accolto il punto 1 non accolto il punto 2 non accolto il punto 3 non accolto il punto 4 aperte votazioni presenti 32 votanti 32 maggioranza 17 favore 24 contrari 5 astenuti 3 approvata osservazione posizione 21 immobiliare tramontina spa non accolta votazioni aperte chiuso votazioni esito votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 22 nosella danilo parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1 accolto il punto 2 votazione aperte votazioni chiuse esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 23 nosella danilo parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1 parzialmente accolto il punto 2 non accolto il punto 3 non accolto il punto 4 non accolto il punto 5 non accolto il punto 6 accolto il punto 7 aperte le votazioni chiuso le votazioni esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 24 valenti Marco e valenti Alessandro non accolta aperte votazioni chiuso le votazioni esito votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione posizione numero 25 Barbariol Giuseppe parzialmente accolta in quanto accolto il punto 1 accolto il punto 2 non accolto il punto 3 votazioni aperte votazioni chiuse esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari astenuti 7 approvata osservazione opposizione 26 brusadini ivo piccina francesco non accolta aperte votazioni chiuso le votazioni esito la votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione opposizione 27 Valenti Marco parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1 accolto il punto 2 aperte votazioni chiuso le votazioni esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari nessuno astenuti 7 approvata osservazione opposizione 28 daros Mario Etoffolo Angelina parzialmente accolta in quanto accolto il punto 1 non accolto il punto 2 aperte votazioni chiuse le votazioni esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari nessuno astenuti 7 approvata osservazione opposizione 29 Malvani Claudi in qualità di regale rappresentante della società Mattea SRL di Porcia parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1 accolto il punto 2 votazioni aperte votazioni chiuse esito la votazione presenti 31 votanti 30 maggioranza 16 favore 23 contrari 3 astenuti 4 approvata osservazione opposizione numero 30 De Bortoli Walter raccolta aperte le votazioni chiuse le votazioni esito presenti 30 votanti 29 maggioranza 15 favore 27 contrari nessuno astenuti 2 approvata osservazione opposizione 31 Mazzon Maria Assunta Emozzona Alessandra parzialmente accolta in quanto accolta il punto 1 parzialmente accolta il punto 2 non accolto il punto 3 accolto il punto 4 aperte votazioni chiuse le votazioni esito la votazione presenti 31 votanti 30 maggioranza 16 farò 24 contrari nessuno astenuti 6 approvata e gli si è bloccato ci sono problemi osservazione opposizione numero 32 Rugo Silvia Luciana parzialmente accolta aperte le votazioni votazioni si è bloccato esito la votazione chiuso le votazioni esito la votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 23 contrari nessuno astenuti 8 approvata osservazione opposizione numero 33 vendrame Gianfranco non accolta aperte le votazioni e franchina ha bloccato chiuso le votazioni esito presidi 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione opposizione numero 34 Rossetti Mario anche per conto di altre persone accolta aperte votazioni chiuso le votazioni esito presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favore 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata un attimo perché c'è un problema alla stampante un attimo cosa Ti ho scritto? La sera la dovete camminare. 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 Chiuso le votazioni. Esce la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, farò le 28, contrari, nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 40. Rigo Renzo e Rigo Renato, parzialmente accolte in quanto non accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2 e non accolto il punto 3. Aperte votazioni. Chiuso le votazioni. Esito. Esito. Chiuso le votazioni. Esito. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, farò le 24, contrari, nessuno, astenuti 7, approvata. Esito. Osservazione a posizione numero 42. Casetta Marino, in qualità di regale rappresentante della società programma costruzioni 3, SRL, non accolta in quanto non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, farò le 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 43. Romano, Clara, accolta. Aperte votazioni. Chiuse votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, farò le 29, contrari, nessuno, astenuti 2, approvata. Osservazione a posizione numero 44. Facin, Marina, Marchi Anna, Marchi Andrea, non accolto il punto 1, non accolto. Aperte votazioni. Aperte votazioni. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, farò le 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 45. Facin, Marina, Marchi Anna, Marchi Andrea, non accolta. Aperte votazioni. Aperte votazioni. Aperte votazioni. Aperte votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 30, contrari, nessuno, astenuti 1, approvata. Osservazione a posizione numero 47. Pasuto Gabriella, parzialmente accolta. Aperte votazioni. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari, nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 48. De Angelis Alberto, in qualità di regale rappresentante della Paradiso SRL, non accolta in quanto non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, non accolto il punto 4, non accolto il punto 5. Votazioni aperte. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 49. Pupin Flavio, non accolta. Aperte le votazioni. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 50. Santa Rossa Mara, Santa Rossa Franco, Moni, Detta, Bidin, Maria Clelia, non accolto in quanto non accolto il punto 2, 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 51. De Polanto, non accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 52. Gobbo, Annalisa e Gobbo, Daniela Rosa, non accolto in quanto non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 23, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 53. Del ben guido in qualità di amministratore unico legale rappresentante della ditta immobiliare Minerva SRL di Pordenone, non accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Votazioni seguenti. Presenti 30, votanti 29, maggioranza 15, favorevole 23, contrari 3, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 54. Furlan Enrichetta in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Carini Auto SRL di Pordenone, non accolto in quanto non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito alla votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 56. Da Corte di Abreu, Maria Leonete, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito alla votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 56. Salomon Domenico, Salomon Nerio Mauro, Salomon Laura, Salomon Gabriele, Ius Mauro. Non accolto in quanto non accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito alla votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 57. Osservazione a posizione numero 57. Giannelli Francesco, parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 1, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 58. Measso Gianvico, parzialmente accolta in quanto accolto il punto 1, accolto il punto 2, non accolto il punto 3, non accolto il punto 4, non accolto il punto 5. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 1, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 59. Cimolai Roberto, in qualità di legale rappresentante e presidente del CDA, società immobiliare Cimolai S.P.A. di Pordenone, parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 1, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 60. Asquini Franco, in qualità di legale rappresentante della società Real Asco S.R.L. di Udine, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito la votazione. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 62. Asquini Franco, in qualità di legale rappresentante società Real Asco S.R.L. di Udine, non accolta. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito la votazione. Esito la votazione. Esito la votazione 31, votazione 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 62. Da Pieve Antonella e Boscariolo Umberto, non accolta. Votazione aperte. Votazione chiusa. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione 63. Bergano Luigi, per sé e a nome e per conto di altri, parzialmente accolta, in quanto parzialmente accolto il punto 1 e parzialmente accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 64. Cecere Stefani, accolta. Votazione aperte. Votazione chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 28, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 65. Don Tondato Roberto, rettore seminari del Cesano di Concordia Pordenone. Non accolto in quanto non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 66. Corbucci Fabio, accolta. Aperte votazioni. Chiuso le votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 27, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 67. Battistone Antonietta, altri 13, con proprietari. Parzialmente accolta in quanto accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 23, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 68. Volpe Mario e Solimeno Paola, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 23, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 69. Vignandel Walter e Vignandel Davide. Parzialmente accolta in quanto accolto il punto 1 e parzialmente accolto il punto 2. Votazione aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 23, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 70. Bonetti Alessandro, in qualità di amministratore unico società in exo SRL di Imola. Non accolta in quanto? Non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, non accolto il punto 4, non accolto il punto 5, non accolto il punto 6 e non accolto il punto 7. Bene. Votazioni aperte. Esito della votazione. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 30, votanti 29, maggioranza 15, favorevole 23, contrari 3, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 71. Presotto Simone, in qualità di procuratore Lidl Italia SRL, parzialmente accolto in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, parzialmente accolto il punto 4, non accolto il punto 5. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 28, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 72. Vazzolero Enrico, parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Chiuse le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 73. Tolusso Paolo, in qualità di legale rappresentante della ditta Tolusso Costruzione SRL. Parisini Bruno, De Carlo Gemma, Parisini Mauro, parzialmente accolto in quanto? Non accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 74. Ongaro Roberto, in qualità di Presidente della società Pordenone Fiera SPA. Parzialmente accolto in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 23, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 75. Benben, Matilde, Bozzatello, Gabriella, Terpin, Francesco, Gandhi, Antonella, Gandhi, Michele, Simonetti, Nicolò, accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 30, contrari nessuno, astenuti 1, approvata. Osservazione a posizione numero 76. Cittadini residenti in via Leo Girolami, primo firmatario Andrea Trame. Parzialmente accolto in quanto? Accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 6, approvata. Osservazione a posizione numero 77. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 28, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 79. Micheluzio Giuseppe. Micheluzio Giuseppe. Parzialmente accolta in quanto? Accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 80. Antonioli Sannio. In qualità di legale rappresentante società Antonioli SRL, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 3, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 81. Antonioli Sannio. Antonioli Ezio, non accolta. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 82. Marcuz Mara, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione 83. Giacomelli Vittorio. Giacomelli Vittorio, Magnino Gisella, Bandanziol Paolo, Miorra Anna Lucia, Mauro Danilo, Faraoni Luca, Brusadin Monica. Parzialmente accolta, in quanto non accolto il punto 1, accolto il punto 2. Aperte le votazioni. Chiuso le votazioni. Esito. Presenti 30, votanti 29, maggioranza 15, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 5, approvata. Osservazione a posizione numero 84. Cecchin Giovanna, accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Esito. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 27, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 85. Pasini Dina Libera, Pasini Renata, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 86. Badonai, Scalzotto, Gidio. Parzialmente accolta, in quanto? Accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, accolto il punto 4, non accolto il punto 5, non accolto il punto 6, non accolto il punto 7. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 87. Lorenzette Giorgio, Lorenzette Luciana, Lorenzette Renato, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito alla votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 88. BOMBEN NALIDA, ZILLI PRETRO, ZILLI ALDO, TOMASI FRANCESCA, TOMASI MONICA, TOMASI ROBERTO, BETTOLI DERNA, non accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 89. BORTOLIN GORGIO NACCARATO MARINA, parzialmente accolta, in quanto accolto il punto 1, non accolto il punto 2, accolto il punto 3. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 90. Palazzin Simone, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 91. Colussi Mauro, per sé e per conto di Colussi Bruno, Colussi Giorgio, Lucati Iveglia, Colussi Guglielmo, Colussi Sabrina, Scodellaro, Bruna. Parzialmente accolta, in quanto parzialmente accolto il punto 1 e parzialmente accolto il punto 2. Aperte votazioni. Chiuse votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 92. Sist. Dottor Maurizio, direttore generale Policlinico San Giorgio, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 6, astenuti nessuno, approvata. Osservazione a posizione numero 93. Martini Andrea e Martini Marco. Parzialmente accolta, in quanto accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione a posizione numero 94. Perissinotti Elisabetta e Perissinotti Serena, accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 30, maggioranza 16, favorevole 27, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 95. ASD, festa in piazza Villanova. Parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 8, approvata. Osservazione a posizione numero 96. Montico Laura, Manzon Lucio, Manzon Mauro, Manzon Bruna, Favaro Amelia. Parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 23, contrari nessuno, astenuti 9, approvata. Osservazione a posizione numero 97. Votazione aperte. Farinella, Stelvio. Rovisa, Rosanna. Farinella, Alessandro. Farinella, Stefano. Non accolta. Votazione aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 24, contrari 5, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 98. Mazzega, Sbovato, Giacomo. Non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 23, contrari 5, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 99. Caroncini, Davide, Rossi, Elena, Boschian, Claudia, Boschian, Antonio, Boschian, Marina. Non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 24, contrari 5, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 100. Gai, Pietro, Santa Rossa, Paolo. Gai, Paola, Zanussi, Enrico, Delzotto, Mauro. Accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 29, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 101. Coccozza Vincenzo, in qualità di regale rappresentante della ditta Coccozza SRL di Pordenone, parzialmente accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, favorevole 24, contrari nessuno, astenuti 8, approvata. Osservazione a posizione numero 102. Mozzon, Renato, Luisa, Gabriella, Rosetta, Daniela, Andrea, Antonio, Anna Maria, Cristina, Cristian, Stefano, De Biasiolina. Parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazione aperta. Chiuse votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 103. Osservazione a posizione numero 103. Falomo, Maria, Rosa, accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 28, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione a posizione numero 104. Giuntella, Sabrina, Marini, Dario, Marzinotto, Paola, Negro, Michele, Vespo, Giuseppe, rappresentanti del Comitato Salute Pubblica Bene Comune di Pordenone. Parzialmente accolta in quanto? Non accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2, parzialmente accolto il punto 3, non accolto il punto 4. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevole 24, contrari 2, astenuti 5, approvata. Osservazione a posizione numero 105. Ance Pordenone, parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2, parzialmente accolto il punto 3, non accolto il punto 4, parzialmente accolto il punto 5, parzialmente accolto il punto 6, non accolto il punto 7, non accolto il punto 8 nei sottopunti 1, 2, 3 e 4, che risultano non accolti. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito la votazione. Presenti 31. Votanti 31. Maggioranza 16. Favorevoli 24. Contrari nessuno. Stenuti 7. Approvata. Osservazione a posizione numero 106. Non accolto il punto 11. Non accolto il punto 12. Non accolto il punto 13. Non accolto il punto 14. Parzialmente accolto il punto 15. Non accolto il punto 16. Non accolto il punto 17. Non accolto il punto 18. Accolto il punto 19. Non accolto il punto 20. Non accolto il punto 21. Parzialmente accolto il punto 22. Non accolto il punto 23. Non accolto il punto 24. Accolto il punto 25. Accolto il punto 26. Non accolto il punto 27. Non accolto il punto 28. Non accolto il punto 29A, non accolto il punto 29B, parzialmente accolto il punto 30, accolto il punto 31, non accolto il punto 32, non accolto il punto 33, accolto il punto 34, parzialmente accolto il punto 35, accolto il punto 36, parzialmente accolto il punto 37 e non accolto il punto 38. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, controlli 2, astenuti 5, approvata. Osservazione opposizione numero 107. Lorenzon Claudio, in qualità di regale rappresentante della ditta Cospedil SRL di Fiume Veneto. Non accolta in quanto? Non accolta il punto 1, non accolta il punto 2, non accolta il punto 3. Aperte le votazioni. Chiuse le votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 23, contrari 4, astenuti 4, approvata. Osservazione opposizione numero 108. Bari Luigi, rappresentante della Giglio SAS. Parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2 e non accolto il punto 3. Aperte le votazioni. Chiuse le votazioni. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 1, astenuti 5, approvata. Osservazione opposizione numero 109. Pigatto Olga, Girardi Paola, Girardi Paolo, Girardi Sante, Galante Remigio, Pavan Maria Teresa, Conficcone Gianfranco, Bertoli Alda. Non accolta, non accolta in quanto? Non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Aperte le votazioni. Chiuse le votazioni. Esito la votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Adesso l'osservazione opposizione numero 110. Chiara professoressa. Come emendata. Sì, come emendata, mia o chiara professoressa, in qualità di Presidente della Banca Popolare Friuladria, S.P.A. di Pordenone, accolta. Per come emendata. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito la votazione. Votanti. Qual è il problema? Leggo e poi a verbale mettiamo quello che lei voleva votare. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 30, contrari nessuno, astenuti 1, approvata. Il consigliere Valta De Bortoli vuol precisare a verbale? Favorevole. Voto favorevole. Osservazione opposizione 111. Ianna Paolo, non accolta. Aperte le votazioni. Chiuse le votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 112. Pigat, Olga, Girardi, Paola, Girardi, Paolo, Girardi, Sante, non accolte, in quanto non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Chiusi le votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 113. Dream House, SNC, Dianese Fabio e Cereprina Antonio. Parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione 114. Salconieri Giovanni e Pezzotto Maura, non accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione 115. Redigonda, architetto Massimo Augusto. Parzialmente accolta in quanto? Non accolto il punto 1, accolto il punto 2.1, parzialmente accolto il punto 2.2, non accolto il 2.3, non accolto il 2.4, non accolto il punto 2.5, non accolto il punto 2.6, non accolto il punto 2.7, non accolto il punto 2.8, non accolto il punto 2.9. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 116. Belletto Rina, parzialmente accolta in quanto? Accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 117. Cattai Aldo, SRL e Feletto Fides, parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione 118. Scrizi Maria Teresa, Tedeschi Mario, Tedeschi Fulvia, Pacetto Laura, Pacetto Piero, parzialmente accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 119. Rossetti Eugenio, in qualità di legale rappresentante, votazione opera Sacra Famiglia di Pordenone, parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, accolto il punto 4. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 8, approvata. Osservazione opposizione numero 120. Rossetti Eugenio, in qualità di legale rappresentante, votazione opera Sacra Famiglia di Pordenone, parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, non accolto il punto 4. Votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti esito. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 23, contrari 6, astenuti 1, approvata. Osservazione opposizione numero 121. Lobbia Mario, in qualità di legale rappresentante, ditta Electrolux Professional. Qualcuno non ha votato, sì. Qualcuno non ha votato, sì. Credo che il consigliere Conficone e il consigliere Passoni non abbia votato. Ho visto che non c'è. Vabbè. Prego, Assessore. Lobbia Mario, in qualità di legale rappresentante, ditta Electrolux Professional SPA di Pordenone, parzialmente accolta in quanto? Ha accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non ha accolto il punto 3. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 6, approvata. Osservazione opposizione numero 122. Pessotto Marco, anche per conto di Pessotto Liliana, Pessotto Cecilia, Pessotto Stefano, Pessotto Giambattista. Non accolta in quanto? Non accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 123. Pessotto Raffaello, anche per conto di Pessotto Mario e Pessotto Andreino. Parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1 e non accolto il punto 2. Votazione aperta. Votazione chiuse. Esito della votazione. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 124. Zanco Fabio, legale rappresentante della ditta Elco Elettronica SRL di Conegliano e Elco Friuli SRL di Pordenone. Viol Patrizio, Corazza Anna Maria, Corazza Fannì, Ross Clementina, Corazza Paolo, Tagliariol Marco, SNC. Non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 125. Abbate Cristiano e Pin Rossella. Non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 30, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 126. Casetta Mirella, Grizzo Cirillo, Grizzo Iole, Pillonna Sabrina, Aragogna Delfina, Cipollat Vera, Delzotto, Maria Antonietta. Parzialmente accolta, in quanto parzialmente accolta il punto 1 e accolto il punto 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito votazione. Presenti 30, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 27, contrari nessuno, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 127. Interporto 100 ingrosso di Pordenone, parzialmente accolta, in quanto accolto il punto 1, accolto il punto 2, accolto il punto 3, accolto il punto 4, accolto il punto 5, accolto il punto 6, parzialmente accolto il punto 7, non accolto il punto 8, parzialmente accolto il punto 9, parzialmente accolto il punto 10, parzialmente accolto il punto 11, accolto il punto 12, accolto il punto 13. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 23, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 128. Immobiliare Nettuno SRL, in persona del legale rappresentante Andrea Frisanna, anche per conto di Zanussi Antonia, Zanussi Antonella, Clelia Marzola e Giulia Tamai, parzialmente accolto, in quanto non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, parzialmente accolto il punto 4, accolto il punto 5. Votazioni aperte. Chiuse votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 129. Ingegnar Loretta del Colle, responsabile del nuovo ospedale. Parzialmente accolta, in quanto non accolto il punto 1, accolto il punto 2. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 130. De Marchi, Mauro, Facchin, Mara, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 131. Zanetti, Anna Maria, Gai, Giuseppe, accolta. Votazioni aperte. Chiusa votazione. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 29, contrari 4, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 132. Moretto Giuseppe, legale rappresentante di Tamoretto Giuseppe SRL. Parzialmente accolta in quanto? Non accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2, non accolto il punto 3. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 133. Mozzon, Fabrizio, Chimento, Roberto, non accolta. Aperte votazioni. Chiuse votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 134. Fabbro, geometra massimo in qualità di incaricato e figlio di Pivetta Ada, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 135. Pavan Agostino e per Son Paolo, per sé e per Procura di Bardesin Rita, Pavan Agostino, Alessandra, Bruna, Franca, Laura, Renza, nonché per Pavan Francesco e Giuseppina, non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 136. Bortolin Milena, accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 28, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 137. De Paul Anto, non accolta. Votazioni aperte. Scusate, scusate. Mi sono io distratta. De Paul Anto, non accolta in quanto? Non accolto il punto 1, non accolto il punto 2. Bene. Votazioni aperte. Chiuso le votazioni. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 138. Babuin Eleonora, parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 139. Ponticello Nicola, per conto Società Serenissima Trading SPA di Verona. Non accolta in quanto? Non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3. Votazioni aperte. Votazioni chiuse. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 140. Ponticello Nicola, per conto della proprietà costruttiva il centro direzionale di Pordenone. Non accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 22, contrari 4, astenuti 5, approvata. Osservazione opposizione numero 141. Santa Rossa, Eliane e Santa Rossa, Anna Maria. Accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione 142. Falcomera Andrea, in qualità di rappresentante della società sportiva ASD Rugby Pordenone. Accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 30, contrari nessuno, astenuti 1, approvata. Osservazione opposizione 143. Del Piero Stefano, parzialmente accolta in quanto ha accolto il punto 1, non ha accolto il punto 2. Votazione aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 1, astenuti 6, approvata. Osservazione opposizione numero 144. De Roia Luigi, non accolta. Votazione aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 4, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 145. Pignatta Attilio, legale rappresentante società Vigne, Fantin, Nadar, SRL, di Pordenone, non accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 5, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 146. Pignatta Attilio, legale rappresentante società Vigne, Fantin, Nadar, SRL, di Pordenone. Parzialmente accolta in quanto? Parzialmente accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, parzialmente accolto il punto 4, non accolto il punto 5. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 148. Pignatta Attilio, legale rappresentante società Vigne, Fantin, Nadar, SRL, di Pordenone. Accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Votazione chiusa. Esito. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione numero 149. Carlette Maria Antonietta e Carlette Sergio. Accolta. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 2, approvata. Osservazione opposizione 150. Copat Costruzioni SRL in persona di Copat Marino, parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1, parzialmente accolto il punto 2. Votazione aperta. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 151. Mozzon Paolo e Mozzon Giovanni, parzialmente accolta in quanto non accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, non accolto il punto 4, non accolto il punto 5, non accolto il punto 6, non accolto il punto 7, parzialmente accolto il punto 8. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari 3, astenuti 3, approvata. Osservazione opposizione numero 152. Mozzon Giovanni e Mozzon Paolo, parzialmente accolta. Aperte votazioni. Chiuso le votazioni. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 6, approvata. Osservazione opposizione numero 153. Bresin Pia, Bresin Dino, Zanier Sergio, parzialmente accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Osservazione opposizione numero 154. Toffolo Silvano, legale rappresentante Clara SAS, parzialmente accolta, in quanto? Accolto il punto 1, non accolto il punto 2, non accolto il punto 3, accolto il punto 4, non accolto il punto 5. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 24, contrari nessuno, astenuti 7, approvata. Toffolo Silvano, legale rappresentante Clara SAS. Osservazione opposizione numero 155. Fresco geometra Eginio, accolta. Votazioni aperte. Votazione chiusa. Esito della votazione. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 16, favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti 2, approvata. Non posso interrompere le votazioni. Ma dovete fare... Scusate, scusate. Una volta che si è votato, io non posso interrompere. Devo leggere e poi vi do la parola. Che è successo? Toffolo Silvano. grazie presidente allora sulla 154 noi abbiamo Toffolo Silvano punto mentre l'assessore ha e possono essere due cose diverse ho capito Bianchini no no ma no un attimo non ho capito ma qual è il problema un attimo ma l'ha letto il legale rappresentante? ha detto anche il nome come legale rappresentante? no? quando abbiamo chiesto allora soltanto per verificare soltanto per verificare sì ma vabbè farete c'è problema? comunque guardi presidente 154 e nell'indice c'è ho capito ma io guardavo qua io guardavo qua allora giusto per evitare che magari ci possano essere fraintendimenti e che si tratti della stessa persona e che si tratti della stessa persona e della stessa richiesta tutto regolato la precisazione la precisazione va bene adesso mi sono un attimo perso cosa abbiamo votato? 155 siamo alla 155 no l'abbiamo votata la 155 allora osservazione opposizione numero 156 Vignandel Valtere Vignandel Davide è una osservazione presentata due volte l'abbiamo già votata con la numero 69 quindi non si vota osservazione opposizione numero 157 Pisu Alessandro non accolta in quanto non accolto il punto 1 non accolto il punto 2 non accolto il punto 3 non accolto il punto 4 non accolto il punto 5 non accolto il punto 6 votazioni aperte votazioni chiuse esito della votazione presenti 30 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 23 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione opposizione numero 158 Fabbro Massimo non accolta non accolta in quanto non accolto il punto 1 non accolto il punto 2 non accolto il punto 3 bene votazioni aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione opposizione numero 159 Zoffre Antonio dirigente del settore 4 del comune di Pordenone accolta aperte le votazioni chiuse le votazioni esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata 160 osservazione opposizione numero 160 Boranga Paola in qualità di presidente della fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon proprietaria degli immobili censiti al foglio 33 ma pale 69 325 328 435 530 e 68 non accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 23 contrari 6 astenuti 1 approvata osservazione opposizione numero 161 Zuccolo Anna e Luca Miotto Giuseppina proprietari dell'immobile censito al foglio 11 ma pale 1041 non accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 3 approvata osservazione opposizione numero 162 Vazzo Lergen Franco proprietario dell'immobile censito al foglio 14 ma pale 269 accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata osservazione opposizione numero 162 laurita roberto in qualità di parroco protempore della parrocchia di San Giorgio martire ente proprietario degli immobili censiti al foglio 20 barrama pali 135 137 138 parzialmente accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 26 contrari nessuno astenuti 5 approvata osservazione opposizione numero 164 canciana andrea canciana andrea incaricato dal signor damiano brisotto proprietario degli immobili censiti al foglio 40 mappale di 181 183 185 450 e 451 accolta scusate accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 30 contrari nessuno astenuti 1 approvata osservazione posizione numero 165 Taboro Danilo per sé per conto di Taboro Giannino quali proprietari dell'immobile censito al foglio 18 mappale 175 accolta votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata osservazione opposizione numero 166 Dattoli Francesco in qualità di legale rappresentante dell'ABSG Caldaia a gas SPA che utilizza gli immobili censito al foglio 29 mappali 744 745 746 747 748 accolta votazione aperte votazione votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata osservazione posizione numero 167 Stival Paola quale legale rappresentante della ditta Stival Ottorino proprietario degli immobili censiti al foglio 35 mappali 66 144 476 477 478 parzialmente accolta in quanto parzialmente accolto il punto 1 e parzialmente accolto il punto 2 votazione aperte votazione chiusa esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari nessuno astenuti 7 approvata osservazione posizione numero 168 Carrara Armando e Milano Rosa con proprietari degli immobili censiti al foglio 19 mappali 296 502 accolta votazione aperte votazione chiuse esito della votazione presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 29 contrari nessuno astenuti 2 approvata adesso mettiamo ai voti il documento finale bene signori adesso dobbiamo fare la votazione finale allora pongo ora ai voti l'approvazione del nuovo piano regolatore generale comunale PRGC ai sensi dell'articolo 63 bis comma 15 della legge regionale 23 febbraio 2007 e successive modifiche integrazioni esame e accoglimento delle riserve regionali contro deduzioni alle osservazioni e opposizioni pervenute bene dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuse le votazioni l'esito della votazione è il seguente presenti 31 votanti 31 maggioranza 16 favorevoli 24 contrari 6 astenuti 1 il nuovo piano regolatore è stato approvato applausi 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 ora abbiamo abbiamo regolamento da esaminare e da deliberare regolamento che è stato già presentato dall'ingegner Giuliani dall'architetto Giuliani e dall'avvocato Stecanella scusate anzi dall'avvocato Stecanella è vero avvocato Stecanella sì pertanto non so se l'assessore Toffolo vuol dire qualcosa prego assessore specifico solo che durante la presentazione delle riserve regionali l'avvocato Stecanella ha presentato i contenuti del regolamento per la gestione dei crediti edilizi e quindi ne propongo l'approvazione della delibera grazie grazie assessore c'è qualche richiesta di chiarimenti no pertanto dichiaro aperta la discussione invito i consiglieri ad iscriversi dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo nessun iscritto dichiaro chiuso anche al secondo intervento passiamo alle dichiarazioni di voto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto pertanto passiamo alle procedure diamo via le procedure di votazione dichiarazione di voto prego voglio semplicemente ricordare la perplessità e anche quanto ci è stato confermato durante la presentazione delle riserve regionali in merito proprio ai crediti volumetrici e quindi al mercato di crediti volumetrici che non c'è certezza sulla passazione e questo ci è stato confermato anche dal segretario generale bene dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e comunico di dare via le procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 8 2016 approvazione del regolamento per l'attribuzione e gestione dei diritti volumetrici dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 28 votanti 28 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 3 astenuti 1 la proposta numero 8 è stata approvata non c'è l'immediata eseguibilità bene signore abbiamo eseguito gli argomenti all'ordine del giorno ringrazio la segreteria tantissimo perché non è stato facile seguire questa cavalcata un applauso al presidente e grazie a tutti a tutti che hanno collaborato gli chiero chiusi i lavori sono le 21 e 48 il consiglio verari convocato a domicilio grazie e buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti tantissimi auguri grazie 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 grazie